Buongiorno, grazie molte di essere qui, avete capito che abbiamo avuto un piccolo momento di imbarazzo ma per un aspetto molto positivo, cioè l'affluenza molto alta in questa sala che è una sala proporzionata a quello che è il futuro del centro studi, quindi di un luogo di studio e di ricerca che però assolutamente oggi volevamo inaugurare nella prossimità dell'apertura della pinacoteca che è venuta ieri perché riteniamo che sia assolutamente un cuore pulsante all'interno della pinacoteca, auspichiamo e crediamo che sarà un motore di eventi, di incontri, di approfondimenti, di idee e quindi era importante che questo incontro oggi si tenesse qui. In apertura di questo momento per me è particolarmente emozionante, quindi prendo qualche respiro per tranquillizzare, passo la parola al nostro sindaco Vicente Edoardo Accorsi che è qui per un saluto, anche per l'amministrazione sono state giornate molto intense e questa intensità è il segno che questa pinacoteca non è solamente un museo ma è qualcosa che per questa comunità risarcisce da un periodo difficile, da una mancanza che si è avvertita sul piano intellettuale, sul piano sentimentale, sul piano materiale e quindi è veramente un momento di grande gioia per noi di grandissima condivisione. Grazie per essere qui e per avere appunto voluto condividerlo. Buongiorno a tutti, intanto io mi scuso per la voce ma sto pagando la mattinata di ieri, poi spadina come diceva l'onda con la giacca senza sciarpa. insomma scherzi a parte, grazie della vostra presenza, grazie alla Presidente Tassinari e per noi oggi, cioè ieri e oggi è un weekend molto importante, ecco insomma diciamola così, Valeria ha rappresentato al meglio il motivo e l'importanza di questo weekend e io mi voglio velocemente soffermare solo su un elemento che è l'importanza di questo centro studi all'interno di questa Pinacoteca che abbiamo fortemente voluto sia la Pinacoteca sia questo centro studi qui all'interno, un centro studi che finalmente insieme al Guercino ha una propria casa, un proprio luogo dove produrre ricerca, dove produrre confronto, dove produrre ragionamenti e dove produrre quindi futuro su Guercino oltre che approfondimenti perché è il vero, credo che la vera sfida di questa Pinacoteca, ce lo siamo già detti, quindi non voglio essere ripetitivo, sia quella di sicuramente coltivare, custodire l'identità del Guercino, l'identità dei sentesi, ma anche di saperla rinnovare, di saperla proiettare qualcosa di nuovo, qualcosa che ci possa permettere di far sì che questa Pinacoteca sia un museo vivo non solo per la nostra città, ossia per la regione Emilia Romagna, per l'Italia e ovviamente anche per il mondo voglio ringraziare a nome dell'amministrazione comunale la generosità di tutti gli speaker, come si può dire che oggi interverranno in questa bellissima e densa giornata che dura fino al pomeriggio di incontri voglio ovviamente ringraziare la Presidente Tassinari del centro studi e tutti i dottor Lorenzini insomma che portano avanti questa attività che è molto importante, nella quale insomma crediamo crediamo fortemente. Del resto due parole su ieri, voglio ringraziare tutti coloro che erano presenti è stata una giornata veramente bella, credo che la nostra città se la meritasse, se la meriti e ora per noi inizia un nuovo capitolo, un nuovo capitolo per continuare a far sì che questa città torni in possesso dei propri luoghi dell'arte e della cultura ieri sera Frank e i Energy, che abbiamo fatto un concerto qui davanti, ha chiuso il concerto dicendo bene oggi sono venuto a suonare davanti alla nuova pinacoteca, spero di poter tornare a suonare dentro il vostro teatro quindi insomma adesso questo impegno ce lo siamo già presi, lo vediamo ancora un po' distante però siamo al lavoro per far sì davvero che questa città e che la giornata di ieri non sia stato solo un punto d'arrivo ma davvero un primo passo ecco di rinascita, non solo per il Guercino, non solo per la nostra pinacoteca ma per tutta la nostra città. Grazie Io mi iscrivo Passo ora la parola all'assessore alla cultura Sadia Vidoli che ieri ha appunto aperto le celebrazioni di apertura della pinacoteca con un bellissimo discorso nel quale emergeva proprio questa ricerca anche di sinergie e di rilancio per questo edificio che abbiamo visto per un lungo tempo come una sorta di nave incagliata e che adesso appunto abbiamo di nuovo varato quindi siamo insieme in questo viaggio e in questa navigazione non che la mia voce sia meglio di quella del sindaco, te lo scuso veramente a parte ovviamente l'emozione di essere qui perché inauguriamo davvero ufficialmente questo centro studi che ha un respiro internazionale e qui nuovamente ci tengo a ringraziare tutti gli ospiti e chi interverrà oggi perché sono persone che hanno anche percorso tanti chilometri per essere qui oggi con noi ma questo ci dà proprio il senso dell'importanza di questo centro studi che ha veramente un respiro mondiale e ci dà anche il senso dell'importanza della figura del Guercino sulla quale c'è ancora tantissimo spazio e tantissimo spazio di studio e di ricerca una giornata come quella di oggi proprio lo dimostra ci terrei anche a ringraziare lo vedo qui presente Salvatore Amedio il precedente ecco presidente del centro studi internazionale del Guercino che ha fondato ecco a suo tempo nel 2017 questo importantissimo organo all'interno del comune e ci tengo anche a ringraziare i membri del direttivo che sono appunto attualmente Valeria Tassinari il dottor Mauro Zuntini e Lorenzo Lorenzini e poi in particolare tutti i membri, i professori, gli studiosi che fanno parte di questo meraviglioso centro studi oggi ripeto diamo il via veramente a questa giornata di ricerca e ne seguiranno altri io lo auspico veramente perché ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di crescere abbiamo bisogno di crescere come cittadini e di riappropriarci proprio di questo luogo ieri lo dicevo ci è mancato per tanto tempo proprio questo spazio questo spazio di condivisione e già da ieri ci sentiamo veramente come se fosse tornato un pezzo di noi ecco nel nostro cuore, nel nostro spirito però è un compito importante ecco adesso comincio un'altra parte ieri si è chiuso in effetto un capitolo un capitolo difficilissimo, durissimo perché per poter aprire questa financoteca veramente il lavoro è stato immenso sono state coinvolte tantissime diverse realtà pubbliche e private il lavoro è durato anni quindi davvero ieri è stato un piacere e un onore chiudere questo capitolo ma adesso ne comincia un altro altrettanto importante che è quello della promozione questo luogo va fatto vivere va accresciuto, va nutrito prima di tutto da noi da noi cittadini e da noi che lo rendiamo proprio un luogo vivo e vissuto e questo ripeto una giornata come quella di oggi è veramente fondamentale quindi di nuovo grazie grazie per aver accalcato questa sala così piena ricordo che comunque c'è anche la possibilità di vedere questa giornata di studi anche in streaming quindi insomma ecco e conserveremo ovviamente anche tutto il materiale perché anche questo fa parte appunto della ricerca e della condivisione vedete anche la biblioteca all'interno è in parte popolata si arricchirà sempre di più perché questo deve proprio diventare un centro di ricerca a disposizione di tutti quindi davvero non rubo altro tempo vi ringrazio e lascio la parola di nuovo a Valeria per... oh sono me ok allora lascio direttamente la parola a Lorenzo Lorenzini che anche lui forse con la voce ha messo più o meno come me grazie a tutti buongiorno a tutti ovviamente mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti mi associo alla grande gioia di vedere questa sala pienissima non ci saremmo aspettati un'affluenza così importante né ieri perlomeno io né ieri e tanto meno oggi una giornata di studi così specifica di domenica quindi questo vuol dire che l'argomento è un argomento molto sentito un argomento che si auspica possa avere molti ulteriori sviluppi quindi Guercino e la sua scuola sono diciamo tra... sono studiatissimi ma credo ci sia ancora molto da ricercare ci sia ancora moltissimo da aggiustare soprattutto sulla scuola che è in corso di studi al di là della giornata di oggi un primo risultato è il catalogo della Pinaco Celca che ha visto la collaborazione e l'intervento di una quarantina di studiosi molti di questi studiosi sono molto giovani sono all'inizio della loro carriera e hanno fatto un lavoro eccelso di ricerca su diciamo anche le opere minori le opere che erano state studiate fino a questo momento abbastanza marginalmente la bottega di Guercino è una bottega sterminata nella sua produzione ed è una bottega che, come dice la parola, stessa molto spesso si identifica non in un nome specifico ma in un lavoro di equip e anche l'allestimento della Pinacoteca il nuovo allestimento della Pinacoteca vede esposte molte opere alcune non di grandissima qualità ma in questo modo abbiamo la possibilità di poterle vedere dal Google e di poterle confrontare con i modelli da cui derivano il nuovo allestimento è un allestimento che è stato possibile per un motivo molto semplice questo edificio costruito nel 1794 non nasce come un contenitore museale era il Monte di Pietà quindi un edificio che aveva una funzione pratica specifica e come tale non aveva necessità di nessun tipo di decorazione né architettonica e tanto meno dipinta o scolpita quindi questi grandi vani, alcuni grandi, alcuni meno grandi erano in pratica come delle scatole vuote che hanno consentito a una progettazione diciamo moderna quindi rispettando la struttura settecentesca nelle sue linee essenziali che è ancora perfettamente leggibile è stato però possibile intervenire con degli elementi che danno a questo museo un aspetto diverso da quello che aveva prima e soprattutto un aspetto molto contemporaneo alcuni artisti contemporanei appunto viventi, giovani hanno sottolineato questo aspetto che la contemporaneità dell'allestimento e delle scelte allestitive sicuramente è un valore che si aggiunge alla straordinaria raccolta di dipinti che abbiamo non sottolineo di nuovo che qui c'è una grossissima concentrazione di dipinti di Guercino e che si possono vedere riuniti in un unico grande abbraccio che è quello del primo piano della Pinacoteca dove sono stati selezionati i dipinti più importanti oltre all'aggiunta di alcune opere che sono state date in deposito sono state donate alla Pinacoteca anche questi depositi e questi nuovi arrivi sottolineano quanto è stato detto fino a questo momento che la Pinacoteca è la Pinacoteca della città e che quindi le istituzioni private e i cittadini hanno partecipato e hanno dato il loro apporto a porti grandi, a porti piccoli a seconda delle possibilità e comunque tutti hanno partecipato senza nessun tipo di gerarchia e di importanza chiunque abbia partecipato nel poco e nel molto in questa impresa complessa che è durata tantissimo che ha un significato speciale per la riuscita di questo progetto al piano terra trovate invece un percorso specifico sulla città un percorso che avrebbe anche un titolo e che si ritrova nella sezione del catalogo che è prima e dopo Guercino ovviamente la città di Cento che all'epoca di Guercino era la terra di Cento è stata elevata a città a livello amministrativo nel 1754 dal Cardinal Lambertini che fosse già Papa Benedetto XIV e questo ha avuto un significato importantissimo un riconoscimento molto importante per la nostra città e in questo momento c'è anche un grande fermento edilizio che ha portato alla ristrutturazione e alla edificazione di moltissimi edifici sia nobiliare sia sacri e questo lo si legge molto bene all'interno del percorso del piano terra della Pinacoteca ci sono molte opere che denotano la cultura in bilico tra Bologna e Ferrara e gli stati estensi più che Ferrara che imperava a Cento e che forse impera ancora per certi sensi e certi versi e quindi troviamo opere ferraresi anche e soprattutto le opere più antiche sono di ambito ferravese e poi troviamo i grandi bolognesi della fine del Cinquecento e dell'inizio del Seicento e poi troviamo questo straordinario porto seplicentesco che è Ubaldo Gandolfi Ubaldo Gandolfi che rappresenta appunto per la città di Cento rappresenta sicuramente un momento importante anche perché la presenza di questo fittore segna il rinnovamento di edifici antichissimi di edifici medievali che in quel momento subiscono delle trasformazioni anche in questo caso troviamo opere di grande interesse storico-artistico altre un po' meno ma hanno un interesse comunque storico all'interno del percorso cittadino e poi alla fine di tutta questa giornata faremo un giro dove daremo atto di questo percorso dove spero che possiate apprezzare in pieno il grande lavoro che è stato fatto fino a questo momento naturalmente grazie mio e di tutto lo staff della cultura e anche dei lavori pubblici ovviamente dell'amministrazione va a tutti anche a quelli che ci hanno preceduto e che hanno avuto un ruolo importantissimo mi riferisco anch'io di nuovo a Salvatore Amedio e a Fausto Gozzi in particolare che sono stati oltre che ad essere stati presenti in tutto questo percorso di questi ultimi anni hanno anche sicuramente gettato le basi dell'attuale assetto della Pinacoteca buonissimo io vi ho rimasto vorrei ricordare anche per l'appoggio e per la collaborazione qualcuno che è lontano ma che è sempre stato molto vicino e che in qualche modo lo è ancora la Sarbanesmao Foundation qui rappresentata dal esperto che ho accanto a me che è una persona che gode grande notorietà nel suo paese, l'Inghilterra a livello internazionale ed è molto amato anche in Italia dove è stato addirittura eletto tra più simpatici e più amati storici dell'arte dall'indagine svolta da un famoso giocatore quindi abbiamo veramente una grande fortuna e vorrei ringraziare anche naturalmente Euretta Venoci Adam e Susan Marriott che sono traschi della Sarbanesmao Foundation che ci hanno indicato appunto il professore Exurgeon come loro rappresentante e come membro ormai da tempo del nostro comitato scientifico Il professore Exurgeon è qui con noi e rappresenta in qualche modo in pectore qualche cosa che a cento accadeva spesso negli anni passati cioè l'8 novembre c'era la consuetudine di festeggiare qui il compleanno di Sarbanes dopo la sua scomparsa è stato comunque ricordato questo personaggio che era anche cittadino onorario di questa città e che quindi a tutti gli effetti faceva parte della nostra comunità quest'anno festeggiamo il compleanno un po' in ritardo ma lo festeggiamo comunque insieme oggi e ricordiamo appunto la sua figura che in qualche misura è presente in questa sala anche materialmente perché i pochi libri che adesso vedete non sono tutti libri che sono in nostro possesso arriveranno i libri del nostro archivio e fonderemo una biblioteca specializzata per la quale abbiamo già avviato le procedure ma i libri che vedete sono libri appartenuti a Sir Dennis Maoni perché abbiamo ricevuto la prima donazione dalla National Gallery of Ireland che ha proprio inviato a noi anche come buon auspicio e come segno del suo appoggio libri che sono appartenuti al grande studioso quindi era assolutamente necessario che fossero qui intorno a noi per darci appunto il segnale di questa presenza che avvertiamo come se fosse un po' un nome tutelare vedete diceva che il nome di Guercino era sulla bocca di tutti i centesi come se fosse appunto il loro nome protettore diciamo che adesso ne abbiamo anche un altro a David Scurgeon passo la parola tra un attimo prima però vi ricordo che è professore di storia dell'arte e filmografia all'Università di Leicester è un'autorità di fallo mondiale in materia di dipinti e disegni del rinascimento italiano con particolare riferimento alla cultura emiliana a Correggio e Parmigia Vino ai quali ha dedicato il fortunato in monografie e una mostra alle scuderie del Quirinale grande esperto e raffinato conoscitore di storia del collezionismo è consulente di case d'astra di assoluto prestigio con l'istotio di Ecristis nonché di musei e gallerie internazionali come la National Gallery e la Quick Britain rappresenta la Sardine Small Foundation e la Sardine Small Foundation e la Sardine Small Foundation bene il mio titolo è identico a quello di un ottimo saggio scritto dal mio ex collega da Cristis Frances Russell nel catalogo della mostra Guercino in Britain alla National Gallery nell'ormai lontano 1991 più generalmente i rapporti tra Guercino e Ligitara sono stati studiati in un modo astrofondistico tant'ecente soprattutto grazie alle ricerche e pubblicazioni di Sardine Small sulle quali mi soffermerò in chiudura del mio intervento non proverò come si dice in inglese a reinventare la ruota ma spero comunque che il mio breve tour d'horizon possa contribuire agli studi guercineschi con alcuni piccolissimi passi in avanti Carlo Cesare Malvasia nella Felsina Pietrice racconta che Carlo I, non terzo di Ligitara ha provato ad attirare il pittore di centro alla sua corte non posso registra citare tutto il passo fece al signor Daniele Ricci una semiramide che fu esposta in Bologna a meraviglia dell'arte e questo poi andò in Inghilterra a quel re fu da questo re fatto invitare alla sua corte con pappetti vantaggiosissimi gli pagagli l'offre a quel prezzo e li avesse bramato gli dagli le spese occorrenti ed una certa provvisione anche non vuole accettare l'occasione non volendo conversare con eretici per non contaminare la bontà dei suoi algemici costumi ed anche per non esporsi a viaggio così disastroso in clima così lontano dai suoi infatti il dipinto che data al 1624 e si ritrova adesso nel Museum of Fine Arts di Boston fu nato nel 1660 a Carlo II e non primo che l'avrà regalato a sua maîtresse Barbara Williams duchessa di Cleveland e rimase nella collezione familiare fino a che il suo discendente duca di Grafton non lo vendette quindi attraverso l'Atlantico comunque sia ciò che mi fa sorridere la visione del povero Gorgeno per un pelo scampò al trovarsi circondato da eretici e costretto a mangiare roast beef e york pudding sotto la pioggia inglese negli inventari dello sfortunato Carlo I prima venivano registrati due quadri di Gwarcello un paesaglio e un profeta Elia ma i valori di 5 e 2 sterline assegnati a loro dopo la decolazione del re non lasciano dubbi che fossero opere di poca importanza e non sappiamo dove siano finite a parte la semiramide Carlo II non aveva di tinto Gwarcello ma dal 1674 per alcuni anni godette dalla presenza del suo nipote Benedetto Gennaro ugualmente pittores e di minor pregio alla sua corte per il resto fu solo nel secolo successivo che sono arrivati quasi notevoli dalla mano di Gwarcello acquisiti anche da collezionisti del primo raggio il primo fu il Cristo nell'orto ora nel National Museum of Wales di Carter che pare essere rimasto con l'artista fino alla sua morte non si capisce il perché è esplicitamente finito e il fatto che la sua altezza ancora bassa due metri sembra confermare che fosse destinato ad essere una palla d'altare da casa Gennari a cento è passato nella prima metà del settecento alla collezione dell'Earl Burlington a Chisicars sulla sinistra che lo lasciò in eredità ai duchi di Devonshire a Chatsworthers sulla destra la scelta iconografica di rappresentare Cristo che sta sudando sangue in conformità con il ventiduesimo capitolo del Vangelo secondo San Luca anche se non è unica è una rarità affascinante infatti il protagonista della primavera palla d'altare a raggiungere i nostri vidi fu ugualmente San Luca Corsino ci offre una visione dell'Evangelista che ha ancora in mano la sua tavolozza e le sue penille e presenta una Madonna col bambino che ha appena terminato di dipingere allo spettatore l'opera dipinta per aggiornare l'altare maggiore dalla piede di San Francesco a Reggio Emilia viene registrata per la prima volta in Inghiterra nel 1750 in un elenco della collezione Spence per poi essere venduto a Nels Narkins Museum of Art di Kansas City negli anni 80 del secolo soccorso dal padre della principessa Diana che vedete la casa oggi nella seconda metà del settecento vari dipinti di grande merito sono arrivati nel nostro regno almeno uno appartenente al titore Sir Joshua Rand già nel secolo già nel secento disegni di Guarcino si trovavano nella collezione illustre di un altro artista sapete Lele e dopo nelle collezioni di molti dei suoi seguaci ci possiamo possiedere un dipinto che era tutt'altra cosa con la rivoluzione francese seguita dall'incursione di Napoleone e del suo seguito in Italia il numero di dipinti di Guarcino che sono arrivati in Inghiterra aumentò enormemente ma non è possibile giudicare se a quell'epoca i loro collezionisti ricordassero di inquadrare queste opere nell'evoluzione artistica del titore per noi è più che evidente che lo stile di Guarcino si trasforma radicalmente attraverso la sua carriera ma può darsi che per loro l'essenziale fosse di avere un Guarcino e solo nelle pubblicazioni del geniale Gustav Friedrich Wagen e tutto cambia nei suoi Treasures of Art in Great Britain nel 1854 la reazione di Wagen alle varie opere di Guarcino è il contrario di Uniforme per darne due esempi l'oda il suo Sansone che porta il farro di miele ai genitori già a Thurston House che vedete è ora nel Chrysler Museum of Art in Norfolk in Virginia che descrive come very powerful molto forte ma trova il Tancredi di Arminia a Castle Howard oggi nella National Gallery of Scotland in Edinburgh è un borgo destitute of feeling mancante in espressione più generalmente la sua preferenza è evidente per Guarcino giovane passando ai disegni di Guarcino purtroppo non ne è vista ancora un catalogo completo ciò significa che non siamo in grado di stabilire precisamente quanti ne sono rimasti ma sono convinto che in Italia ne vanta non solo un numero imparreggiabile ma anche tantissime di ottima qualità il più grande fondo si ritrova nella collezione reale con un totale di 836 fogli 350 sono autografi e vengono corredati da quasi 500 opere eseguite dalla sua cerchia e dai suoi seguenti furono acquisiti verso 1758-63 circa da Richard Dalton per il re Giorgio III e provengono dalla discendenza della pista in Casagenari dove il suo lascio rimase intatto per quasi un set l'altra grande raccolta ex Casagenari ma non necessariamente acquisita tutta in uno stesso momento apparteneva originariamente a un certo John Bouveret passando dopo la sua morte prematura il suo cugino l'onorevole Edward Bouveret poi a suo riporte Mr. Harry e finalmente ai conti di Gensper la prima dispersione di disegni dalla collezione di Gensper a Christie nel 1859 contava 116 fogli di guarcello ma furono seguiti da un totale di almeno 300 altri sempre da Christie nel 1922 Fortunatamente almeno da un punto di vista patriottico molti sono rimasti nel Regno Unito dove sono concentrati in due istituzioni nel British Museum che vanta più di 100 fogli e alla Schmullian Museum di Oxford combina i disegni X-Man con altri già acquisiti perlopiù da Sakao Punk inoltre ci sono bellissimi esempi isolati in collezioni celebri come il Hotel Gallery alla sinistra qui e meno note come il Müller-Lied-Folkst sulla destra qui a gente può sembrare quasi una eresia osare suggerire che perfino per un pubblico incolto sia necessario altunché per imparare ad amare le opere di guarcello ma sono convinto che e a mio avviso è quasi sempre così nel contesto del barocco e del rinascimento italiano l'approccio più saggio è di cominciare con i disegni per poi passare ai dipinti non è facile registrare la combinazione magica di spontaneità e raffinatezza dei migliori disegni del nostro e non importa se siano in pena o in sanguigna se siano studi di figura o paesaggi nel caso dei paesaggi esiste tutta una serie di opere indipendenti palesemente non preparatorie per dipinti che sanno combinare l'osservazione del vero con una capacità istitiva tradurre il mondo che circonda la festa nella sua lingua personalissima l'altra grande sorpresa dalla prospettiva dei suoi dipinti sono i disegni che celebrano l'umanità dei meno fortunati del mondo sempre immortalati senza sentimentalità e spesso con un umorismo irresistibile a parte le opere di Guercino in Inghilterra c'erano anche tanti inglesi che intontravano il suo genio in Italia quando nel 1816 Lord Byrne visitava Milano è andata a Brera e scrivendo al suo editore John Murray osservava che non so nulla della pittura ma mi piace il dipinto di Guercino di Abramo ripudiando Agar e Ismaele che mi pare naturale e bello fino alla metà dell'Ottocento fino alla metà dell'Ottocento circa Guercino rimaneva un artista molto stimato nella sua poesia in un libro The Guardian Angel a picture of Fano l'angelo custode un quadro a Fano scritta nel luglio del 1848 Robert Bryding ne dà un'elogio eloquente e commovente sognando che l'angelo potrebbe scendere dal dipinto per confortarlo e vedete sulla destra Browning con la moglie la poesia famosa nel mondo della letteratura ma forse meno nel mondo della storia dell'arte è indirizzata a un suo carissimo amico della stessa età apostrofato come Alfred Dear Friend e Dear Old Friend che fa riferimento al piume Wairona nella Nuova Zelanda infatti questo Alfred che vedete sulla sinistra si chiamava Alfred Domet ed era emigrato in Nuova Zelanda pochi anni prima il 30 aprile 1842 confesso di non aver mai sentito parlare di Domet prima ma leggendo la sua biografia si capisce subito che era un uomo universale nei modi dell'età vittoriana fu l'attore di una poesia epica intitolata Ronald e si presume che l'amore che lui e Browning condividevano per la letteratura rappresentasse una delle basi della loro amicista inoltre inoltre Domet negli anni 1862 e 1863 fu il quarto primo ministro della Nuova Zelanda L'adorazione affettuosa di Browning per l'angelo custode di Fano rappresenta uno degli ultimi elogi dell'arte di Guarcino nell'Ottocento la tesi della curva invece ispirava uno dei passi polemici più eloquenti di John Ruskin proprio contro il dipinto tanto amato, tanto stimato da Vanni nei suoi modern painters, scrittori moderni, fulminò il dipinto scrivendo che il grifo di Guarcino's Hagar in la Brera Galleria in Milan è partly despicabile, partly ridiculoso non è il grifo di l'inguita Egyptian driven forth into the desert with the destiny of a nation in her breast ma di una serva di un lavoro turned away for stealing tea and sugar traduco il dolore della gara di Guarcino della Galleria Brera in Milano non è il dolore dell'egiziana cacciata nel deserto col destino di una nazione nel petto ma di una serva espulsa per aver rubato te e zucchero come sappiamo tutti la riscoperta di Guarcino nel novecento si deve essere Dennis Mark e vediamo qui l'ha figurato come ha avuto l'enorme fortuna di conoscerlo e in compagnia della sua illestibile Madonna del Passaro che ho potuto rivedere a Bologna il suo contributo verrà analizzato in modo approfondito dopo pranzo da Francesco Gonzalo non vorrei quindi parlarne molto ma mi pare comunque molto importante sottolineare che stesso Dennis senza essere un Bill Gates o un Elon Musk godeva di un certo raggio nell'edizione di Who's Who per l'anno 2000 per sentarlo anche dopo si può trovare il suo indirizzo di casa e il suo numero di telefono i prezzi che Dennis ha dovuto pagare per dipinti come l'Elia di Guarcino acquisito nel 1936 erano modesti ma era giovanissimo aveva solo venticinque anni e inoltre non sarebbe stato possibile esporlo se non in una casa gigantesca come la sua al numero 33 di Pedagan Square e vediamo Pedagan Square un altro immenso merito disse Dennis soprattutto nel riguardo di Guarcino che non ha a che fare con questi vantaggi che era la sua passione uguale per i suoi dipinti e i suoi disegni se Dennis combinava mirabilmente nella sua persona il collezionista e l'Eurubito che pare quindi opportuno concludere in una modesta scoperta che riguarda uno dei massimi capolavori già nella sua raccolta e ora la National Gallery la civile umana del 1651 vedete e poi vedete con i migliori i migliori i migliori i migliori alcune volte credo di essere l'unico storico dell'arte che ha sentito parlare di Google che in questo caso mi ha regalato la fonte dell'iscrizione in latino o l'ignum beatum in quo Deus extensus che si ritrova sulla tavola tenuta da un punto all'altro con una minima d'accuna di una parola e un rovesciamento di altre due corrisponde ad un passo nella historian ecclesiastica tripartista di Cassiodoro e Epifanio dove si ritrovano le parole o serve a un lignum in quo Deus extensus Nel periodo esistevano numerose edizioni stampate della Historia e significativamente nel testo di Cassiodoro e Epifanio il passo più completo sottolinea l'importanza della Sibilla non leggo tutto il latino ma do la traduzione perché la mia ultima lezione di latino ebbe luogo più di mezzo secolo fa nel 1970 e do quindi la traduzione di queste parole, delle parole in italiano per me stesso, per Guercino che sicuramente non avevo il latino e forse anche per alcune altre persone presente si racconta inoltre che un morto toccato la croce sia risuscitato in questo legno la Sibilla dei pagani disse o legno tre volte beato perché su di te fu disteso Dio grazie 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 dell'arte bolognese in maniera profondissima è stata anche un'emozione per ritrovare proprio il senso di come la storia dell'arte crea percorsi di amicizia, di conoscenza, di scambio reciproco. È un percorso di amicizia ormai consolidato con la nostra città e non solo naturalmente con l'Italia, quello di Joanna Kilian che è accanto a me in questo momento e che vi presento brevemente. Anche lei è membro del nostro comitato scientifico fin dalla sua apprezzazione e ha già avuto altre occasioni per essere presente a Centri, io ricordo una bellissima conferenza su Goscino e l'amore che fu particolarmente apprezzata e ricordo anche quella molto partecipata, uno dei momenti diciamo intensi di riscoperta del Goscino da parte della nostra comunità. La dottoressa Kilian è curatrice della sezione della pittura italiana e dell'arte antica europea e capo del gruppo curatoriale del Museo Nazionale di Varsavia. È curatrice ed è stata co-curatrice di numerose esibizioni e di numerose pubblicazioni, in particolare dedicate Caravaggio alla pittura barossa e al rinascimento dell'Italia settentrionale. Ha un legame veramente particolare con l'Italia della quale si è occupata in molte occasioni e proprio per questa sua volontà di promuovere le relazioni tra cultura italiana e cultura colacca è stata anche insegnata tra vari premi che ha ricevuto di un premio del presidente italiano come appunto cavaliere dell'ordine della Stella d'Italia che è un premio proprio che si riconosce e favorisce l'integrazione culturale e gli scambi culturali. Il suo paese sta vivendo un momento anche particolarmente difficile dal punto di vista della vicinanza con l'Ucraina e quindi con una situazione di conflitto, una situazione di conflitto che chiaramente ci preoccupa molto sul piano umanitario, ma non dimentichiamo che i conflitti sono anche occasioni di grammatica sofferenza per il patrimonio artistico e sappiamo bene quanto è importante l'impegno degli storici dell'arte, dei direttori dei musei e di tutti coloro che lavorano nel campo dei beni culturali per la difesa della memoria e della conoscenza. Ci parlerà in questo caso di Guercino nel suo paese appunto di Guercino in Polonia perché la prima parte di questa giornata di studi è proprio dedicata alla presenza di Guercino nelle collezioni museali e nella prospettiva della valorizzazione e dell'approfondimento della conoscenza e dell'estensione della conoscenza dell'artista e della sua scuola. Lascio la parola alla dottoressa Plumin. Scusa di cominciare a parlare di Guercino, voglio solo dire che adesso in Polonia a Varsavia c'è una grande, grandissima mostra delle collezioni degli antichi maestri dell'Aopoli, ci sono più di 200 dipinti di antichi maestri che è rarissima occasione di vederli, non tutti sono catalogati e penso che per storici d'arte antica europea è una grandissima, un paradiso. Mi ricorderò per sempre la mia prima visita a Cento, città ferita subito dopo il terramoto terribile del 2012. Visitavo la pinacoteca di Cento, indossando un casco giallo da sicurezza in compagnia di Fausto Gozzi, il direttore della pinacoteca di allora. Siamo stati assistiti dai pompieri. Era difficilissimo a vedere la pinacoteca civica danagiata e reza inagibile dal forte sisma che ha colpito Emilia Romagna. Devo dire che ho fotografato le sale della pinacoteca con lacrime dei occhi. Grazie alla straordinaria disponibilità e gentilezza di colleghi della pinacoteca di Cento, dell'autorità cittadina di Allona e della soprintendenza della Bella Ardi, tanti di voi siete qui oggi, siamo riusciti a trasformare questo tragico evento per la pinacoteca di Cento in una mostra memorabile e apprezzata all'altro capo dell'Europa. Abbiamo ospitato i capolavori di Guercino a Versavia, aggiungendo tutte le opere di Giovanni Francesco, sia dipinti, sia disegni e incisioni delle collezioni polacche, pubbliche e private. Il capolavoro del Guercino, Madonna con Bambino Benedicente, è sbarcato in Polonia per primo ed è stato presentato in anteprima per una settimana nell'ambasciata italiana a Versavia. L'ambasciata ogni giorno organizzava una cena e raccoglieva fondi per la ricostruzione della pinacoteca di Cento. Dopodiché la tela era esposta insieme ad altre trenta opere di Cento e anche opere di altri musei come Ec in Acadia Edo di Galeia Berberini, nell'ambito della mostra Guercino, il trionfo barocco presso Museo Nazionale di Varsalia, nella capitale polacca. Era, credo, prima grande retrospettiva dell'artista oltre confine. Abbiamo invitato alla collaborazione il famoso scenografo teatrale che ha lavorato con i migliori palcoscenici del mondo dell'opera di New York in Covent Garden, Vienna, che ha creato uno spazio suggestivo che ha affascinato molto il pubblico. La mostra è stata visitata da oltre 50.000 visitatori, ben accolta dalla critica. Sono stati pubblicati decine di articoli, interviste, programmi televisivi. Fino alla mostra del 2013, i libri di testo di storia dell'arte polacchi menzionavano Guercino solo in poche righe. Dopo la nostra mostra è entrato nel canone dei artisti barocchi conosciuti non solo dagli studenti universitari, ma anche dagli allievi dei licei in Polonia. La mostra è stata accompagnata da numerose conferenze. Qui vedete Fausto Gozzi e la sua conferenza sulla Vanitas nel 600 Emiliano. Vorrei offrirvi qua oggi, in questi pochi minuti, una rapida e panoramica delle opere più importanti di Guercino presenti nelle collezioni polacche che abbiamo esposto alla mostra di Versailles. Nel 1620, Guercino ha dipinto per la Cappella Dondini della chiesa di San Pietro a Cento grande pala d'altare con San Francesco in estasi con un angelo musicante e, una cosa abbastanza insolita, San Benedetto. La pala si trova attualmente a Louvre. Il quadro del Museo Nazionale di Varsavia è una ridotta versione d'autore di questa composizione monumentale del Louvre. Il dipinto è molto suggestivo, probabilmente contemporaneo a questo del Louvre, dipinto probabilmente verso 1623. Il tema è mistico e abbastanza raro. Si tratta della comunicazione insolita con il cielo. Musica celeste, infatti, può essere udibile da pochi, visto che i sensi umani sono compromessi nei peccati. Un angelo che suona violino appare nei nubi mentre San Francesco si dà alla lettura al rosario tra ruderi di un edificio che fa parte dell'antichità romana. La musica divina esalta l'estasi del sanico. San Francesco sembra non sopportare il dono che gli viene offerto e la bellezza divina. Il suo gesto di schermarsi allude al pasto del magnifico testo di Fiorelli di San Francesco, che parla della musica talmente suave e dolce che provoca la sensazione dell'anima che diparte nel corpo. Secondo il concetto barocco, la musica celeste, non udibile per la maggior parte delle persone, può essere ascoltata solo dagli eletti di Dio, gli ascetti. Secondo il testo di Fioretti di San Francesco, il fatto si verificherebbe a Verna, in provincia di Arezzo, quando il santo stigmatizzato, cioè in dolore delle ferite impresse, è visitato da un angelo che alleva la sua sofferenza suonando sulla viola un strumento angelico dolce e Francesco riceve il balsamo. La prima monumentale versione per San Pietro a Cento, oggi conservato al Louvre, deve aver impressionato i suoi contemporanei, perché Guercino fu incaricato di realizzare altre versioni più piccole. La composizione fu quindi riprodotta almeno tre volte, in un formato più piccolo, omettendo San Benedetto. Qui, infatti, potete vedere tre dipinti autografi con questo soggetto, che escludono la figura di San Benedetto. Oltre il quadro di Versaga e il dipinto della Stafisch Gemmelt Gallery di Dresda e il terzo della collezione Rimanni Fava a Cento. Il San Francesco, dal Museo Nazionale di Varsavia, era probabilmente nel 1677 nella collezione dei Duchi di Massimo a Roma, coacquistato per la collezione polanca da Conti, Artur e Zofia della famiglia Potoschi durante il loro viaggio in Italia nel 1829 e 30. Nell'archivio della famiglia Potoschi, conservato al castello di Vavre, trovato da Pombo, è menzionato come numero 11, San François e un extase e un ange dessus, tablo d'Italie. Nell'archivio è conservata anche una lettera dell'antiquario Fedele Acciai del 17 febbraio 1829, dalla quale si evince, che era stato incaricato di preparare una lista di dipinti da acquistare e che li avrebbe presentati alla famiglia Potoschi al loro secondo ritorno a Firenze. La lettera è accompagnata da una descrizione dei dipinti acquisiti dalle migliori collezioni fiorentine che Acciai ha in vendita, tra questi due opere di Gio Pran Barbieri, detto il Guercino. È possibile avanzare l'ipotesi che la famiglia Potoschi abbia acquistato a Firenze tramite Acciai entrambi i dipinti del Guercino per la propria collezione. San Francesco è la crocifissione, oggi nella Cappella Potoschi, della Cattedrale di Val, che vedremo dopo. Il San Francesco del Museo Nazionale di Varsavia è annotato nella guida ottocentesca manoscritta delle collezioni di dipinti Potoschi come un'opera di Guercino da Cento nato nel 1590 e morto nel 1666, eminente pittore di scuola bolognese. Il dipinto San Francesco in Estasi è bozzetto dipinto su tele. Un altro dipinto del Guercino, nelle collezioni del Museo Nazionale di Varsavia, è Padre Eterno benedicente che indica il globo terrestre. Questo Padre Eterno è stato definito da Roberto Longhi con il suo senso di umorismo dalla tipologia Garibaldina. Questa cosa spiritosa è stata ricordata da Fausto Gozzi nel catalogo della mostra di Varsavia. Il dipinto ha una storia complicata perché è stato attribuito erroneamente a Giovanni Lanfranco e non è citato nel libro dei Conti di Guercino pur appartenendo ai anni successivi del 1629. In questo libro è citato il pagamento di un solo Padre Eterno nel 1654, per il conte Teodoli di Forlì, che non è conosciuto e non ci sono elementi per identificarlo con questo. Il quadro viene confiscato dai russi durante il periodo di spartizione della Polonia nel 1832 dal principe polacco Sapieha e solo dopo la Seconda Guerra Mondiale l'opera fece ritorno in Polonia dall'Unione Sovietica. L'attribuzione a Guercino trova ora una conferma nell'incisione della Pinocoteca Civica di Cento, che riproduce questo Padre Eterno, campata a Bologna nel 1820 da Nicola Mellini. Il Padre Eterno è stato dipinto da Guercino più volte nel Palo d'Altare. Cronologicamente, questo dipinto si avvicina al Padre Eterno della Santissima Trinità nel 1628 nella chiesa romana di Santa Maria della Vittorio. Il terzo dipinto è una monumentale pala d'altare, la crocifissione con Santa Elisabetta d'Ungaria e Santa Francesca Romana, 1603. È un dipinto che ha quasi sette metri per quattro metri. Questa magnifica opera è stata commissionata dal Pietro Martire Merlini per la Chiesa Madonna del Popolo, presso Forlì, dove è rimasta probabilmente fino a 1809. Lo sappiamo grazie alla descrizione di Carlo Cesare Malvasia. È stato acquistato, come abbiamo già menzionato, in Italia da Arturo e Zofia Potoschi durante il loro viaggio italiano 1829. La crocifissione è stata quindi acquistata probabilmente insieme con San Francesco a Firenze. Il dipinto si trova fino ad oggi nella cappella funeraria della famiglia Potoschi, nella cattedrale di Var, cattedrale più importante per il simbolo della Colonna. La composizione contenuta è nello stesso tempo piena del pathos. Particolarmente suggestiva è la bellezza dell'angelo a sinistra della composizione, e la luce del fonte di luce invisibile illumina la faccia dell'angelo con la maestria e con il realismo degno del Caravaggio. Questa figura misteriosa nello stesso tempo rappresenta la natura della carisma di Santa Francesca. Dopo la morte del suo figlio, di appena sette anni, ha ricevuto un dono di Dio. Nella sua visione era accompagnata dall'angelo, dalla bellezza strepitosa che ha preso l'apparenza del figlio morto. L'ultimo dipinto di Guercino delle collezioni polacche è Il ritorno di figlio prodigo del museo diocesiano di Wroclaw. E' dipinto e citato nel libro dei conti da Guercino e da Malvasia nella sua frissine pittrice, come l'opera di Guercino dipinta nel 1651, commissionata da Giovanni Nani, un grande dilettante e collezionista veneziano. Nani, l'amica del Marco Boschini, aveva la collezione importante dei dipinti contemporanei della sua casa a San Trovaso, a Venezia, dove ha creato una specie dell'accademia. La sua collezione serviva come raccolta degli esempi, esempi delle opere buone, migliore opere di famosi maestri. Non sono conosciute le vicende del dipinto dopo la morte del Giovanni Nani nel 1679 fino al 1772, quando il dipinto è stato in collezione di Lady Leicester di Londra, tra questi ritorno del figlio prodigo di Guercino. Nel 1943, il dipinto è stato acquistato a Christie's di Londra dal attivista e patriota, emigrante polacco, vescovo Karol Mieczysław Radonis. Nel periodo maturo dell'attività artistica, Guercino ritornava spesso al tema di figlio prodigo. La versione polacco è, secondo me, una delle versioni più belle del soggetto. Guercino dipinge con maestria l'atmosfera della temperanza e della concentrazione. Presenta la storia con una semplicità commuovente, riducendo tutti gli elementi superflui, riducendo la composizione a un gruppo delle figure solenne, il padre, il figlio convertito e il giovane servo. Anche se il gruppo è statico nella sua classicità, Guercino riesce a dare alla composizione la sua teatralità, la tensione drammatica della parabola del Vangelo. Le figure ricordano gli attori del teatro sacro e incarnano le idee care alla religiosità post-tridentina. Confessione, cioè contrizione, la penitenza e, finalmente, il pardono, la mentia. Il padre incarna il perdono, il figlio che tiene il fadoletto nel gesto della singhiozzo silenzioso indicato con una sola dipinta nel modo estremamente finito. Il suo gesto è enfatizzato dal servo, con le mani incrociate nel gesto della disperazione, nella posa retorica del cloro. Il dipinto evidenzia l'enorme ruolo del pentimento, una idea molto presente nella religiosità post-tridentina. E alla fine voglio mostrare un ritratto che è passato per la Polonia. era per parecchi anni in deposito presso il mio museo di Varsavia. Il ritratto di Girolamo Giraldi da Cento, il canonico della chiesa San Biagio, il vicario del convento di Piedra di Cento e il presidente dell'Accademia del Sole, dove era membro nel 1651. L'identificazione del personaggio è possibile grazie alla lettera che tiene in mano. In Polonia si trovano vari disegni del guercino. Oltre un bel paesaggio che vedete qui, vorrei mostrarvi solo due. Il primo è lo studio per il dipinto Cristo risorto che appare alla Vergina della Pinacoteca di Cento. Il disegno si trova nel Museo Nazionale di Gdansi. La mostra a Varsavia, curata da Fausto Gozzi e da qui presente, ha offerto l'opportunità di un incontro emozionante tra il disegno preparatorio della testa di Maria e il dipinto della collezione della Pinacoteca Civica di Cento. Questo dipinto suscitò l'ammirazione e l'entusiasmo dei viaggiatori e degli intellettuali del Settecento di tutta Europa. Johann Wolfgang Goethe, che vide il dipinto durante il suo viaggio italiano nel 1786, espresse la sua ammirazione per l'ineffabile tenerezza con cui la madre guarda il figlio. Le sue parole sono un elogio alla forza di persuasione e alla retorica barocca che Guercino incarna. Alla fine prendiamo in considerazione il disegno più curioso di Guercino. La strega seminuda soffia sulla fiamma di una lampada del Museo Nazionale di Varsavia. Questo disegno ha una scritta misteriosa, di sopra e sotto spiro morte e vita. Il foglio proviene della ricca collezione di disegni di Giorgio Bonola, pittore, scrittore e collezionista lombardo, parte della quale si trova nel Museo Nazionale di Varsavia. È un disegno strepitoso per l'originalità del soggetto. Il fatto che con questa figura non ci troviamo davanti a una caricatura, ma ad una persona che esercitava veramente l'attività negromantica nelle zone rurali di centro. Questo è suggerito dall'assistenza di altri due disegni, dove l'artista disegna ancora questa donna scimiesca da angolazione diversa. L'interpretazione molto convincente e lo studio di questo disegno dobbiamo agli studi di Fausto Gozzi pubblicati nel bollettino del mio museo. Guercino, negli anni giovanili, è molto incuriosito dai buffi tratti fisionomici che vedeva nella sua gente. Infatti, sono centinaia i suoi disegni, particolarmente di persone che frequentavano mercati e fiere di paese e che vivevano nelle campagne vicendo o provenivano da paesi vicini. Si sa che Guercino era un straordinario osservatore dell'analto. La strega è ritratta nel momento che soffia sulla fiamma di una lampada che è appesa ad un chiodo e certamente ciò ci collega al rebus, di sopra e sotto, spiro morte e vita. scritto in alto e che allude certamente al potere malefico delle streghe ricevuto grazie al patto con demoni, di sopra, cioè nel mondo dei vivi, e sotto nel mondo dei morti. spiro, cioè soffio, cioè ho capacità di morte e vita. Come ha scritto Fausto Gozzi nel suo articolo dell'annuario del Museo Nazionale di Varsavia, questo sia il messaggio poco riassicurante che la strega del Museo di Varsavia può muovere. Grazie. Grazie dottoressa Kilian per questo intensissimo percorso che si è aperto con un'emozione profonda per noi nel rivedere la Pinacoteca nel momento più drammatico dell'abbandono e che ci ha ricordato il ruolo di alcune persone, tra le prime Fausto Gozzi che hai ricordato e al quale ricordo cederò il ruolo di coordinatore nella sezione pomeridiana di Cristo in questa giornata di studi. Ma poi anche ricordiamo Elena Rossoni che abbiamo visto questa mattina arrivare e che è stata sicuramente una presenza molto sollecita nei giorni più difficoltosi, nei giorni in cui non si capiva bene come sarebbe successo. Quello che è successo dopo è stato, e anche questo ce l'ha ricordato l'intervento, il tentativo di continuare a far vivere le opere del Guercino al fuori di questo luogo che non era più praticabile. E questo tentativo si è espresso nell'organizzazione di una serie di mostre che ha avuto la doppia finalità di continuare ad andare avanti un lavoro che possiedertico poi al rilancio di Guercino che è nato in questo momento attraverso le mostre. E anche di raccogliere dei finanziamenti. Ricordiamo il Travassati a Tocchio, spero di non dimenticare i finanziamenti importanti, ma certamente aver ricordato, e questo è il momento per farlo, la donazione della Fondazione Mahon di 80 mila euro proprio per favorire la partenza dei lavori del restauro della piena corteica. Quindi l'importanza fondamentale delle mostre. Un'importanza fondamentale che, come è stato ricordato, fa sì che una vita che sia stato vero nelle mostre fa trovare spazio, ad esempio, nei manuali di storia dell'arte, che sono uno strumento fondamentale per contribuire al consolidamento della conoscenza. Così come uno strumento fondamentale è ovviamente la capacità di divulgare la bellezza delle opere. Abbiamo visto immagini bellissime, con dettagli lacrime come perle, bambini meravigliosi che hanno fisionomie che ricordiamo e che ritroveremo anche nella nostra piena corteica. E quindi questa circolarità delle immagini che le mostra contribuisce molto a fissare, creando un immaginario e creando una rete di conoscenze che si consolida e ogni volta sembra impossibile, ma lascono nuove prospettive. Questo è già in atto nella mostra che è allestita in questo momento alla Pina Cortica di Bologna e mi dispiace dovervi comunicare che Maria Luisa Facelli non si sente bene e quindi non ha potuto essere con noi, quindi colgo l'occasione di fare i migliori auguri di una pronta ripresa. Peraltro il periodo è questo, siamo in molti ad essere raffreddati e influenzati. Ma la bella notizia è che comunque lei ci avrebbe parlato di una mostra che è qui vicino a noi, a 30 km, che è visibile e che in sala abbiamo Barbara Geltri, che questo pomeriggio potrà certamente fare qualche riferimento all'importanza della mostra e soprattutto al contributo che questa mostra sta dando agli studi guerciniani. è una mostra che per chi non l'ha vista è certamente da vedere, è una bellissima occasione sia per scoprire capolavori che abitualmente sono nella Pina Cortica di Bologna ma in questo caso sono stati valorizzati dall'investimento e anche dalla rilettura. Mentre la nostra fortuna oggi è anche quella di avere la possibilità di avere la preview con grande anticipo di una grande mostra, penso di poterlo dire avendo visto il progetto e la presentazione, che è in preparazione a Torino. Abbiamo infatti le curatrici con noi della mostra che si terrà a Torino, il mestiere del pittore e già questo titolo è fondamentale ed evocativo perché ci porta a capire come lo sguardo contemporaneo su Guercino e la sua vertega si concentra molto sulle modalità di produzione, modalità di produzione che erano in qualche modo molto contemporane, cioè fondate proprio su un lavoro di impresa e su un'organizzazione direi micidiale dal punto di vista proprio della produzione e dello scottamento delle immagini che avevano maggiore successo. Questo è ciò che fa Del Guercino uno degli artisti più rappresentati nei musei del mondo, più presenti e anche per certi versi più enigmatici. Passo dunque la parola per questa presentazione a due esperte della pittura barocca. Anna Maria Vava, vi presento veramente brevissimamente, dal 2011 è direttrice della Galleria Savauda e ha curato il riordinamento dei nuovi settori a partire dal 2017. Ha pubblicato numerosi saggi in particolare sul caravaggismo, sull'arte piemontese e sul collezionismo Savauda per 500 e 700, e ha curato diverse mostre in Italia e all'estero, tra cui tra le ultime Le meraviglie del mondo, le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia, grandi pittore di corte Rubens, capolevori d'arte nei musei italiani, Riccardo Gualino imprenditore e collezionista, sulle tracce di Raffaello nelle collezioni Savauda, Le signore dell'arte, storie di donne tra 500 e 600, Rembrandt incontra Rembrandt e dialoghi in galleria. Versomina Spione insegna storie dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Torino, si è principalmente occupata della cultura figurativa piemontese e ligure del 6 e 700, ha curato numerosi volumi e mostre su queste tematiche ed è coautrice di un volume sui fratelli Guido Bono e Daniel Setter, curati di Allemandi, qui assublierà il lavate miniatore Felice Ramelli, un ritratto per i musei reali di Torino con Alessandro Morandotti e il barocco a Genova, un misto di più maniere per l'Officina Libraria. A voi rappresento. Grazie molte, buongiorno a tutti e innanzitutto voglio ringraziare per questo invito, è una bellissima opportunità per noi, ringrazio quindi il Comune di Cento, ringrazio il Centro Studi appunto di Cento e grazie per averci invitato in questa che è anche una bellissima festa, quindi siamo molto molto felici di poterci partecipare. La mostra che abbiamo in programma nei musei reali di Torino e che avrà sede nelle sale Chiablese, per chi le conosce sono le sale che si affacciano alla Piazzetta Reale e sono il luogo che noi dedichiamo alle mostre più importanti. È una mostra importante per i musei reali che giusto tre giorni fa sono passati dalla seconda alla prima fascia dei musei nazionali italiani e dunque siamo molto soddisfatti e contenti di questa promozione che abbiamo avuto e quindi per i musei statali siamo come Brera, come l'Accademia di Venezia, come gli Uffizi, come il Comune di Monte, quindi per noi abbiamo lavorato tanti anni per questo e quindi siamo felici e la mostra sarà proprio la prima grande mostra dei musei reali nella prossima primavera. Come vedrete le date sono dal 22 marzo al 28 luglio e quindi sarà la prima grande mostra come musei di prima fascia. Allora, stamattina uno degli argomenti è quello della valorizzazione delle collezioni dei musei e delle proprie collezioni. La domanda che un po' mi fanno tutti è perché avete pensato una mostra su Guercino a Torino? e forse perché non è così scontato sapere che a Torino, in Galleria Sabauda, c'è una collezione molto importante di opere emiliane, non soltanto di Guercino ma di opere emiliane in genere perché i Savoia prima e poi con le acquisizioni di Setteo d'Ottocento, penso soprattutto alla grande acquisizione della collezione guinnesi del principio genio di Savoia Suasson, arrivano ed entrano nelle collezioni sabauda, quindi delle opere molto importanti della pittura emiliana. Ma in particolare Guercino è un pittore da noi molto rappresentato sia in Galleria Sabauda che nelle collezioni della Biblioteca Reale, sia la Galleria Sabauda che la Biblioteca Reale fanno appunto parte dei musei reali di Torino, e appunto in Galleria un'interessale dedicata a questo artista. Ora, noi non pensavamo, non abbiamo mai pensato di dedicare una mostra monografica a Guercino, non ci sentivamo, non è neanche il corretto che venisse fatta a Torino una mostra monografica dopo le tantissime mostre che sono state fatte e quelle che sicuramente farete in futuro. Volevamo domandarci qualche cos'altro, cioè volevamo domandare e raccontare al nostro pubblico qual è il mestiere del pittore all'inizio del Seicento, come i pittori all'inizio del Seicento si confrontano con quello che è il mondo che li circonda, ma anche con quello che è il mercato, con i committenti, con il pubblico, come lavorano, come inizia e come procede la loro carriera. E in questo senso abbiamo scelto e abbiamo pensato di proporre Guercino che è un artista meraviglioso, ma anche un artista esemplificativo di tutti questi aspetti, in particolar modo esemplificativo proprio del rapporto con i diversi committenti, proprio perché piace molti e con i committenti diversi che vanno da appunto personaggi locali che ha grandi personaggi italiani ed europei che toccano il cuore le maggiori corti italiane di questo momento e non solo. e quindi abbiamo pensato proprio di raccontare il mestiere del pittore attraverso questo artista. Noi abbiamo appunto, dicevo, di questo artista un nucleo importante, un nucleo che nasce, che si crea in diversi momenti della storia, ma è un nucleo che è presente sin da molto presto, per tempo, proprio nelle collezioni Sabaude. Ad esempio, uno dei, per esempio, più noti tra i dipinti posseduti dalla Galleria Sabauda è questo bellissimo dipinto col figlio del prodigo, quindi riprendiamo il tema del figlio del prodigo all'inizio, insomma, della carriera di Guercino. Un'opera che viene, come sappiamo tutti, commissionata dal cardinal Ludovisi, ma che molto presto entra nelle collezioni Sabaude. Entra perché i Savoia cercano appunto di accaparrarsi anche sul mercato degli obiettivi importanti, ma creano anche dei rapporti forti con alcuni personaggi fondamentali del momento, così come ha racconto con il cardinal Ludovisi e sicuramente il cardinal Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I, che vive tra il 1580 e il 1630 e il duca per ben 50 anni della sua vita, che quindi sta al passo con quelle che sono le novità del momento. Altre opere che entrano in stretta correlazione alla corte Sabauda sono per esempio queste altre due pale molto importanti, molto note. Qui ci spostiamo invece nelle datate appunto della natura, appunto dell'attività di Guercino. E da una parte la Madonna delle Beledizioni, un'opera che si deve alla committenza del conte Falconbelli, che è un nobile strettamente legato alla corte e che richiede appunto questa pala per la chiesa di San Giuseppe a Vinerolo. E dall'altra parte invece a fianco una tela con la San Francesca Romana, che nasce in realtà per i monaci diventani, ma che molto presto viene donata appunto nel 1956, ma già nel 1957, la Bate Orafi dona a Cristina di Francia, che in quel momento è duchessa di Savoia in reggente dopo la morte del marito Vittorio Amedeo I, e l'ottodonna naturalmente con il desiderio di accattivarsi in favore della corte finché potesse essere creato un monastero appunto olivetano anche a Tolino. Una serie di opere entrano più tardi, entrano nell'Ottocento, come queste tre tele, la Santa Gertrude, Santa Lucrezia, eseguita per Roma, ma poi attraverso insomma una serie di vicende, poi entrata grazie al governo proprio italiano e data alla Galleria Savauda, assegnata appunto alle collezioni della Galleria Savauda, da Lecce Homo con, anche questo è entrato molto tardi, per un dono poi nell'Ottocento appunto dal barone Logè, e al centro invece questo Dio Padre, che arriva anche questo per un acquisto ottocentesco, in un momento in cui dopo l'inaugurazione della Real Galleria, cioè nel 1832, Carlo Alberto decide di aprire al pubblico le collezioni reali, e viene creata appunto la Real Galleria, né il direttore Roberto D'Azeglio, il quale porta una serie di acquisizioni per poter far entrare nella Galleria delle opere importanti, delle testimonianze importanti della pittura italiana e non solo. E quindi si ha un acquisto interessante, fatto attraverso l'incisore e il migliorio pittore Angelo Boucheron, che vende appunto alla Real Galleria quest'opera col padre Terno, insieme a un nucleo interessante di copie o di lavori di bottega, di guercino, che abbiamo nelle collezioni di riserve, che stiamo studiando insieme a voi specialisti in prima fila di guercino, che ringraziamo molto per tutto l'aiuto che ci state dando, e che insomma diventa veramente interessante per comprendere queste acquisizioni davvero notevoli e davvero importanti anche a livello numerico, che entrano nelle collezioni torinesi. Ci fa piacere in questa mostra perché le opere torinesi nella mostra segneranno un po' un fil rouge del percorso e perché vogliamo che vengano conosciute dal nostro pubblico, affiancate da una serie di opere che ci presterete con grande generosità e ne approfitto veramente per ringraziare tutte, dalle istituzioni pubbliche, ai privati, alle fondazioni, alle banche, che tantissime delle persone con cui abbiamo parlato in questi ultimi tempi sono presenti, quindi davvero grazie per tutta la generosità e la disponibilità che ci state dimostrando. E dicevo appunto, tra l'altro la nostra idea, proprio perché è una mostra legata più, non una monografia tout court, ma una mostra legata al mestiere, quindi con una scelta di opera all'interno della carriera appunto di Guercino, legate poi a delle tematiche che illustreremo più tardi, davvero sono le opere di altissima qualità e quindi vi ringraziamo tantissimo per la disponibilità a inviare a Torino e far vedere al nostro pubblico queste opere e davvero come speriamo anche che noi abbiamo un pubblico molto diverso da quello che è il pubblico magari di Bologna, di Modena o di Cento, perché abbiamo molto pubblico che viene per esempio dalla Francia piuttosto che dall'estero, quindi sicuramente inviteremo il nostro pubblico a venire poi a Cento e nei luoghi in cui Guercino è nato, è vissuto in questa meravigliosa piena poteca in cui si capisce moltissimo di quest'artista, quindi spero che questo possa essere davvero uno scambio importante tra le nostre istituzioni. E appunto quello che dicevo è che vorremmo anche presentare al pubblico un altro patrimonio che fa parte del Museo Reale, cioè quello della Biblioteca Reale, che non è tantissimo noto o quantomeno è stato visto poco prossimo dal pubblico perché almeno dal 1990 i disegni più importanti della Biblioteca Reale su Guercino non sono stati più esposti. Quindi abbiamo messo ad esempio l'esemplificativo 4, uno legato alle bellissime prove grafiche effettuate da Guercino per la restrizione di San Guglielmo, per cui appunto che vanno ad affiancarsi a diverse altre note, insomma quindi sappiamo tutta la sua studio e l'elaborazione grafica che avveliva prima della realizzazione dei suoi lavori. Poi abbiamo presentato due disegni un po' più particolari perché di queste in realtà invece non si conoscono le opere per le quali svurrono appunto eseguiti questi disegni, quindi sia per la Contezione di San Paolo che per la pace e il verbo. E poi anche noi ci ricolleghiamo alla tematica più legata alla magia e alla stregoneria, legata appunto a questo mago Brumio e quindi appunto alcune curiosità intorno a questo artista. Allora ci piacerebbe in questa mostra anche non solo dar conto di quelle che sono le collezioni presenti nelle collezioni reali del nostro museo ma anche di dar conto di quello che è la fortuna a Torino e nei dintorni di questo artista. Innanzitutto con l'arrivo di quest'opera commissionata negli anni Trenta, un'opera appunto che arriva per la chiesa di San Domenico di Torino molto probabilmente attraverso un personaggio molto legato a una corte che è Amadeo dal Pozzo e che appunto permette di farne la mostra di sé un'opera meravigliosa su uno degli altari legati lì alla corte che è quello appunto dell'altare del Rosario all'interno della chiesa di San Domenico. Stiamo, la chiesa di San Domenico è la chiesa del FEC, quindi stiamo lavorando con il Ministero dell'Interno che ci ha dato la sua autorizzazione con la prefettura di Torino per riuscire a portare questa opera in mostra che non è stata più presentata dal 1968 e che comunque si trova a smaltare molto alto quindi è anche difficile da vedere, quindi è un vero e proprio capolavoro e un capolavoro che ha avuto anche un seguito a Torino perché noi siamo abituati a sentire parlare e giustamente i vostri studi sono molto molto ampi sulla bottega di Vercino ma qual è in realtà la risposta che viene data da pittori locali sulla presenza di opere strepitose di Vercino per tempo nelle altre sedi. Questa è un'opera, quella che vedete di fianco all'altare della Madonna del Rosario e una tela seicentesca che riprende sicuramente, che copia quindi queste invenzioni con qualche modifica e che studiando sempre insomma insieme agli esperti non ci pare tanto di poter pensare che si tratti appunto della bottega del Vercino ma anche probabilmente ci sono anche artisti forse piemontesi che guardano al Vercino e propongono delle altre copie, delle altre versioni appunto delle opere che arrivano in città e questo lo è anche per un ciclo molto curioso che è conservato per esempio nella chiesa di San Filippo a Torino anche qui non si capisce bene come arriva in questo ciclo di cinque temi, in realtà c'è anche una sesta ma non fa parte insomma di questa serie che rappresenta Sant'Eusebio vedete per esempio in una nella terra in alto con Sanomedia Rodiade che riprende una versione uguale alla versione che voi avete proposto in Pinacoteca che mi sembra una tribunzione Ercole-Gennari se non erro e che qui però chi sarà? sarà un membro della famiglia Gennari o forse sarà di nuovo un copista piemontese che vede che copia delle opere di Vercino chissà dove e peraltro sono anche delle opere qualcuna nota, qualcuna invece non nota di Vercino quindi è anche questo un aspetto affascinante da poter studiare e da andare appunto con le ricerche ricerche che almeno sul nucleo piemontese, sul nucleo torinese in particolare stiamo facendo anche dal punto di vista diagnostico e ringrazio Barbara Gelfi che con la sua equip è venuta appunto a Torino e stanno lavorando, hanno lavorato molto per riuscire a capire di più anche delle opere che vi ho mostrato delle opere che abbiamo nei depositi e un po' di queste opere che sono sparpagliate a Torino che poi vedremo anche nel pomeriggio in Piemonte e che quindi fanno capire la grande fortuna di questo artista anche nel nostro territorio noi inizieremo la nostra mostra con questo autoritratto l'autoritratto è presente in questo momento nella mostra di Bologna per noi è un modo di iniziare non soltanto per mostrare appunto un autoritratto del pittore ma anche questo autoritratto segna un po' un fiorouge tra le diverse mostre diverse iniziative che sono nate proprio in concomitanza con la riapertura della Pinapoteca di Cento l'opera appunto è esposta in Bologna, sarà esposta a Torino nella mostra primaverile e sarà poi esposta alle scuderie del Quirinale per una terza mostra dedicata appunto a Guercino quindi quest'anno state festeggiando Guercino e lo festeggiamo anche noi e così invece vi raccontiamo più nel dettaglio quali sono le tematiche che abbiamo scelto per raccontare al nostro pubblico che spero che diventi anche il vostro pubblico questo meraviglioso artista Buongiorno a tutti e io non posso che rinnovare i ringraziamenti già fatti da Maria ringraziamenti all'amministrazione comunale, al centro studi, alla direzione del museo devo dire che siamo colpiti, quasi commossi dalla partecipazione per la riapertura della Pinapoteca Civica è davvero stato molto bello essere qui insieme a voi e vogliamo anche ringraziare i tanti amici, colleghi, studiosi che in questa vicenda ci hanno accompagnato che sono tutte dentro il comitato scientifico e che ci hanno fatto sentire un po' parte di questa bella famiglia che si è creata intorno a Guercino come diceva Anna Maria, noi non faremo una monografica ma il tema sarà quello del mestiere del pittore quindi utilizziamo un po' Guercino come caso esemplare un'esemplarità che è data anche dalla documentazione che accompagna l'attività di Guercino libri dei conti, memorie, lettere, contratti è una documentazione straordinaria parlante che ci dà questa sensazione proprio di entrare nella vita nella attività di un artista quindi il percorso della mostra si svolgerà intorno ad alcuni temi che speriamo contribuiranno a far capire a un pubblico vasto quello che sono le tappe dell'attività di un artista a partire dalla prima educazione per arrivare poi alla piena maturità ma sempre all'interno di quelle che sono le dinamiche economiche le leggi di mercato piuttosto che la rete di relazioni personali tra comitenti, agenti, sostenitori quindi il primo capitolo di questo nostro racconto non può che essere quello della formazione la formazione di un artista avviene certo all'interno di una bottega con l'apprendistato presso un maestro più anziano ma la verità è che la formazione di un pittore avviene anche attraverso lo studio lo sguardo che quel pittore rivolge alle opere presenti nei loro luoghi di origine quindi utilizzando Guercino lo sguardo di Guercino partendo proprio da Cento se lo racconto qui e mi sbarazza anche un po' però lo sguardo di Guercino prenderà due direzioni quindi Bologna la tradizione dei Carracci e il clima per tutti Ludovico e dall'altra parte Ferrara e quindi Dosso, Scarselino, Bononi ecco non vi mostreremo non abbiate paura tutta la mostra ma soltanto le sezioni una selezione di opere le opere in mostra saranno tra dipinti e disegni un centinaio quindi insomma è una mostra piuttosto consistente ma per esempio questa è una parete della mostra quindi vedete il vostro Guercino in dialogo con Scarselino e con Ludovico ovviamente la carriera di un pittore prosegue acquisendo man mano autonomia e di quello che accade a Guercino e quindi diciamo l'episodio fondamentale e l'istituzione, la nascita, la fondazione dell'Accademia di Nudo qui a Cento ma al tempo stesso un po' come nella vita di tutti noi sono importanti gli incontri e anche un po' di fortuna nel caso di Guercino diciamo il primo incontro felice è quello con padre Antonio Mirandola che permette a Guercino di entrare in rapporto con i Ludovisi con il cardinale Alessandro Ludovisi a Cinescovo di Bologna poi Papa Gregorio XV Ludovisi quindi un bel colpo di fortuna che di fatto darà poi il ladaro al sgancio alla carriera del pittore anche qui vi presentiamo perché siamo molto contente vi presentiamo quella che sarà una sala della mostra cioè intorno al figlio del prodigo della Galleria Sabauda abbiamo detto non le rivedremo tutte ma veramente le opere della Sabauda faranno davvero da accompagnamento a tutti questi diversi temi qui vedete appunto il figlio del prodigo della Galleria Sabauda affiancato dagli altri due dipinti di commissione Alessandro Ludovisi cioè quello dell'Escoriale e quello del Prado qui poi abbiamo anche aggiunto diciamo il quarto episodio Ludovisi cioè quello di Palazzo Più nel momento in cui la bottega la bottega prende il successo di una bottega come si misura? si misura naturalmente attraverso il numero di commissioni attraverso l'ampiezza che la risposta dà che quella bottega dà ad una serie di richieste che sono tantissime nel caso di Guercino si risponde ad una clientela lo diceva Gianna Maria che molto varia quindi il contesto locale la piccola nobiltà piuttosto che l'intraprendente borghesia centese ma a questo si aggiungono gli altolocati forestieri fuori naturalmente le corti prima era bellissimo quel passo di Malvasia che ricordava il desiderio di Carlo I di avere di avere Guercino quindi le corti non soltanto in Italia ma fuori Italia e nel nostro caso i Savoia i medici e gli este c'è tutta una sezione di mostra che permetterà di entrare dentro quella che è proprio una vera e propria pratica di mestiere allora una bottega avviata una bottega così importante che deve rispondere a così tante richieste ovviamente diversifica anche la propria produzione perché le richieste sono tantissime quindi accanto e soprattutto è un mestiere quindi bisogna vivere e bisogna mantenere anche la propria bottega quindi accanto a Palle d'Altare accanto a Quadri di Storia anche paesaggi e anche nature morte o oggetti in posa come forse è più corretto è più corretto dire qui entra in scena chi? entra in scena Paolo Antonio Barbieri il fratello di Guercino e qui noi raccontiamo che cosa? la diversificazione dei ruoli all'interno di una bottega le differenti competenze che vengono messe in gioco e consueto all'interno di una bottega nel caso delle nature morte che si realizzassero dei dipinti di natura morte che poi rimangono da completare con delle figure secondo quella che è la richiesta poi dei committenti e nel caso della bellissima ortolana che si può vedere in mostra nella bella mostra di Bologna e che noi speriamo di poter portare anche a Torino dove le due competenze quelle di Paolo Antonio e quelle di Giovanni Francesco vanno a unirsi una domanda a cui una curiosità che credo il pubblico abbia è ma come si è va al dipinto finale quali sono i passi qual è il processo creativo e quindi l'invenzione spesso attraverso il disegno e il buercino ha una sua peculiarità proprio nel progettare attraverso diversi disegni le sue opere ma anche la riproposizione di modelli l'invenzione l'invenzione è un patrimonio importante per una bottega quindi non si butta via ma semmai come dire si ripropone attraverso anche delle piccole varianti e questa come dire è un'altra parete della mostra con queste figure bellissime di diopadre che vengono variamente declinate da buercino o in maniera isolata come attrici di composizioni per fare l'altare oppure come nel caso di Ancona inserite all'interno di una composizione mutata e poi il tema delle copie copie che fanno ovviamente parte della attività anche della bottega e anzi abbiamo capito molto bene ora proprio dalle novità emesse dalla mostra di Bologna come per la bottega di Guercino fosse un vero e proprio sistema quindi un sistema che entrava proprio anche nel nella in quello che era come dire la la gestione dei costi e quindi ovviamente il prezzo delle opere questo forse è la curiosità più grande che potrebbe avere il pubblico cioè quanto costavano le opere e come veniva determinato il prezzo delle opere certo ci sono tantissime tantissime varianti forse non c'è veramente una regola ma diciamo che il libro dei conti ci aiuta a il libro dei conti non solo di Guercino ma anche di altri pittori e pittori bolognesi in questo sono devo dire un esempio straordinario noi dal Piemonte invidiamo molto in Bologna e quindi quanto incide i materiali quanto incide invece la dimensione delle opere la figuratura la mezza figura la testa dicevo prima il libro dei conti ma noi siamo affascinate dalla corrispondenza dalle lettere di Guercino perché ogni volta di lì si capisce come veniva in realtà stabilito il prezzo anche sulla base del committente o del prestigio anche della commissione sempre arrestando i temi di mercato al pubblico piacciono certi temi e lì ovviamente i pittori si scatenano ed entrano anche in competizione tra di loro non vi abbiamo detto che non sarà una mostra solo di Guercino ma ogni tanto avremo degli artisti ospiti che accompagneranno il racconto che noi facciamo del mestiere del pittore e in particolare altri artisti bolognesi Domenichino e Guidoreni prima di tutto utilizzando e valorizzando proprio quel patrimonio di opere bolognesi che sono conservate in la Galleria Savala tra i primi come dire di successo dove un po' Domenichino Guidoreni e Guercino si confrontano proprio quello delle figure femminili quello delle Sibille quello delle Fanfort al tempo stesso vogliamo anche provare a considerare che cosa come un artista e un committente reagisce a che cosa alla società che è intorno quindi questa sezione che porta a questo titolo mito scienza e magia vuole essere un po' la fotografia delle contraddizioni anche di una società allora la rivoluzione delle la rivoluzione gallileiana la risposta che i committenti come i medici danno a questo tema e come questo convive non soltanto col mito ma in antitesi proprio con la magia e quindi quella attenzione è quell'idea di guercino acuto osservatore che guarda intorno a sé fotografa con ironia con umorismo anche alcuni personaggi di Cento e proprio alcuni temi legati alla magia e alla superstizione cioè esattamente un po' l'opposto della scena arriviamo alla fine arriviamo alla fine e noi volevamo concludere lasciando negli occhi del visitatore un po' insomma fare teatro e guercino si prestava tantissimo a questo allora il tema del coinvolgimento dell'osservatore che è un tema che non riguarda solo i paroccoli riguarda solo il Seicento però questa idea della retorica dei gesti degli sguardi questo mettere in scena e anche qui guercino è un grandissimo maestro sia che si tratti di figure isolate sia che si tratti di episodi corali la poesia che si citava all'inizio con l'idea che l'angelo custode possa muoversi possa scendere quindi che improvvisamente le figure prendano vita è qualcosa che il guercino ci permette di raccontare in maniera davvero sorprendente ed è quindi con questa pittura teatrale perché noi chiuderemo la mostra e speriamo di avervi tutti a Torino e vi ringraziamo ancora vedo che se il fatto di averci tutti a Torino ve lo possiate invitare immagino già l'organizzazione di spedizioni Marco e Pullman però speriamo davvero come avete anticipato che la mostra di Torino sia per noi una porta di promozione verso la Francia verso l'Ultralve che prenda e porta il progetto lanciato dalla regione Emilia-Romagna di creare una rete che intorno alla riapertura della Pinacoteca di Cento si propaga si irradia cercando appunto attraverso questi scambi e queste collaborazioni un'apertura a livello regionale nazionale e speriamo anche internazionale perché già qualcosa si muove al di là dell'orizzonte della Mosa di Roma che comunque non possiamo ancora anticipare perché è lontana ma sappiamo già sarà un'altra mostra importante avete ricordato e l'abbiamo sotto gli occhi l'importanza del collezionismo il collezionismo che abbiamo la fortuna di avere perché l'opera bellissima che stiamo vedendo è di una collezione privata centese e naturalmente il nostro ringraziamento va alla collezione di mal di fava che è presente non solo loro come collezionisti privati e sempre disponibili prestatori delle loro opere alle mostre importanti che si stanno organizzando nel mondo ma anche come promotori di campagne di acquisizione di opere per la pinacoteca la bellissima scena all'allestimento di argenti acquistata dagli imprenditori centesi dell'associazione amici della pinacoteca del Guercino è stata acquistata proprio su sollecitazione di una sensibilità di collezionismo che non si ferma al privato ma comprende l'importanza di dare il proprio contributo alla costituzione e all'arricchimento delle collezioni e devo dire che la nostra pinacoteca è proprio un po' un paradigma di come l'interazione pubblico-privato sono fondamentali per arrivare a una raccolta di livello i contributi della mattina sono terminati abbiamo ancora un pomeriggio molto intenso abbiamo una bellissima giornata di sole e un quadro del Guercino che ha preso vita nella nostra piazza io non l'ho ancora visto però anche in questo caso attraverso una collaborazione tra diverse associazioni del nostro territorio è stato ricreato un mercato seicentesco l'idea non è stata nostra nel senso che l'abbiamo ripresa da celebrazioni organizzate in occasione della mostra del 1991 che è stata per la città fosse insomma la prima occasione di comprendere come l'ospitalità nei confronti del pubblico esterno avrebbe costituito un bellissimo biglietto di visita per la città quindi lasciamo sicuramente spazio a domande se volete a contributi lasciate che vi dica che è sempre un pubblico bellissimo visto da qua uno spettacolo di persone che si alzano che fotografano che si confrontano ma con grandissima correttezza quindi veramente bellissimo sentirsi così attenti proiettati nello stesso scopo se non ci sono domande o al termine delle domande vi esorto naturalmente a godere di questo ultimo momento della mattinata visitando il mercato portavino e poi noi ci rivediamo comunque puntualissimi alle tre avremo un'apertura di nuovo dedicata alla figura di Dennis Brown e poi una serie di contributi che invece si concentrano di più su nuove ricerche avremo anche giovani studiosi perché l'obiettivo del nostro centro studi è proprio quello di creare una specie di passaggio del testimone di tramando generazionale che è per noi un obiettivo fondamentale per dare continuità vera a tutto il lavoro che si sta facendo adesso grazie agli splendidi relatori di questa mattina grazie anche l'obiettivo centro che ci ha consentito di condividere in diretta questo incontro con le tante persone che non hanno potuto essere qui perché sono lontane o perché avevamo già esaudito i posti disponibili e ricordo a chi si collega da remoto che il collegamento per il pomeriggio ha un altro codice di accesso e quindi di cambiarlo perché altrimenti non si riesce a rientrare tutti gli altri che torneranno ci vediamo tra poco grazie grazie sapendo che stiamo studiando un artista che nei 75 anni della sua vita ha prodotto una quantità di opere tale che il nome il suo nome è sempre presente negli inventari antichi delle quadrerie ma è altrettanto noto a tutti che non è sempre facile capire se il documento che stiamo leggendo parla di un originale o di una coppia quando per un parere veniva mostrato un quadro a Sir Dennis Mahon e lui non era convinto dell'attribuzione a Guergino iniziava il discorso così non ci sono dubbi questo quadro è certamente uscito dalla casa del Guercino una battuta molto simpatica che ha portato poi alla redazione del libro di Priscobani su Benedetto Gennari e la bottega di Guercino che uscì nell'86 no la consapevolezza di un datenghier iperattivo era da tempo molto chiara anche a Mahon infatti diceva che non passava una settimana che nelle aste non ci sia un'opera attribuita a Guercino ogni settimana io sono fortunato perché ho un amico Daniele Gomoni che ha un alert Guercino nel computer che gentilmente mi gira sempre ogni settimana mi gira le immagini e quindi parafrasando il titolo di un libro su Caravaggio di Tommaso Montanari anche noi possiamo dire che la madre di Guercino è sempre incinta d'altronde anche un biografo antico e coevo di Guercino come Giovanni Battista Passeri nella vita dei pittori che hanno lavorato in Roma scriveva che il pittore soprattutto dopo il 1623 aveva tante richieste che virgolettato per sfuggire la confusione della quantità dei quadri a lui commessi scriveva dietro alla tela il nome di quello che lo aveva ordinato Passeri negli stessi anni anche il bolognese Carlo Cesare Malvasia scrive della produttività di Guercino e cita montagne di disegni nella sua casa di Bologna infatti noi sappiamo che sono più di 5.000 i fogli i disegni lasciati da Benedetto Gennari alla sua morte ai figli di suo fratello Cesare Filippo Antonio Giovanni Francesco anzi per l'esattezza sono 5.600 i disegni complessivamente citati nell'inventario famoso del 1719 vale quindi la pena ricordare anche che cosa è successo negli anni successivi dopo il catalogo generale dei dipinti di Guercino di Luigi Salerno contava nel 1988 353 opere mentre il catalogo generale pubblicato nel 17 da Nicola Sterner ne pubblica 508 quindi circa 30 anni secondo Turner i dipinti del maestro sarebbero presciuti di 155 unità una cifra enorme che non trova naturalmente una unità di pareri tuttavia i quadri ci sono tanti quadri documentati tanti quadri che non sono documentati che però trovano pareri unanimi e tanti quadri che non raccolgono l'unanimità dei pareri i materiali guercineschi quindi non ci mancano infatti recentemente ci sono stati contributi molto significativi come il bel libro di Raffaella Morselli professione pittore il catalogo emozione barocca curato da Daniele Benati per il comune di Cento il numero della rivista di storia dell'arte dedicata al Guercino la mostra del Guercino che è ora in corso a Bologna e per arrivare al lavoro che sta compiendo e ha già compiuto e sta ancora compiendo il laboratorio di diagnostica dell'Università di Bologna guidato da Barbara Gheffi e Chiara Matteucci negli ultimi tempi molta attenzione è stata riservata anche al confronto fra i maestri e i collaboratori e anche di questo ci parlerà dopo Barbara per concludere voglio ricordare solo che Mahon già nel 1968 rese nota la minuta di una lettera di Guercino dove il pittore lamenta che una coppia dipinta dal signor Bartolomeo Genari mio allievo sia stata messa in vendita come un originale poi Guercino continua la lettera dicendo mi dispiace molto oltremodo l'intendere che siano date coppie per originali si offende così anche la mia reputazione quindi vedete che Guercino sembra davvero contrariato di queste coppie che circolavano come opere sue anche se grazie alle ricerche di Francesca Curti che sono nel catalogo della mostra bolognese vediamo però che era proprio lui Guercino che autorizzava l'esecuzione di queste coppie e che venivano poi vendute a un terzo del prezzo degli originali è evidente che questo documento pubblicato dalla Curti apre scenari nuovi e ve ne segnalo solo un altro prima di passare la parola all'amico Gonzales tratta sempre dagli stili della Curti è una lettera del 1634 scritta da un fiduciario della famiglia romana Mattei di Paganica dove si informa che il cardinale Gaspar Mattei si informa al cardinale che Guercino di ritorno da un viaggio a Loreto soggiornò a Pesaro ospite di un suo committente che approfittando della presenza del pittore in città mostrò un quadro raffigurante Jaele Sisara che era stato proposto al cardinale come originale nella lettera però c'è scritto che l'artista Giovanni Francesco davanti a questo quadro disse che era una coppia e durante quel soggiorno Guercino volò come coppie altre opere che erano state acquistate come originali dalle famiglie pesaresi comunque mi fermo qua perché abbiamo un pomeriggio intenso l'argomento è molto interessante avrà degli sviluppi anche nella mostra che ci ha presentato stamattina Anna Maria Bava e Gerso Minaschione nella mostra di Torino verrà studiato anche questo aspetto e prima di passare la parola Gonzales voglio dare un saluto Shinsuke Watanabe che so che ci sta seguendo a Tokyo è orario già di andare a letto però lui ci segue ci segue perché abbiamo fatto una magnifica mostra con Shinsuke nel museo Western Art e quindi lo saluto anche a nome di tutti voi questa sessione pomeridiana del convegno si intitola il Guercino e la sua bottega nelle istituzioni museali l'importanza delle collezioni e i progetti di valorizzazione prevede sei interventi e raccomando il relatore di non sporare i venti minuti concessi cominciamo con il primo intervento Francesco Gonzales che è qui alla mia destra Gonzales è membro dell'ufficio beni culturali della Diocesi di Novara è autore di testi sul Guercino e sul Barocco è referente italiano della fondazione Mao di Londra e ci parlerà da Cento Novara un itinerario guercinesco insieme a Sir Dennis grazie a te buonasera mi sentite grazie Fausto vorrei ringraziare gli amici di Cento gli amici del Cento di Verocino per avermi invitato oggi e vi porto i saluti della Statenis Mount Foundation mi unisco quindi a David Xerjan nei saluti ufficiali della fondazione e ci stanno guardando appunto da Londra nel mio intervento vi racconterò un po' alcune vicende che si indrecciano anche alla mia vicenda personale di amicizia con Sir Dennis che hanno dato inizio a una serie di ricerche di studi che insomma portiamo avanti ancora adesso tutto parte nel 2005 in occasione del ritrovamento del San Francesco proveniente appunto da San Giovanni di Persiceto è una storia un po' rocambolesca io vengo sempre a parlare di questo argomento oggi cercherò di ampliarlo perché ecco non me ne vogliate però è importante perché parte proprio tutto da questa occasione scrivemo a Sir Dennis e lui subito ci rispose ci invitò insieme a Rossana Vitello allora funzionario di zona per la superintendenza per i beni storico-artistici e responsabile appunto del territorio a visitarlo a Londra di portarli a portarli alcune immagini alcune fotografie del dipinto che in quel momento era in restauro presso l'istituto centrale del restauro di Roma come vi dicevo una storia rocambolesca questo dipinto da San Giovanni in Persiceto a seguito delle esplorazioni napoleoniche finisce in Francia in Francia viene acquistato nell'ottocento da questo nobile commerciante ordinario di Campello Monti che è un bellissimo paese in Balstrona che fa parte appunto del territorio della diossi di Novara lui si chiamava Francesco e pensò bene di regalarlo alla sua chiesa parrocchiale e da lì nel 1973 viene rubato in cambio di una richiesta di riscatto ma rimase nella casa di questi laduncoli di Pogli fino alla fine degli anni 90 venne ritrovato sotto il letto di uno di questi ladri pregato a metà con una grande ferita in senso verticale e venne riportato in Italia da lì iniziò lo studio iniziò il restauro e come vi raccontavo Sir Dennis si informò subito si interessò subito di questo dipinto e ci aiutò a costruire un evento che poi ha portato il dipinto a viaggiare lo portammo a San Giovanni in Persiceto quindi lo riportammo nel luogo di origine e che ci sono alcune immagini che ricordano quei momenti a San Giovanni in Persiceto a Novara e poi in occasione del suo compleanno al Foundry Museum di Londra questa foto carina di Sir Dennis di Spalle che ammira il suo San Francesco e ecco vi faccio vedere alcune immagini da vicino il bellissimo cielo blu di lapislazuli e questo bellissimo effetto delle nubi che si diradano è un quadro singolare non c'è la presenza del Serafino è tutto quanto suggerito è tutto quanto questa atmosfera notturna con alle spalle il monte della Verna che si intravede da quegli anni dal 2006 non ci sono state più grandi novità circa questo dipinto in realtà poi appunto documentandomi e ricercando appunto in occasione di questo convegno abbiamo visto che è apparso sul mercato antiquario questo dipinto che Tarnel appunto riproduce alla mano del maestro e che ipotizza possa essere un dipinto preparatorio per la tavola di San Giovanni in persiceto lasciamo qui diciamo tutte le considerazioni rispetto appunto da questa teoria come vedete sono abbastanza diversi la tavolozza è molto diversa anche le proporzioni della figura non sono così precise rispetto alla versione definitiva però è interessante perché una certa fortuna questa iconografia la avuta e lo testimonia anche all'ultimo questo dipinto purtroppo la foto è durissima ma non è possibile si trova in un deposito quasi inaccessibile all'interno del convento di Santa Maria del Carmine a Firenze dato dalle guide ottocentesche a Francesco Curradi e facente parte della decorazione della sacrestia insieme a un pandan che raffigura l'estasi di Santa Teresa d'Avila sempre di Curradi ma che è evidentemente una copia antica del dipinto di San Giovanni in Persicetto non solo è anche le misure coincidono con il dipinto originale e qui sarebbe auspicabile una campagna fotografica e un'osservazione diretta del dipinto per cercare di capire quali siano i veri legami che portano appunto alla realizzazione di questo dipinto e poi a farlo arrivare a Firenze chissà potrebbe essere un'occasione appunto per approfondire vi parlerò poi di due capitoli in particolare un capitolo dedicato al territorio della diocese di Novare e alcune presenze di cultura figurativa relativa all'ambito del Quercino la diocese di Novare è un territorio molto ampio una delle diocesi più grandi d'Italia che si estende su tre province quindi tutta la provincia di Novare tutta la provincia del Bermano Cuseossola e parte della provincia dei Vercelli un territorio che fino al 1730 ha fatto parte del Ducato di Milano e quindi con un flusso un forte influsso della pittura lombarda milanese in particolare che in un certo senso ha fatto sì che questa novità questa ondata di novità della pittura bolognese in particolare di Percino non avessero tanta presa nel nostro territorio però abbiamo trovato alcune opere che si potrebbero appunto iniziare a studiare come per esempio questa San Girolamo del Deserto che tra l'altro proprio in occasione della mostra dedicata alla riscoperta di San Francesco noi presentiamo a San Dennis un po' ad omaggio lui non conosceva questa copia la chiamo copia ma in realtà dovremmo anche qui approfondire dovremmo restaurare per capire un po' meglio appunto le dipendenze circa l'originale del Bercino e l'ho avvicinata ad altre tre due versioni quella di San Pietroburgo e poi quella della Galleria Corsini ma che in realtà appunto fa nostro riferimento a questo bellissimo dipinto oggi conservato nella chiesa di San Tommaso di Albino ma in realtà proveniente dalla chiesa di Rosario di Cento chissà il nostro dipinto è interessante perché nella parte superiore a differenza delle altre copie dove non compare la nuvola con la Vergine qui c'è un accenno della nuvola quindi chissà potrebbe essere una tela decurtata potrebbe essere una copia anche qui un argomento da ampliare che però è una delle poche testimonianze dirette appunto in ambito di Bercino ci spostiamo sempre nel territorio e approviamo invece a Borgomaniero vedete l'ingresso all'interno della chiesa di Borgomaniero in alto nel presbiterio è conservata questa versione settecentesca del martirio di San Bartolomeo documentata 1715 proveniente da Roma una copia ecco che fa riferimento all'originale come dire in condizioni pessime di configurazione quasi perduto di Siena ma che grazie alla copia di Jacinto Campana conservato a Marino d'Aziale può essere cioè la copia può essere il modello per il rifacimento di Borgomaniero attraverso anche l'ausilio della copia e della stampa ed è interessante Jacinto Campana è un pittore che tra l'altro finisce la sua carriera in Polonia alla corte appunto al Porta Colacca si forma con Guidoleni e con Albani e realizza appunto questa copia e il ritenimento diretto del dipinto di Borgomaniero è la copia non è l'originale di Guercino ma è la copia e qui ci sono alcuni particolari vedete la prima versione di Guercino dello Sgerlo la copia di Campana la versione di Borgomaniero e la stampa ed è proprio diretta la dipendenza quindi chiaramente il pittore romano ha visto la copia di Marino e l'ha riprodotta per Borgomaniero ecco questi sono alcuni particolari poi anche qui l'importanza delle stampe nella diffusione della poetica del Guercino e qui ci troviamo sempre nel Novalese a Bocca nella chiesa di Parrocchia di Bocca è conservato questa pala con il matrimonio mistuto con le due santi Santa Rosa da Lima e Santa Mattarena Mattarena dei Pazzi che derivano dalla stampa di Curti che deriva dalla Cesare Gennari del dipinto appunto di cui parlavamo ieri con Cristina donato dagli amici della Pinacoteca appunto ed esposto nella nuova allestina quindi è interessante come i pittori del nostro territorio facessero riferimento a un catalogo di stampi di iconografia di Guercino per ispirarsi riguardo l'invenzione riguardo appunto l'originalità delle cose e in ultimo questo dipinto di Cesare Piore un pittore della seconda metà del secolo poco noto ma anche qui la dipendenza diretta dalla stampa di Paolini con le tentazioni di San Girolamo un pittore che non ha fortuna di critica che non è un pittore eccesso ma che grazie al modello grazie a questa maglia creata appunto da Guercino da questa invenzione eccezionale riesce a realizzare un'opera di qualità che si trova appunto nel presubiterio della chiesa San Francesco a Trecate dei monaci dei francescani presenze bolognesi in Ossola l'Ossola è una zona appunto particolarmente interessante in questo momento storico la presenza e le origini di Papa Innocenzo IX come bolognese nato a Bologna ma facendo parte di una famiglia originale della valle Antigorie una delle valli più impervie dell'Ossola questa origine della famiglia è molto importante lui la ricorda sempre è un Papa che regna pochissimo tre mesi ma in questi tre mesi appunto riesce a instaurare una serie di rapporti che da Bologna arrivano direttamente in Ossola l'Ossola è una terra di migranti la nostra è una terra di migranti per due secoli dal Cinquecento alla fine del Settecento e anche gli Ossolani vanno a Bologna a fare i lavori più umili Papa Innocenzo IX si chiamava il cognome Spacchini proprio perché la famiglia è una famiglia di Spacchini umile una famiglia umile però che dà la possibilità appunto a questo ragazzo di formarsi e di studiare nella chiesa parrocchiale di Mozio e di Crodo c'è quest'opera datata e firmata Giovanni Battista Gennari che io ho messo insieme a questo piccolo visino di San Carlo Borromeo della Pinacoteca di Cento Gennari è uno appunto ci troviamo all'inizio del Seicento qui la tela è datata a 1613 appena dopo la canonizzazione di San Carlo Borromeo ed è una delle prime immagini che raffigura appunto San Carlo del Lazzaretto e questo è interessante perché arriva da qui arriva da questa terra e concludo con questo bel dipinto di Giovanni Battista Tigerini sempre in Valle d'Ossola a premio della Chiesa Rocco anche qui siamo al 1668 un'opera interessante di un pittore che in questi anni ha ancora dei riferimenti quercineschi guardiamo i particolari molto interessanti molto belli della tela e il bellissimo San Giovanni Battista io ho cercato di riassumere in questi pochi minuti in questi pochi slide un viaggio un viaggio attraverso il territorio un viaggio che Sir Dennis ha fatto insieme a noi che continua a fare anche nella nostra memoria e allora vi saluto con questa piccola foto della collezione personale di Sir Dennis che ha detto il giornale a casa mia prima di ascoltare prima di prendere l'aereo per ritornare a Londra nell'ultimo viaggio che lo ha visto con l'agonista della nostra storia grazie bene ringraziamo Francesco e Gonzales delle novità che ci ha dato sulle varianti e sulle copie che noi non conoscevamo e del San Francesco del martirio e della dipendenza e la fortuna che le stampe hanno unito ai vittori e l'iconografia che hanno potuto dare diversi soggetti ricavati appunto dalle stampe come quella di Cacolini che ci ha mostrato prima io ho letto il titolo della sessione della mattina mi sono sbagliato il titolo della sessione pomeridiana è il guercino e i suoi collaboratori studi recenti ricerche nuove prospettive proseguiamo adesso con David Stone professore in merito di storia dell'arte all'università del Delaware membro del comitato scientifico del centro studi è autore di saggi sul pittore e siccome sono molto curioso di ascoltare cosa racconterà di questo frate con un orecchino d'oro ricordo solo la sua bella monografia sul pittore fatta nel 1991 e il suo catalogo Guercino maestro del disegno opere delle collezioni nordamericane il titolo della conferenza del professor Stone è nemici amici guercino e bisi considerazioni dopo la mostra di reggling non scappo devo devo camminare per perdonare pensare grazie mille al centro studi al nostro presidente valerio per avermi invitato e sono molto grato alla fondazione Mound che mi ha sostenuto in molti modi come forse voi sapete già che parlo oggi di una mostra che ho organizzato in Florida al Ringling Museum e abbiamo vedrete dopo un catalogo per questa mostra che fu finanziata da molti e soprattutto la fondazione Mound per cui sono molto molto grato grazie Pausto che ho incontrato il giorno dopo ho incontrato Dennis Mound e Tristo Bagni che penso era più o meno novembre di 84 quando si e poi siamo andati a Cento che era una cerimonia e ci ho incontrato che era 40 anni fa forse ero 82 la cittadinanza onoraria no no era 84 perché vivevo a San Lazzaro per un anno e proprio quando sono venuto ho incontrato Sir Dennis per la prima volta e poi tu il giorno successivo due giorni dopo e poi siamo andati a Piacenza se non mi ricordo se mi ricordo correttamente ok io parlerò di Bisi chi è Bisi vedrete è un frate conventuale minore a San Francesco a Bologna è un miniaturista per eccellenza molto famoso è un mercante d'arte veramente interessante non solo quadri e sculturi ma specialmente disegni diventa un conoscitore magnifico dei disegni io parlerò io parlo oggi per un secondo della mostra voglio parlare un po' in profondità di quello che ho scritto nel catalogo delle lettere di Bisi che parlano che danno opinioni sul suo rapporto con Guercino e delle opere del Guercino che lui tratta o che parla di queste opere in generale che voi forse sarete sorpresi per quel che dice questo Guercino diciamo sotto le palme a Sarasota siamo tutti dipinti in rosa e c'è in fondo c'è Michelangelo di bronzo Davide che sorveglia tutto e questa è la copertina del libro che raffigura il quadro importante che il Ringling ha acquistato da Christie nel 2015 che raffigura questo frate molto interessante con un orecchino d'oro e abbiamo fatto delle ricerche per capire perché un frate porta un orecchino d'oro ma non l'abbiamo risolto la mia collega Sara Cartwright ha tornito un saggio interessantissimo e forse c'è un po' di letteratura su questo che l'orecchino d'oro aiuta con il senso della vista e lui come miniaturista forse serviva teoricamente per assistere nella vista non sappiamo io per dire la parte mia non sono convinto ma è molto interessante voglio sapere di più perché questo orecchino è molto eccentrico per un frate voi notate che il suo nickname sobri che è il pittorino che all'inizio ho pensato ma questo è molto sarcastico forse è una persona di bassa statura che non lo era particolarmente ma è un gioco di parole perché lui fa miniature dunque non pittori ma pittorino ma alla fine di questo discorso forse c'è un altro significato vedrete allora la prima stanza è dedicata a un confronto fra guercino nell'autoritratto famoso dal National Gallery di Washington e il bellissimo ritratto di Easy che è il cuore di questo focus exhibition e sono lì in confronto anche perché ho voluto datare questo quadro che non è quello del renguille non è nel libro di conti che non è nominato nel mondo ma Sir Dennis ha suggerito che forse non è presente nell'uno nell'altro perché non fu commissionato ma era un dono perché guercino e Easy furono amici e allora ecco perché forse fu donato dal pittore al frate questo è il punto del discorso di oggi di riconsiderare esattamente l'atteggiamento di Easy nei confronti del guercino non ho lettere del guercino che parlano di Easy dobbiamo soddisfarci di avere un ritratto di guercino del busy di parlare per l'atteggiamento del guercino abbiamo molto di più da busy di ciò che pensava al guercino dunque la seconda parte della mostra si concentra su busy come miniaturista per eccellenza e grazie a David Exurgeon ho nella vostra la sanguina bellissima di parmigianino che fu il modello per quello nel centro in basso della Madonna con il bambino e parliamo della tecnica di busy parlerò più lungo in un momento che dipingeva con punti non linee ma con punti ed era famosa per quello la pergamena negli pergamena nelle pergamena si tempera su pergamena con punti ci saranno dei particolari in un momento una novità è questa carta gloria che fu pubblicata in un fascicolo francescano ma completamente ignorata dalla letteratura su busy ed è questa in tre parti un trittico che si trova nella basilica di San Francesco ad Assisi e fu donato da lui da busy alla basilica ed è firmato e datato una cosa incredibile per la storia di busy firmato e datato nel 645 e come vedete dipinge con questi punti questo trattato dalla trattata dalla logica del Vaticano da Raffaello forse lui ha visto incisioni ma forse anche una coppia ad olio che circolava in Emilia e San Francesco ce ne erano e poi la seconda sala la stessa sala con le miniature vuole creare un contesto per busy per l'educazione e formazione di busy abbiamo messo il grandissimo quadro dell'annunciazione che era a Reggio Emilia ma adesso è nel Greenling che era sopra un arco e voi sapete che Guercino ha sbagliato gli angoli originalmente era molto molto arrabbiato ha detto pensavo di aver finito quando mi sono reso conto non ho neanche iniziato non è finito sono proprio all'inizio e ha avuto di ridipingerlo non sappiamo cosa è accaduto con l'originale forse l'ha buttato via non sappiamo o l'ha rivenduto o l'ha tagliato in tezzi non sappiamo questa è la seconda versione che stava sull'arco e per molti molti secoli era a Reggio adesso al Brinko e abbiamo aggiunto grazie al Museo Civico di Modena questa bellissima opera di Lucio ma sai che fu il maestro di Visi questo sappiamo grazie a Malvasia e forse è un quadro dipinto verso 1615 un quadro bellissimo che fu restaurato leggermente pubblico leggermente per la nostra mostra e siamo molto molto grati al Museo Civico a Francesca Piccinini ed altri un prestito assolutamente incredibile è questo Guido Reni da Raleigh North Carolina Museum of Art che secondo me fu richiesto molte volte per mostrare e mai dato un prestito perché è troppo fragile ma abbiamo avuto successo nel convincere il museo a prestare a Florida che non è tanto tanto vicino non è tanto tanto lontano da North Carolina un quadro veramente spettacolare con delle pennellate freschissime e che fu nella sagrestia dell'Escoriale per più di un secolo fu comprato dal Filippo IV una cosa allucinata e Bizi era innamorato di Guido Reni come dice Malvasia e faceva miniature da Guido Reni forse in prevalenza agli altri come Parmigianino Raffaello eccetera allora voglio parlare per un secondo di due sale della mostra Bizi come mercanti d'arte per la Corte di Estense e poi anche per Leopoldo dei Medici vedete qua che tiene in mano una sanguigna e questa sanguigna è un ritratto di Alfonso IV un cliente stupendo di Bizi e abbiamo messo anche un quadro che raffigura Francesco Primo Desti nel quadro Nella Natura Morta che raffigura il busto di Bernini attribuito a Francesco Strinca che è a Minneapolis che generosamente hanno prestato questo bellissimo enigmatico quadro al nostro museo Bizi ha lavorato molto per Francesco anche se le lettere rimaste non sono molte ci sono molte di più per Alfonso IV il successore ma all'avvar Bizi ha lavorato anche per Alfonso Primo che è diventato Zucca e ha lavorato moltissimo e abbiamo molte lettere per Bizi indirizzate a Leopoldo dei Medici e gli uffici erano generosissimi a darci questi bellissimi disegni e ho scelto i disegni per ognuno avviano una serie di lettere che parlano della bellezza di questi disegni e la proposizione di la proposta per l'acquisto dalla parte di Leopoldo per esempio il signor Marchese Koschi che abita a Bologna ma è un tipo di ambasciatore diciamo rappresentante dal Gran Duca di Toscana presso Bologna il signor Marchese Koschi ha informato quanto caccia di fatto a tornare un disegno del Parmigiano non più grande di una lettera serata ma è di tanta esquisitezza che fa impazzire i dipitori in vederlo spero averlo ed è una di donne fatta da non so che tanto di gente che per fatta dare basta la vedrà grazie Gesi Bisi come miniaturista e la critica è un'altra sezione della mostra e basta mostrare questo una poesia dedicata alla tecnica di Bisi forse l'unico pezzo di penso scommetto che è l'unico pezzo di letteratura nel Seicento in Italia dedicato alla tecnica di un pittore il punto molto reverendo padre Bonaventura Bigi famosissimo pittore perché dipinge tutte le sue opere a soli punti e lui sapeva già sapeva senz'altro delle miniature che lui faceva da Guido Regni come dice Maldivia e ecco i punti un particolare che mostra i punti bellissimi di Bisi o Sorà di Bologna un puntinismo assolutamente molto antisugnano molto avancato per il suo tempo dipingere con i punti e lui era veramente famoso questo non è la sola cosa nella mostra un pezzo di letteratura scampato c'è un'altra c'è una lettera da un frate Palantieri che parla più o meno delle stesse cose ma la poesia è bellissimo 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 tu d'appunto immenso cavi il cielo formi il suolo scopri l'inferno è assolutamente bellissimo può con punti formare sferre novelle come a prove si belle e va così per pagine in metafore ognuno con qualche idea bellissima del significato dei molti significati della parola al punto ed è il concetto del punto è brillante Luigi e Manzini brillante parliamo di un secondo Manzini è quello è l'astronomo che ha scritto l'occhiale o l'occhio e c'è un bellissimo ritratto nella biblioteca universitaria di Bologna e si vede qua fra questi libri questa pubblicazione molto importante l'occhiale o l'occhio che insegna come fare lenti per canocchiali eccetera Manzini incredibilmente abbiamo questa lettera diretta a Leopoldo dei Medici nel 1667 sette anni dopo la scomparsa otto anni dopo la scomparsa di Bici la scatola che manda custodia di un quadretto di pittura è una donna che per essere di un emolo di Guido Reni non posso chiamarla di Guido ella ed ho frate franciscano detto il pittorino il quale pochi anni sono morì praticava questi la dottrina degli indivisibili cioè il precursore del calcolo integrale componendone infiniti per immagini più belle del naturale e di c'ho dono per un principe per suo ma che è povero ancora il donatore non è però picciolo la fama di chi lo fece l'opera lo darà al maestro questi sarà il mio nome presentato a vostra serenissima altezza dal signor bla 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 è incredibile letta sette anni dopo la scomparsa di Bici è un dono impregiato che questo brillante astronomo che va infatti da Bologna lascia Bologna e va nel circolo di Leopoldo dei Merici con altri scienziati ed ha un dono di Bici e parla della dottrina degli invisibili come Bici in qualche maniera ha un senso dell'importanza di dividere lo spazio in un'infinità di atomi colorati poi un terzo Manzini ho voluto trovare qualcosa se anche il terzo fratello conosceva Bici o le opere di Bici e ho trovato qualcosa interessante che voglio condividere con voi questo nonostante quasi accanto il doppio ritratto di Giovanni Battista Manzini che forse era fra i più grandi amici del Virginia e voi conoscete questo articolo questo stato importante nel catalogo di 92 a quello di Sir Dennis Mann che parla di una lettera pubblicata da Giovanni Battista Manzini scritta da Sibylle Everchiffer nello stesso catalogo un'amica di Guercino il famoso poeta commentatore Giovanni Battista Manzini pubblicò nel 1646 sei un appassionato di tese dello stile robusto del Guercino innescato da recenti critiche provenienti da un anonimo artista al quale si riferisce sarcasticamente come quel pittorino che lamentava la mancanza di morbidezza riscontrata in un Ercole non ancora identificato del Guercino una tela che i Manzini sembra avesse raccomandato o forse anche venduto al suo nuovo proprietario il commendatore conclude la propria ringa affermando che nella pittura è ugualmente in eloquenza le migliori cose non sono le più tenere ma le più robuste guarda la lettera pubblicata da Manzini intendo da vostra paternità l'opposizione che viene fatta da quel pittorino all'Ercole del signor Giovanni Francesco Barbieri e me ne sono fatto le più putte che domine volevli dire costui di durezza qual morbidezza possi deserare convenevolmente in un Ercole faticante questo è un Ercole da leoni non da canocchie cioè la roca con cui si fila per la lana va concepito al petto dell'idra non al petto donfale questo è un bellissimo gioco di parole al petto dell'idra e non al petto donfale chi lo rintroccia di durezza si vuole che la spara riesca taliente che la clava sia onorosa Bisi un giorno cioè adesso voglio dare un contesto perché penso che quel pittorino all'inizio è Bisi stesso Bonaventura Bisi detto il pittorino Bisi un giorno dice delle cose molto negative verso l'arte del guercino un giorno dopo la città come autorità maestrale per decidere la qualità delle attribuzioni ma un altro giorno dice delle cose molto negative si sbalza da una cosa ecco delle dimostrazioni delle contraddizioni continue voglio mettere in qualche dubbio l'idea che Guercino e Bisi furono grandi amici e che il ritratto di Bisi nel Ringling fu regolato al Bisi quando leggete le lettere di Bisi dirette verso Leopoldo dei Medici si può vedere la situazione è più complessa non sappiamo chi fu il committente del ritratto di Bisi molto più probabile del Guercino come amico donatore donatore fu Alfonso IV che forse voleva va questa in idea nipotesi che forse voleva del Guercino un ritatto del suo fedele consulente artistico cioè Bisi ma non ci sono le prove per dire questo è solo una possibilità 54 marzo Bisi all'Empolvo per il trocaccio invierò a vostra altezza un'estima di disegni un'estima di disegni e cioè il presepio di Ciziano un presepio di Tadeo Zucchero che infatti è nella mostra un altro presepio che è ritenuto di Raffaello ma io credo di Mastro Viaggio dei Pupini cioè Viaggio dalle là è però molto bello e tre disegni del Guercino li quali tre a me poco piacciono ma li mando perché così ella mi comanda dalla sua ultima o questo del 55 non ho però anche potuto vedere Fritzi per riavere dei disegni da rendere al padrone e Fritzi era un mulattiere a Pianoro che trappicava nei disegni qua e là tra Toscana e Bologna erano molto importanti per Disi e non so se non rendere grazie al nostro Signore del buon pensiero che venne a vostra altezza di volere prima vedere i disegni che farne la spesa perché se ella li avessi comprati e poi non fossero stati di suo gusto io ne morirei di passione tutti quelli che non piacciono a vostra altezza e tutti che non piacciono a Leopoldo sono gli stessi che pure a me a Disi pure a me non soddisfano ma al parere del Guercino sono gli medi e li stima esquisitissimi che però io le dissi se si ricorda che la sua parere io ne favo poco capitale e mi pareva che dasse per di fuori poi un altro giorno nel 58 dice il contrario il signor Marchese Cospi ha fatto l'acquisto di 5 pezzi di marmo per vostra altezza e questo col parere che parere del signor Giovanni Francesco da Cento e io ho detto il mio parere sebbene dichiarano non aver cognizioni di cose antiche ora il principal pezzo è la testa di Treano quale mi pare molto bella e dicono essere antica di più nel medesimo studio vi si è veduto una testa rifrata dal vero di mano dell'abate Trimaticio la quale è stata commendata dal suddetto signor Guercino in estremo e veramente bella ecco una lettera molto positiva è anche questa se poi avesse caro un bel quadro del Guercino io mi trovo un putto con una testa di morto nelle mani in un paesino grande da naturale stimato da tutti gli pittori bellissimo quale mi ha fatto con grande premura il tutto ho prezzato scudi 90 il quadro è perduto ma questo è il disegno preparatore anche lui ha gli uffizi e il quadro è entrato nell'inventario mediceo ma è perduto allora nel tempo che sono stato fuori di Bologna il signor Giovanni Francesco da Centro ha dato fine ad un mio quadretto soggetto non in nominato ma per mia mala sorte non mi piace niente eppure sono astretto a dire che sia di mio gusto poi nello stesso letter io poi le presento il mio addone del guercino questo è ovviamente un disegno fatto nel tempo buono che forse è un'indicazione che Bisi preferiva il periodo iniziale giovanile e non il periodo tardi però non sappiamo esattamente cosa vuol dire fatto nel tempo buono ma sta a sentire è per maggiore autentica guardi il suo roveggio che vi troverà un braccio fatto di gusto caraccesco un'indicazione secondo me che è del segno di giovanile e questo piace ma il quadretto niente malassorto non mi taggiano agosto cinquantanto spero mandarli quanto prima alcuni disegni di quelli mi arrivano e con buona condizione mi dispiace che quelli di Lucatelli Lucatelli cioè una collezione che volevo comprare per Leopoldo dei Venici spiace che quelli di Lucatelli sono dati nelle mani dello più strabico persone del mondo e chi può essere questa persona più strabica al mondo oh non so il Guercino ovviamente e questa è una cosa molto interessante guardate la data di questa lettera 31 dicembre cinquantotto a Leopoldo l'Eurocchile che io ho mandato del Guercino io veramente questo è un disegno di Eurocchile che Bisi amava moltissimo aveva nella sua propria collezione veramente lo credevo più bel disegno che si trovassi in quel mastro c'è il Guercino e con tali occasioni da parte vostra altezza come un francese ha comprato da lui quel rame della prima maniera che voleva una volta vostra altezza questo è una novità Leopoldo ha voluto comprare questo quadro famoso di Sardenas adesso nella National Gallery della prima maniera e l'ha pagato questo francese Trichet Dufresne cento doppie cosa che veramente mi ha fatto stupire perché io non li avrei dato cento studi e guarda questo accuso la mia poca devozione a questo mastro dice delle cose scandalose ogni altra lettera sbalza da un'opinione all'altra anche perché sono convinto è gelosissimo del Guercino è gelosissimo perché Leopoldo vuole tutti i Guercini che ci sono vuole tutto vuole tutto una novità è che Maldesia dice che l'acquisto di Raphael Trichet Dufresne ha regalato anche il suo trattato di Leonardo e questo da Maldesia che era 1660 ma invece l'acquisto fu due anni prima nel 58 questo è una novità io concludo con questo ritorno alla lettera pubblicata di Manzini diretto al Benedettino di Piacenza che inizia con quel pittorino e l'idea che l'ergole del Guercino fu troppo troppo duro voleva la morbidezza e Manzini difende Guercino bisogna avere le cose robuste e conchiudo Manzini scrive conchiudo che nella pittura e ugualmente nell'eloquenza le migliori cose non sono le più tenere ma le più robuste e il signor Giovanni Francesco nostro che non ha bisogno di Mercurio che gli ha diti la strada ben se ne vive fin da giovinetto e lasciando gratia a quegli ingegni effeminati a quali non pare dipinta nessuna cosa che non sia miniata attende al soldo cioè ai quali non pare dipinta nessuna cosa che non sia miniata che non è fatta come miniatura chi può essere questo pittorino se non il nostro busy miniaturista e chiudo con questo che abbiamo aperto una finestra al rapporto che busy aveva con Guercino il suo atteggiamento la sua opinione delle opere del Guercino e anche usava Guercino come un esperto quando serviva altre volte parla malissimo di lui con Leopoldi cioè era geloso un momento ma evidentemente era reverente reverentissimo in altri momenti forse a lui piaceva di più il periodo giovanile però approva completamente di quel culto contestio in mano che ha mandato per 90 studi ha venduto a Leopoldo per 90 studi che tutti gli editori dicono che non hanno mai visto una cosa così bella e questo è ovviamente tardi 58 dunque c'è molto da meditare sopra in questa storia ma io penso io spero che vi ho convinto che quel pittorino nella famosa lettera di Manzini che è un'opera come l'ha descritta Sibylle Vercifero è un testo fondamentale per la teoria della retorica e diciamo la teatralità nei quadri del guercino e il rapporto con l'eloquenza e l'abitura cioè una vecchia storia che rinnova un po' Giovanni Battista Manzini per questo vi ringrazio per l'attenzione ringrazio David certo che sappiamo più cose ora di Buonaventura Visi certo che ho notato altre volte in corrispondenze di guercino che guercino non amava gli intermediari e forse Visi in questo caso essendo evidentemente un mercante voleva entrare dentro affari di guercino con ricompezizioni proprio guercino non amava lui amava avere dei aeroporti diretti con i commutenti gli intermediari se poteva fare meno ne faceva meno quindi grazie comunque Visi certamente era un appassionato d'arte molto sensibile perché quella definizione del disegno di parmigianino pare fatto d'aria solo una persona ultrasensibile può fare una definizione di questo modo di un disegno e lui differenzia questo non è Raffaello viaggio delle lame non andiamo a fare un prezzo grande facciamo un prezzo modesto perché non è Raffaello lui odia di essere indannato quando visita le collezioni posso fare una notazione da pittore va detto che ad esempio la la tecnica a puntini nelle pergamene è una necessità perché la tempera se stesa in campiture larghe sulla pergamena si scaglia si scaglia e quindi i puntini sono necessari proprio perché non non si hanno si non non cadessero una volta asciutti grazie questo è una cosa no no non è piccola perché qualifica anche la tua preparazione la differenza tra noi storici dell'arte che non abbiamo pratica della pittura non abbiamo dipinto e tu invece Massimo è titolare della cattedra di pittura all'accademia di belle arti di Bologna è la differenza tra chi conosce la materia io non sapevo che sulla sulla pergamena si dovesse dipingere per forza a puntini o meglio più che per forza l'esperienza porta al fatto che se dipingi per campiture larghe poi strepa e quindi ci sono delle campiture larghe nelle pergamene ma sono rovinate massimo è membro del comitato scientifico del centro studi ricordo con piacere il suo recente romanzo malocchio i cinque sentimenti di Guercino la mostra poesia e sentimento nella pittura del seicento curata da Massimo insieme a Dennis Maone e a Vittorio Sgarbi vent'anni fa e Guercino racconti di paese una mostra che si fece qui in Pinacoteca nel 2001 il titolo del suo contributo è considerazioni sulla ritratistica del Guercino a te la parola grazie non è una formalità quella di ringraziare davvero per l'invito a Valeria e un posto qui anche perché davvero l'ultima mostra citata quella del 2001 Guercino racconti di paese trovai in Fausto un'adesione spontanea al progetto che è stato anche per me davvero l'inizio di un approfondimento di ricerche sulla figura di Guercino la cosa che ho scelto e poi mi associo anche agli ringraziamenti della fondazione Maun perché anche un po' qualche libro di quelli citati sono stati appunto appoggiati anche nel mio caso dalla fondazione di Sir Davis e per oggi io ho scelto di mostrare di anticipare quello che poi dovrebbe prendere la forma di un saggio su alcuni aspetti della ritrattistica questo lo conoscete tutti penso ed è uno straordinario dipinto di piccolo formato della collezione di Cristina e Gianni Pava che viene scoperto da Alessandro Brogi c'è al limite degli anni 2000 mi stesse non sbaglio ed è un dipinto di straordinaria qualità e bellezza e in piccolissime dimensioni riesce attraverso questa pittura di macchia a a rendere un'espressione di straordinaria intensità di questa figura di ecclesiatico che è stata identificata come un ritratto di padre Antonio Miranda e per via di una di una mantellina diciamo così della e a partire da questo dipinto innanzitutto vorrei dire che appunto il Guercino non è stato un ritrattista di professione uno specialista del ritratto ma quando ha fatto ritratti ha fatto cose di straordinaria all'ultimo sappiamo che è una materia ancora aperta per la stessa ragione che accennava anche David per il fatto che mancano sono pochissimi ritratti all'interno del libro dei conti riportati e spesso ricordo anche proprio chiacchierati in merito con Sir Dennis si parlava del fatto di come si sono avvantate ipotesi laddove il dipinto era talmente bello e di una qualità che non poteva che essere iscritto tra gli autografi ma non trovandone appunto il riscontro nel libro dei conti o nelle comunicazioni del malvasia si è in vari casi ipotizzato il tema del dono dell'omaggio e è chiaro che una situazione di questo tipo possiamo solo immaginarla ma a parte che questo dipinto appartiene al primo periodo e quindi sarebbe fuori dal libro dei conti comunque ma i due dipinti dei quali vi vorrei parlare sono invece due dipinti che sono adesso qui è un esageratamente abbampato di rosso c'è una grande differenza tra l'immagine che c'è qui e l'immagine che è in ogni caso ho ritrovato recentemente questo dipinto che dimostra una qualità intensissima e che proprio nella veste di questo ecclesiastico cela un collegamento alla cosiddetta abito rocchettino dei padri dei canonici regolari renani o di San Salvatore quindi di una chiesa di Bologna che è una chiesa particolarmente cara a a Guercino sia perché padre Mirandola che fu abate della chiesa di San Salvatore è stato anche come sappiamo il primo scopritore in qualche modo la prima figura che ha portato a Bologna e che ha introdotto a Bologna Guercino stesso a metà degli anni dieci in un disegno di primo ottocento di Filippo Ferrari che ritrae proprio la veste eseguita nel 1822 a Roma ritrae proprio penso che si veda è così canonico regolare di San Salvatore e questo per chiarire in qualche modo l'abito di questo canonico che ritroviamo appunto in questa curiosa mantellina in questo caso bianca rispetto a quella nera del retrato precedente ma una mantellina che appunto si pone dal lato destro in diagonale quasi come se fosse poi raccolta sotto l'ascella della sinistra e lo si vede appunto in questo disegno qui vi mostro un dettaglio del volto di questo ecclesiatico ma ho fatto fotografare agli uffizi anche questo dipinto che fino al 1975 era negli inventari degli uffizi ricordato come Diorcino ma che dalla mostra di Evelina Borea era stato tolto in qualche modo dalla paternità di Diorcino e in seguito a quella funzione Priscobagni confrontandosi con Sir Dennis Mao avevano attribuito il dipinto a Benedetto Gennetti ed è uno dei primi dipinti che appare nella monografia di Priscobagni sto parlando di questo appunto sulla destra che adesso non si vede molto bene perché è poco contrastato ma ha un copricacco diverso mentre la mantellina qui si vede ancora molto più chiaramente che è proprio una mantellina che viene raccolta sotto l'ascella che è tipica e unica proprio dei canonici di San Salvatore che erano dei preti regolari appunto che però avevano scelto di una vita monastica e alcuni di questi erano anche diventati preti da adulti era una comunità di preti che aveva scelto appunto di vivere in forma di monastero conventuale dentro la canonica di San Salvatore e questo appunto ha il capellino da abate vi vorrei però mostrare la evidente somiglianza di questo straordinario disegno di Guercino che nell'ultima monografia di Nicola Starner credo che se non è la prima è una delle prime fotografie riprodotte ed è identificato come un autoritratto di Guercino nonostante l'abito laico diciamo così e credo che si tratti della stessa persona e credo che si potrebbe fare una specie di un architetto potrebbe fare una specie di assonometria di tiraline tra i punti del volto del dipinto con i punti del volto del disegno per ritrovare una concordanza io direi totale salvo la presenza di un gemello insomma di una figura che possa che possa essere qui ho provato anche a voltare peculiarmente il disegno e ho provato anche ad accortarlo all'autoritratto di quercino perché difficilmente se quercino fa un autoritratto di questo tipo in pittura può fare un autoritratto in questo modo in disegno mi sembra che sia evidente al di là della similitudine del pizzesto e dei baffi e forse anche delle stempiature però la somiglianza di questi due volti io credo che sia che tagli la testa al toro ecco insomma e sul fatto che esistessero anche delle proprio in quest'ordine della dei padri renani era una sorta di di cenacolo appunto al quale aderivano anche figure terziarie esterne alla carriera ecclesiastica e non è un caso che credo che non vada considerato un caso anche il fatto stesso che Guercino si è ascolto a San Salvatore e che la storia della chiesa ricorda ricorda un periodo di ospitalità dato dalla canoni di San Salvatore a Guercino stesso questa notizia appare nella storia di San Salvatore ma non viene diciamo purtroppo fissata nelle date per cui è difficile capire se l'ospitalità data a Guercino sia stata all'inizio del suo arrivo a Cento magari quando ancora prima del suo trasferimento Centese quando magari c'era proprio padre Mirandola come come Abate oppure oppure se è qualcosa di più tanto i dipinti che io abbiamo mostrato mostrano uno stile che potrebbe venire iscritto tra gli anni 40 e gli anni 50 dell'ostile di Guercino l'identificazione con qui mi dilungherei troppo a fare comparazioni con la prima stagione di Benedetto Gennari che ha per la verità durese ritrattistiche che lo caratterizzeranno per tutta la vita nonostante nonostante il successo europeo e inglese che a cui sarà destinato ma l'intensità espressiva di questi volti se vi allaccia io credo proprio a al Buonaventura Bisi ma anche e qui mi fa piacere che l'ultima scheda realizzata sul probabile tratte Cavalieri di venga l'appunto stesso dato a Guercino con interventi di Benedetto io non trovo interventi di Benedetto in quel dipinto però in ogni caso credo che sia un'opera di Guercino di straordinaria intensità e approfitto anche per ricordare brevemente la cura e ringraziare l'ospitalità di una piccola ma significativa mostra di Nicola Samori che viene ospitata qui nella pinacoteca e che per l'occasione oltre al ritratto di Alessandro Tassoni di proprietà della galleria Ossimoro viene esporto a fianco delle opere di Nicola Samori anche il ritratto di Frate e trovo che per la verità in precedenza era stato attribuito dopo una stagione una lunga stagione di attribuzioni a Guercino dopo la diciamo il catalogo della NETA il dipinto era stato spostato nel catalogo di Cesare Gennaro trovo che però l'intensità e la qualità di questo dipinto non abbia paragoni con con la pur elegante qualitativa il di Cesare ma né appunto a mio avviso nemmeno con lo stile sempre più legnoso e duro dei dipinti che Benedetto Gennari faceva prima del partenza per i viaggi francesi e inglesi e poi non 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 mi posso dilungare ma credo che sia eloquente parli da sé questo dipinto recentemente rifotografato che è proprietà di Maria Cristina Aranuzzi De Bianco e Bologna spero che si si veda sì abbastanza bene l'ultima fotografia realizzata fatto emergere questo rosso della di fondo che che dà un'aria quasi spagnola a stete esposti fino a questa sì sì così come trovo che ci siano affinità anche sul giraldi sul giro al giraldi e per cui come dico io mi fermo qui perché il tempo a distribuzione credo di averlo già consumato è l'abbozzo di una di una ricerca che dovrà avere anche un approfondimento documentario per comprendere negli anni 50 chi fossero gli abati della chiesa di San Salvatore e anche per poter dare a queste due figure un possibile nome però l'argomento mi è sembrato talmente forte che l'occasione straordinaria di questa inaugurazione di questo festeggiamento verso il nome di Duercino mi ha fatto optare a creare una specie di anteprima di questo mio test grazie bene sono bellissimi queste quattro grazie ringraziamo massimo 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 pulini ci ha ricordo a queste immagini che ci fanno molto pensare ci si ricommette di approfondire perché effettivamente questo ritratto che ci ha mostrato ha delle similitudini con questo profilo di Vercino che ci ha fatto vedere quindi io lo ringrazio e sicuramente questo suo contributo apre la strada a delle possibili nuove scoperte anche di possibili nuove scoperte di un autoritratto in abito monastico in questo caso no ma io non sostenevo questo sì comunque sostenevo che il disegno sia lo stesso personaggio ma che non sia quel sino l'autoritratto presunto pubblicato in terra che ha dato il mio parere è che non sia quel sino quello cioè è quel sino come autore ma non come persona ritratale il disegno dove si trova il disegno oddio è passato alla sonda di di New York il 22 gennaio del 22 non si sa questo è l'ultimo passaggio perché è successivo anche alla monografia di Tart quindi lo sappiamo un po' quando ci vedo un po' via seguiti che questo è il mai ci si io prima non ho visto il non no il non si è guada prima «I don't know if I want to stay here, I don't know if I want to stay here». Allora, andiamo avanti, proseguiamo con la professoressa Barbara Gelfi, coordinaria di Storie dell'Arte moderna al Dipartimento di Grini Culturali delle Università di Bologna, coordinatrice del corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, responsabile scientifica del progetto Guercino Oltre il Colore e anche membro del Comitato Scientifico del Centro Scudi. Dal 1997 Barbara è nota a tutti per la preziosa edizione del Libro dei Conti del Guercino, ha prodotto studi sulla pittura ferrarese bolognese, fino alla cura, assieme a Raffaella Morsedi, della mostra in Guercino nello studio, che qualcosa dirà ancora adesso. Il titolo del suo intervento è Il Guercino e i suoi collaboratori alla corte di Francesco I d'Este, una rilettura attraverso i documenti d'archivio. Grazie Fausto. Mi sentite? No, mi sento. No, mi sento. Grazie. Allora, ringrazio il Centro Studi, ringrazio Fausto per la presentazione, e cercherò di essere veloce perché mi spetta il compito di fare una brevissima presentazione della mostra in corso alla Pinacoteca nazionale, di Bologna, dal titolo che ha questo titolo, come vedete dalla slide alle mie spalle, Guercino nello studio. Questa mostra avrebbe dovuto essere presentata questa mattina dalla direttrice della Pinacoteca, Maria Luisa Facelli, che però non è potuta essere qui con noi, e quindi abbiamo pensato di dire comunque qualche parola perché si tratta di una mostra vicina che è possibile visitare e che presenta alcune novità che noi riteniamo veramente importanti per lo studio del pittore centese. L'esposizione è curata da Raffaella Morselli e da chi vi parla, e non si tratta di una mostra monografica sul Bercino, ma si tratta di un'esposizione, diciamo, di studio, nella quale noi intendiamo dare conto dei lavori, degli studi, insomma delle indagini più recenti sul pittore, particolarmente in merito, cioè in particolare in merito al funzionamento dell'atelier del Guercino, cioè come si lavorava nella bottega del Guercino, chi erano i collaboratori del maestro, come funzionavano i rapporti tra il maestro e i collaboratori, e che cosa si produceva nell'atelier, cioè che cosa si poteva comprare nello studio del Guercino. Accanto a questo tema, che ci sta particolarmente a cuore, come Università di Bologna, come gruppo di studio sul pittore di cento, abbiamo in corso, come diceva Fausto poco fa, un progetto che si intitola Guercino oltre il colore, e mi avete già sentita parlare di questo argomento in più di un'occasione. Noi da sei anni stiamo, noi Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali, stiamo conducendo queste indagini tecnico-diagnostiche sulle opere del Guercino, per capire meglio come lavorava, che materiale utilizzava, quali chiudimenti, come avveniva il trasferimento dell'idea dal disegno al supporto, alla tela, come appunto poi Guercino realizzava le sue opere. E quindi il nostro gruppo di lavoro si è concentrato, proprio in occasione di questa mostra, sul funzionamento della bottega, e abbiamo cercato di mettere in risalto anche l'importanza dei documenti, dei documenti d'archivio per la conoscenza del Guercino, e delle indagini diagnostiche che abbiamo condotto in questi anni e che portano alcune novità sostanziali per la conoscenza della tecnica dell'artista. Ora, velocemente, perché non è questo l'argomento di cui vi devo parlare, insomma vi parlo stasera, vi mostro velocemente appunto alcune fotografie che sono state fatte, che sono state fatte all'interno appunto del percorso. La piccola esposizione, si tratta di una piccola esposizione, di una ventina di quadri, è all'interno delle sale della Pinacoteca, cioè i dipinti sono stati allestiti, riallestiti nel percorso museale, cioè nelle sale della collezione permanente. Qui vedete il corridoio con il primo dipinto che avete già visto questa mattina, cioè l'autoritrato del Guercino della collezione Schöpler di Londra. Questa invece è la prima sala in cui sono stati riallestiti i capolavori della Pinacoteca nazionale di Bologna, i dipinti giovanili del Guercino e qui vedete il San Sebastiano soccorso da Irene, accanto al San Sebastiano soccorso da Irene c'è la civilla già collezione Maun che riprende tale quale la figura della Santirene nel grande dipinto che il Guercino aveva realizzato con il cardinale legato di Ferrara e Jacopo Serra. Qui c'è la Madonna del Passero di cui abbiamo visto un'immagine questa mattina. Nella stessa sala poi sono presenti anche due prestiti importanti che la Pinacoteca nazionale di Bologna ha ottenuto. Questo che vedete sulla sinistra è il Dio padre con l'angioletto che è la cimasa della vestizione di San Guglielmo, capolavoro assoluto del Guercino nella Pinacoteca nazionale di Bologna. Qui di fianco c'è il San Sebastiano soccorso, scusate, il San Sebastiano della Galleria nazionale delle Marche a Urbino, un quadro giovanile importante riscoperto di recente. E poi altre opere. Questa è la seconda sala dove invece sono allestiti i quadri della maturità. Scusa. L'investizione? Eh, io non ho fatto ognuno questo powerpoint. Quindi non so neanche quale fosse l'interruzione. Mi dispiace, vi sto mostrando il powerpoint della dottoressa Pacelli che spero sia d'accordo. Vi sto mostrando insomma quello che ho a disposizione. Allora, questa è la seconda sala della mostra nella quale vediamo i capolavori della panatura del Guercino dopo che il pittore si trasferisce a Bologna come sapete nel 1642 e nel 1647 realizza questa straordinaria pallantare per la Certosa di Bologna con San Bruno in adorazione della Madonna col bambino e vedete che qui c'è una teca proprio accanto al dipinto e in questa teca abbiamo collocato per la prima volta esposto accanto ai quadri il libro dei conti del Guercino cioè il suo registro contabile il libro gestito da Paolo Antonio Barbieri cioè suo fratello e dove venivano annotati tutti i dipinti non tutti, perdon non tutti variate volte cioè nel libro dei conti non ci sono tutti i dipinti che il Guercino realita ce ne sono una buona parte d'accordo? e poi quelli che invece regala o per cui ci si dimentica di annotare il pagamento piuttosto che mi dica scambio con Ultramarino con Lacus Lazuli non sono schedati nel libro ah ecco allora ci sono vari motivi per cui alcuni dipinti non si trovano annotati nel libro dei conti però il libro dei conti è un documento di cruciale importanza per ricostruire la carriera dell'artista perché abbiamo un gran numero di dipinti da lui prodotti in un arco di tempo che va dal 1629 al 1666 anno della sua morte nel libro dei conti quindi sono annotati i committenti si sa quali erano i committenti del Guercino quanto veniva pagato che tipo di dipinto realizzava in che formato eccetera eccetera quindi come vi dicevo i documenti sono importanti e tra poco vi parlerò di altri documenti importanti per lo studio del pittore qui vi mostro altri dipinti esposti in mostra questi sono due quadri due dipinti importantissimi di Paolo Antonio Barbieri che provengono da due collezioni private da una parte abbiamo questa bella Natura Morta che purtroppo forse non si vede benissimo di fianco la bella Ortolana che conta le monete che avete visto anche questa mattina due quadri diciamo centrali nella produzione di Paolo Antonio Barbieri pittore di Natura e Morte e che cosa ci dice cioè abbiamo esposto questi dipinti anche per far capire che all'interno della bottega si producevano oltre a fare d'altare oltre a quadri soggetto sacro anche altri generi di pittorci anche altre tipologie di dipinti come la Natura Morta ad esempio e poi nella bottega di Guercino si potevano comprare ritratti paesaggi e copie autorizzate dal maestro prodotte dai loro allievi dai suoi allievi questa è una delle grandi novità di questa mostra ed è stato in parte detto cioè gli allievi i collaboratori scusate del Guercino in particolare Bartolomeo Gennari e Matteo Lovess siamo sicuri che producessero copie autorizzate dal maestro nel senso che era lo stesso Guercino Guercino era a conoscenza di questa attività queste copie erano identiche agli originali perché abbiamo ritrovato queste lettere Francesca Curti ha ritrovato queste lettere nell'archivio di Stato di Roma dove Bartolomeo Gennari scrive al Barone Mattei dicendo appunto proponendogli delle opere che in quel momento le copie di opere che in quel momento si trovavano in bottega Bartolomeo Gennari scrive vengono benissimo le faccio benissimo costano un quinto degli originali e vedrà che sarà molto soddisfatto la cosa interessante è che le propone al Barone Mattei non le propone a qualcuno che non si può permettere di comprare Guercino perché il Barone Mattei aveva già delle opere del Guercino nella sua collezione ma evidentemente c'era questa passione per lo stile Guerciniano per opere Guerciniane e quindi anche come teggi importanti comprano copie che vengono dalla bottega del Guercino a proposito delle copie abbiamo esposto questi due dipinti che sono La negazione di Pietro e Lotte e le figlie e queste sono due copie da opere importanti da dipinti importanti del Guercino conservate in collezioni private tra l'altro questa negazione di Pietro è un quadro che ha voluto fortemente Dennis Maun per la Pinacoteca nazionale di Bologna era diciamo che aveva una vera e propria ammirazione per questo dipinto e sapendo benissimo che era una coppia però lo fa acquistare alla Pinacoteca per quanto riguarda il lotte delle figlie che vedete qui forse si vede meglio qui non so insomma questo è lo stesso quadro qui un dipinto è un dipinto di proprietà della Pinacoteca nazionale che era conservato nei depositi in occasione della mostra è stato ripulito perché un altro dei fatti importanti è questo cioè in occasione di questa esposizione la maggior parte dei dipinti di proprietà della Pinacoteca sono stati ripuliti e quindi soprattutto quelli più maturi hanno una brillantezza nuova e anche questo che è una copia abbiamo fatto il tentativo diciamo di attribuirla a Cesare Gennari dico stiamo appunto lavorando sulle copie per cercare di capire meglio chi può essere l'autore di questi dipinti non sempre è possibile capirlo ma in alcuni casi c'è parso di appunto poterlo capire come per questo dipinto che vi sto mostrando appunto che ci sembra opera di Benedetto ed ecco Cristina faceva l'osservazione si chiedeva come fosse la visitazione eccolo qua prima sala della mostra entrando il grande dipinto questo dipinto che spaventa tutti come diceva Malvasia questo dipinto originalissimo straordinario che Guercino realizza nel 1620 per la chiesa di Speri Santi Gregorio e Siro per l'altare Locatelli della chiesa di Speri Santi Gregorio e Siro a Bologna un quadro straordinario la prima pala d'altare che lui fa per Bologna e accanto come vedete c'è la sua Cimasa la sua Cimasa che ha diciamo che è un'opera straordinaria bellissima che viene dai musei di Strada Nuova a Genova i due quadri sono stati separati molto presto e in occasione della mostra è possibile vederli vicini poi abbiamo esaminato tutti questi bellissimi disegni preparatori per la restruzione di San Guglielmo la restruzione è un quadro che ha qualcosa come 26 disegni preparatori che testimoniano tutta la la genesi dell'opera il lavoro che Guercino fa per mettere a punto questo quadro straordinario un dipinto e poi chiudo che dal punto di vista diagnostico ci ha dato delle belle soddisfazioni perché quello di cui ci siamo accorti in questi sei anni di lavoro è che Guercino raramente cambia idea quando va a realizzare un'opera nel senso che nel momento in cui la esegue in cui si mette sulla tela ha già le idee ben chiare su quello che andrà a eseguire su quello che andrà a realizzare una delle eccezioni è proprio rappresentata dalla vestizione di San Guglielmo dove vedete che il San Guglielmo al centro del dipinto tiene il braccio sinistro sollevato sopra la testa qui non so se riuscite a vederlo e quindi aiuta i due ragazzi che gli stanno accanto a indossare la veste religiosa l'abito benedettino la cosa interessante di cui ci siamo resi conto facendo le indagini diagnostiche è che inizialmente Guercino aveva aveva realizzato la figura del santo con il braccio abbassato cioè il braccio era in un'attività che vedete nel disegno che sta qui a bianco poi a un certo punto quando aveva già praticamente finito la figura decide di cambiare la posizione di sollevare il braccio non sappiamo per quale motivo abbia fatto questo cambiamento sia avvenuta insomma questa trasformazione certamente facendo questo cambiando la posizione in questo modo il santo guerriero che decide appunto di convertir di accogliere l'abito religioso aiutando aiutando i due ragazzi nella vestizione dichiara la sua vocazione questo ci sembra piuttosto evidente in più lo spostamento del braccio apre sullo sfondo apre diciamo lo sguardo permette di di vedere ciò che sta alle spalle del santo il suo esercito e quindi dare come dire adesso non mi viene la parola ma insomma una composizione più ariosa più ampia più profonda la storia precedente la storia precedente perché è proprio rappresentata dall'esercito che vediamo in secondo piano ecco io passerei al mio ho dovuto improvvisare in freddissima adesso cambio il powerpoint e poi giusto dieci minuti scarsi per dirvi due cose proprio sul quale sarà il mio Valeria non mi vedevo ecco qui come vedete stasera avevo pensato di parlarvi di proprio dell'importanza dei documenti per lo studio del guercino cioè la documentazione noi siamo come dire è chiaro che il libro dei conti del guercino offre un punto di vista privilegiato sull'importanza dei documenti d'archivio per la conoscenza dell'atelier del maestro cioè ci siamo abituati a considerarlo eccolo lo vedete in questa immagine uno documento una testimonianza cruciale per la conoscenza dell'artista e qui vedete la prima carta il momento appunto in cui inizia il libro dei conti siamo il 4 gennaio 1629 in 100 e qui Paolo Antonio Barbieri spiega che nel libro dei conti verranno annotati tutti i pagamenti per i quadri realizzati da lui Paolo Antonio Barbieri e dal fratello il guercino per vari committenti è un documento quindi importantissimo in un perfetto stato di conservazione come potete vedere e sembra quasi più una memoria che un registro contabile nel senso che mentre il libro dei conti di Marco Antonio Franceschini un altro esempio importante di questo genere di documento in ambito bolognese riporta le annotazioni per i quadri fatte giorno per giorno velocemente con una grafia anche diversa con un inchiostro diverso questo è un documento veramente omogeneo nella scrittura e nell'annotazione dei singoli pagamenti ma oltre al libro dei conti negli ultimi anni nuovi reperimenti documentari e nuovi studi e grazie ai nuovi studi si è fatta luce su altre testimonianze preziose prodotte all'interno dell'atelier del guercino come ad esempio il ristretto dei successi che viene pubblicato da Carlo Cesare Malvasia un documento una sorta di memoria che gli eredi gennari cioè Benedetto e Cesare gennari che come sapete sono eredita non la bottega del guercino alla sua morte devono aver consegnato nelle mani del canonico bolognese perché poi questi scrivesse la sua biografia sul guercino quindi la biografia di Malvasia si nutre di questo appunto di queste informazioni di questo documento che i gennari gli consegnano una sorta di memoria dell'attività del guercino della carriera del guercino poi ci sono i carteggi di cui hanno parlato in diversi prima di me carteggi che consentono di aggiungere notizie inedite alla biografia dell'artista alle imprese che ha portato a termine e anche in grado di far luce sul funzionamento dell'atelier come accade appunto con queste lettere che vi ho citato prima ritrovate da Francesca Curti sull'importanza sulla diffusione sulla produzione di copie e all'interno della bottega dell'artista ci sono altri documenti che attendono uno studio approfondito e mi riferisco a quelli conservati vicino a noi vicinissimo a noi nell'archivio segreto estense depositato presso l'archivio di stato di Modena documenti che riguardano si tratta di lettere e di sostanzialmente una sostanza insomma di ricevuto di pagamento che riguardano proprio il guercino le imprese del guercino e dei suoi collaboratori un materiale eterogeneo quindi una tipologia diversa di documenti circa 40 testimonianze che sono spesso citate dalla critica ma in realtà sono state poco indagate e nel complesso non sono state mai lette in maniera sistematica e approfondita in questa occasione visto ecco qua visto il poco tempo a disposizione mi soffermo soltanto su due dei documenti conservati nell'archivio estense e mi riprometto di studiare gli altri per un'altra occasione quello che vedete alle mie spalle quella che vedete alle mie spalle è una lettera che guercino scrive il 20 marzo del 1624 al cardinale Alessandro d'Este fratello del duca Cesare offrendosi di realizzare un quadro che doveva raffigurare Alessandro Magno si tratta di una lettera citata da Dolpo Venturi quindi nota ma che non è stata mai trascritta nella sua interezza è una comunicazione che giunge al prelato poco prima della sua morte e in questa lettera guercino diciamo propone al cardinale di realizzare un dipinto con Alessandro Magno e credo che sia difficile da leggere quindi mi dovete fidare nella mia lettura guercino scrive che si propone di realizzare un quadro con Alessandro Magno nell'atto cito nell'atto di salire in sua più verde età sul famoso Bucefalo addirittura del sole cioè in direzione del sole perché come ricorderete Bucefalo aveva paura dei movimenti della sua ombra e quindi scrive guercino con lasciare in abbandono il proprio manto e aggiunge questo quadro potrà ditare la grandezza d'animo di vostra signoria illustrissima conclude poi scrivendo con la scorta del divino sole sino da più tenere anni imbrigliate le proprie passioni e rimosso ogni impedimento Alessandro sormontò felice al possesso di un'eroica virtù di certo l'intonazione così erudita della lettera perché guercino non sempre scrive ma in questo modo ha tirato la nostra attenzione insomma per il tono erudito un tono erudito che forse sposava la cultura della cerchia intellettuale del cardinale Alessandro che il maestro di Cento aveva incontrato nei suoi anni romani al servizio dei Ludovisi come sapete guercino nel 1681 accetta l'invito di papa Gregorio XV Ludovisi di recarsi a Roma dove appunto realizzerà opere di un'importanza straordinaria in quell'occasione guercino abitava vicinissimo al cardinale Alessandro cioè risiedevano entrambi in due edifici vicini nel quartiere di San Lorenzo in Lucina Alessandro il cardinale Alessandro al quale Gregorio XV aveva restituito il perpetuo la villa di Tivoli aveva radunato proprio in quegli anni attorno a sé una cerchia di letterati e musicisti nella villa appunto di Tivoli che nulla aveva da invidiare alle dimore patrizie romani a Tivoli dissero e sostarono alcuni dei maggiori letterati che animavano le vie del collezionismo erudito tra Modell Ferrara e Roma a partire dal segretario del cardinale Antonio Quarenghi e poi c'erano accanto al cardinale Fulvio Testi Ottavio Rinuccini Giovanni Battista Marino e Alessandro Tassoni abbiamo visto ieri il ritratto esposto proprio qui in Pinacoteca attribuito a Simone Cantarini e proprio Alessandro Tassoni aveva pubblicato nel 1595 tre lunghi dialoghi in difesa di Alessandro il Macedone in cui l'eroe veniva riabilitato dalle accuse di superbia violenza e ambizione e riconosciuto come modello di virtù positive Guercino quindi sceglie un tema di attualità e un'iconografia che includeva anche Bucefaro il mitico cavallo indomabile e ci sembra possibile il quadro è possibile che il quadro non sia stato mai realizzato d'altra parte questa descrizione non sembra una descrizione di un dipinto reale ma proprio un progetto per un dipinto certo è che in quegli stessi anni Antonio Tempesta pubblicava le gesta di Alessandro il Macedone e forse un motivo di ispirazione per il Guercino poteva essere rappresentato dagli affreschi con le storie di Alessandro Magno commissionati dal cardinale Peretti Montalto a partire dal 1615 nella palazzina Montalto ed eseguiti un ciclo di affreschi eseguito da Agostino Tassi che come saprete collaborerà con il Guercino proprio nel 1621 nel casino Ludovisi a Roma e un ciclo importante di Agostino Tassi e collaboratore che iniziava proprio con l'episodio di Alessandro che saliva appunto su Burcefalo per il cardinale ecco per il cardinale quindi tra Guercino e il cardinale Alessandro d'Este ci doveva essere un rapporto molto stretto quasi d'amicizia certamente insomma frequente testimoniato dalla realizzazione di alcuni dipinti veramente straordinari che Guercino esegue e ne faccio vedere solo alcuni i due magnifici evangelisti Luca e Marco in questo caso che fanno parte di una serie di quattro evangelisti conservati nella Gemelle de Galerie di Tresda quadri appunto giovanili di una qualità elevatissima non so se le foto si vedono bene forse non sono comunque si tratta appunto di opere di un'altezza qualitativa veramente straordinaria e a questi possiamo aggiungere questo bellissimo Mosè questo bellissimo quadro che raffigura Mosè passato di recente sul mercato e qui vi mostro la foto dopo l'intervento dopo il recentissimo intervento di restauro è un quadro che è stato restaurato un mese fa di proprietà di proprietà privata naturalmente che con Enrico Getti abbiamo capito provenire dalla collezione di Alessandro perché questo dipinto non aveva una provenienza sicura grazie al lavoro d'Equip abbiamo potuto capire che questo è il Mosè del Guercino che viene ricordato nel testamento di Alessandro scusate nell'inventario post-mortem di Alessandro quindi 1624 e si tratta di un dipinto davvero meraviglioso quindi un rapporto veramente importante con il cardinale un rapporto diciamo con la famiglia Ed Este che continua anche successivamente otto anni più tardi nel 1632 il Guercino si reca a Modela per mettersi al servizio del giovane nipote del cardinale Alessandro il duca Francesco I inizia in questo modo un rapporto amichevole che sarà cementato dalla realizzazione di diversi straordinari dipinti come la celebre Venere Marte Amore della Galleria Estense che avete visto stamattina perché ve l'ha mostrato Gesù Minas Pioni Orsalome che riceve la testa del Battista dei Bosati di Rennes un rapporto che porterà Guercino a Modena a più riprese almeno fino al 1649 quando il duca lo ospiterà a corte per rincuorarlo come sapete dell'improvvisa scomparsa dell'amato fratello Paolo Antonio Stasera mi soffermo solo e ho quasi finito sull'episodio iniziale di questa relazione cioè sulla prima commissione che Guercino riceve da Francesco Primo d'Este siamo nell'autunno del 1632 Guercino venne chiamato improvvisamente a Modena così è scritto nel ristretto pubblicato da Malvasia ma queste sono informazioni che vengono da casa Gennari quindi sono degne di attenzione attendibili Guercino quindi si reca in tutta fretta a Modena per eseguire il ritratto di Francesco Primo e della moglie Maria Parnese la circostanza è stata già indagata dagli studiosi a cominciare da un articolo importante degli anni 50 del Novecento di Sir Denis Mao Guercino va a Modena con Bartolomeo Gennari e Matteo Loves nel libro dei conti viene registrato un pagamento di 630 scudi che corrispondono a poco più di 480 ducatoni una somma che a queste date è davvero elevata se pensiamo che Guercino si faceva pagare in genere 120 ducatoni a figura in questo caso ne incassa 480 che significa il costo di 4 figure ok ma qui abbiamo cioè qui non qui queste sono le copie di Loves ma appunto per quanto riguarda gli originali erano ovviamente solo due quello che poi ci dice la critica a cominciare da Maon ma ce lo dicono anche Luigi Salerno e Pristo Bagni è possibile che in questa cifra così elevata 480 ducatoni fossero comprese ben due coppie di copie eseguite dai collaboratori dunque Matteo Loves e Bartolomeo Gennari eseguono ciascuno una copia di copie scusate mi tocco di parole una copia di copie d'accordo quindi i quadri in totale dovevano essere 6 i due originali più le 4 copie e a queste date Matteo Loves come ho detto prima e Bartolomeo Gennari erano tra i copisti accreditati di Guercino cioè quelli che facevano le copie all'interno dell'atelier quindi lo accompagnano a Modena vengono fatti gli originali e vengono fatte anche le copie perché quello che vi volevo segnalare è un documento ora queste sono le copie abbiamo detto di Matteo Loves che ritraggono Francesco Primo e Maria Parnese si trovano a Ginevra e sono ricondolte credo senza nessun dubbio alla mano di Loves gli originali invece al momento sono da ritenere perduti ma quello su cui voglio attirare la vostra attenzione è questo documento sempre appunto conservato nell'archivio di Stato di Modena vi ho trascritto l'intestazione la vedete appunto sulla sinistra c'è scritto lista e ricordo degli colori e spese fatto nel viaggio di Bologna di 14 marzo 1633 questo per servizio delle copie delle ritratti di sua altezza di Modena e io Matteo Loves sono eseguito al nome del signor Giovanni Francesco Vardieri allora un documento che è stato già citato che lo sappiamo che esiste però non è stato mai trascritto e soprattutto non è stato mai studiato ma questo è un documento importante perché qui Matteo Loves scrive cioè ricorda i colori e i materiali che ha acquistato a Bologna in questa pagina sono quelli che acquista a Bologna nella pagina successiva ci sono altri materiali che lui acquista a Modena insomma per così vi dico immagino che non si lega nulla ma insomma vengono elencati diversi pigmenti il giallolino il giallottanto l'azzurro tedesco il viadetto che era un anduro il cinabro di miniera e altri la terra verde il cremisi per fare la lacca il mastice per fare la vernice cioè questo è un documento che non ha mai studiato nessuno però a noi c'è un gruppo di lavoro Guercino oltre il colore che come vi ho spiegato prima da sei anni forse più stiamo facendo queste indagini sulla tecnica pittorica del guercino non solo per capire come dipingeva ma anche per avere così maggior contezza dei materiali che venivano utilizzati dalla tela ai pigmenti per noi questa testimonianza è molto importante non solo perché ha un valore in sé vi dice quali materiali la bottega e il guercino utilizzavano per fare il quadro ma anche perché la conoscenza di questi materiali sarà di grande aiuto per la conservazione di questi manufatti dei dipinti del guercino per aiutare i diagnosti e i conservatori ad assicurare una maggior conservazione una conservazione ottimale dei dipinti eseguiti dal maestro e dai suoi collaboratori spero di essere stata chiara sono andata veloce come il vento perché poi la mia idea scusate dico questa cosa e poi ne vado ma è lasciare spazio ai ragazzi che verranno dopo di me che sono i ragazzi che fanno parte del gruppo di lavoro il guercino oltre il colore e la nostra giovane restauratrice Giulia che si è appena laureata sul restauro di uno delle pitture murali di casa Benotti Chiarelli quindi la mia intenzione è lasciare spazio a loro però volevo finire con questo documento che appunto è importante per ciò che vi racconteranno loro tra poco cioè la conservazione la tutela poi la valorizzazione di queste opere straordinarie del guercino grazie mille se la fai sempre grazie ci vediamo presto città 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 vai credo che credo che vado così ora non è ma città di Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 l'andamento della fonte luminosa, cioè da dove proveniva la luce al momento in cui Guercino e i suoi collaboratori misero mano alla pittura. L'unica fonte luminosa probabilmente erano le finestre che si trovavano sulla parete corta, sull'affaccio sulla strada, da lì dovettero essere studiate le ombreggiature sulle finte architetture, anche se non sempre trovavamo grandi riscontri su questa ipotesi, per cui siamo passati a una nuova valutazione, una valutazione di tipo iconografico. Abbiamo cercato di capire dall'analisi dei frammenti come poteva essere strutturato un programma iconografico del genere in cui si alternavano delle scene paesaggistiche. L'idea proposta è stata studiata in questo modo. Sulle pareti lunghe, secondo noi, si sarebbero trovati i quattro paesaggi fluviali con scene di vita quotidiana, probabilmente legati a momenti di commercio, produzione della canapa, un'attività che probabilmente doveva avere a che fare con la famiglia proprietaria dell'immobile, quindi con la loro fortuna, la loro attività, o semplicemente anche con un retroterra culturale che aveva sempre contraddistinto Guercino giovane che lavora nella sua terra, quindi anche in casa Panini e in altri cantieri decorativi. Tra l'altro, nel recente contributo su Guercino e Ludovisi, si è anche notato che l'elemento acquatico ha una valenza allegorica molto forte in questi cicli paesaggistici, che rimanda molto spesso o al potere o al potere sul creato, quindi può avere delle declinazioni diverse a seconda del committente. Ma l'aspetto più interessante, probabilmente, erano le due pareti corte, di cui abbiamo questi riscontri qui, il frammento restaurato da Giulia di Natto e gli altri due frammenti con vedute di città, quindi non con vedute campestri, ma si tratta di vedute forse, sicuramente vedute urbane, che forse hanno a che fare con un ciclo mitologico, perché due dettagli abbastanza leggibili aiono come un racconto desunto dalla guerra di Troia, dal ciclo troiano. Vediamo qui una città in fiamme, forse che potrebbe rimandare a Troia, ma ancora di più, a quell'altro dettaglio di quell'altro frammento ci sono due macchiette, che sono due personaggi, uno in braccio all'altro, che forse potrebbero ricondurre alla fuga di Enea con il padre Anchise da Troia. Sta di fatto che, chiaramente, la lettura iconografica ristudiata, siamo ancora in discussione sulle valenze, sulla vera rappresentazione, ma all'inizio dei lavori eravamo abbastanza concordi nel ritenere che queste vedute di città dovessero rappresentare un'allegoria, qualcosa che probabilmente, come nelle storie di Provenco, andasse a mitizzare la casale, che è passata secondo una tradizione molto comune in realtà, non solo nel ferrarese, nel bolognese, ma in generale, un po' in tutti i cantieri murali prestigio. A quel punto l'ipotesi, sono state avanzate due ipotesi, partendo dal frammento A, che vi dicevo prima, che ha lasciato una traccia di segmentazione dopo lo strappo, che è qui, che è segnato in verde. Non so se si vede, perché sono un po' piccoli i frammenti, cioè le fotografie, scusatemi, ma l'idea è questa, quindi sulle pareti lunghe, in maniera speculare, le scene di paesaggio, di vita quotidiana, campestri, fluviali, sui lati corti, quindi il lato delle finestre, la parete d'ingresso, si trovano, si sarebbero trovate le vedute di città o il racconto mitologico, insomma. La ricostruzione, quindi, curata sempre da Giulia Marchantonini, la ricostruzione digitale, è stata fatta in questo modo, quindi con una fotografia grandangolare, in cui sono stati riposizionati i frammenti, secondo le nostre misurazioni, le nostre ipotesi, chiaramente, assunto per noi che lo schema iconocrafico doveva essere questo, quindi con due pareti speculari l'una all'altra, in realtà i freggi, a parte il frammento A, i frammenti erano interscambiabili tra di loro, cioè noi non possiamo da questa ipotesi capire se questo frammento, ad esempio, messo lì, nell'ipotesi 1, se dall'altro lato questo non potevamo avere sicurezza. E, alla fine, l'ipotesi è stata anche poi ricostruita con questo link, credo che, non so se sia cliccabile. Sì? Ah, ok, va bene, però si può navigare. Esatto. Sì, è possibile navigare nell'ipotesi ricostruttiva che è stata fatta con questo esempio. per il resto io passo la parola alla mia collega per… Sì, anche il microfono… Grazie. Io invece passerò ora a dimostrarvi la parte, diciamo, gli aspetti più pratici del mio progetto di tesi che riguardano lo studio e poi, in conseguenza, il progetto di Rissauro, appunto, del dipinto in questione. Siamo partiti da un'osservazione generale del dipinto per poterne stabilire lo stato di conservazione. Esso si trovava originariamente in buono stato di conservazione, non rappresentava, diciamo, degradi strutturali e soluzioni in continuità e la pellicola pittorica era ben adesa al supporto alle tele di backing utilizzate durante lo strappo. È ben visibile il rifacimento pittorico eseguito dal precedente restauratore, avvenuto appunto durante l'operazione di strappo resalente al 1961 e al conseguente restauro, e sono riscontrabili altri degradi sulla superficie, quali piccole fessurazioni, piccoli fori, caduti di colore e grandi lacune che sono state integrate dal restauratore, appunto, stendendo un intonaco di fondo sul quale poi egli ha eseguito questa integrazione pittorica, eseguita, diciamo, a righe molto russolane. Il retro del dipinto, che appunto consiste nelle tele di backing fissate su questo telaio a graticcio in legno, era interessato non diffuso da una colonizzazione biologica. In seguito, al fine di progettare un intervento di restauro coerente con la natura del dipinto e anche con le problematiche intrinseche dell'opera, si è passati ad una campagna di indagini scientifiche che ha previsto una prima fase di indagini non invasive, quindi indagini che non vanno ad interferire direttamente con l'autricità del dipinto, per poi proseguire con l'analisi microinvasive. Dopo aver studiato, appunto, l'opera in modo più approfondito, si è passati alla progettazione dell'intervento di restauro che è consistito in tre macrofasi e una prima fase di rimozione del precedente intervento di restauro, una seconda fase di rimozione delle patine biologiche presenti sul retro e una terza fase di restauro pittorico, quindi di ripristino del tessuto figurativo dell'opera. La fase senz'altro più, diciamo, corposa è stata la prima fase di pulitura che questa, diciamo, questa metodologia è stata scelta in accordo con il relatore e il restauratore Fave Bevi l'acqua ed è stata possibile grazie alla collaborazione con il centro di ricerca Enea di Casaccia e in particolare con le dottoresse Tasso e Migliore ed è stata scelta questa metodologia ancora in fase di sviluppo anche per una valenza sperimentale, poiché è una metodologia, diciamo, poco invasiva per l'operatore e il restauratore e che ha anche meno impatto poi sull'ambiente. E questa fase ha quindi previsto una prima fase, una prima parte, diciamo, di sperimentazione laboratoriale dove sono stati scelti ad hoc i ceppi batterici, diciamo, competenti per la rimozione della sostanza target, in questo caso, diciamo, la pittura acrilica utilizzata dal restauratore sulle grandi lacune. Infatti questa metodologia prevede l'utilizzo di ceppi batterici, non patogeni, nesporigeni e, diciamo, dispersi in questa soluzione gelatinosa applicata sulla superficie a contatto con la superficie dell'opera al fine di rimuovere la sostanza, diciamo, che si è targettizzata inizialmente in questo punto, appunto, la pittura acrilica. Si è passati quindi all'applicazione, diciamo, dei due ceppi selezionati, Z-Cont SM41, sulla superficie del dipinto e tramite interposizione di carta giapponese, dopodiché è stato rimosso l'impacco ed è stata quindi resa molto più facilitata a tampone la rimozione dell'integrazione pittorica delle grandi lacune. E questo è il risultato prima, non so se si vede bene, e dopo l'intervento di pulitura valterica. Dopodiché si è passati a una seconda fase di pulitura che ha previsto, diciamo, l'applicazione di un impacco su tutta la superficie esclusa dalla biopulitura e con un impacco consistente in polpa di cellulosa con una miscela di bicarbonato d'ammonio, di T.A. e acqua demineralizzata che ha permesso di rimuovere lo sporco superficiale e altri interventi pittorici effettuati durante il precedente restauro. Dopodiché si è passati a una finale, diciamo, operazione di pulitura di ritocco dove sono stati rimossi residui di integrazione pittorica tampone con una miscela di acetone ed alcol. Dopodiché si è passati alla rimozione delle patine biologiche presenti sul retro e si è deciso di utilizzare del benzalconeo cloruro divinto al 50% e questo è il risultato prima del retro. Si è passati quindi alla terza fase, quindi alla fase di restauro pittorico, vero e proprio, che ha, diciamo, ripristinato l'aspetto estetico del dipinto. Si è prima deciso di tonalizzare le grandi lacune con una base bianca per omogenizzare la cromaticità. Si è poi ricostruito la matita e righello il disegno geometrico, diciamo, che collegava questo frammento agli altri frammenti del fregio che costituiva quindi lo schema, diciamo, architettonico del dipinto e poi si è steso una velatura di base per avvicinarci più ai toni del dipinto murale. Si è quindi passati al restauro pittorico vero e proprio dove si è proceduto con la tecnica puntinato considerata più coerente con l'aspetto estetico e materico del dipinto stesso. Queste sono delle foto che ci fanno capire i vari passaggi della fase di integrazione pittorica, quindi si è partito appunto dalla base chiara e poi tonalizzata per poi passare al riempimento con la tecnica puntinato. e questo è l'aspetto finale del dipinto. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. provare come si fa con questa versione di Word dei puntini più da meno cioè quello di fianco ah scusate sono una capra perdonante sono molto abile in tecnologie sono foto devo fare una cosa soltanto allora bisogna una frase sentite allora buonasera a tutti intanto prometto che sarò breve infatti intendo semplicemente mostrarvi alcune immagini come avrete intuito che ho avuto la fortuna di trovare anche se per ora non vi posso dire dove e si tratta come avrete già capito ormai anche dal contesto insomma di questo intervento delle fotografie delle pitture di Casa Benotti non quelle che possediamo colori attualmente naturalmente ma quelle precedenti allo Stato del 1961 quando ancora paesaggi monocromi erano in situ e ve le scorro così intanto ecco ve le scorro così così ecco queste sono una due e tre e ve le lascio le lascio anche tutte e tre assieme e se mi mancano il meno e il meno così dovrebbe essere così dovrebbe essere ben centrata sono un disastro queste cose e la lascio ferma su questa successiva perché ecco perché da qua dove vedete i due cerchiorini gialli si vede la continuità insomma del secondo con il terzo fregio perché si ripete il monocromo insomma e cosa dicevo ecco parlandone con alcuni colleghi però mi pare che queste foto fossero un tempo molto tempo fa note presenti nell'archivio della soprintendenza e non è chiaro però poi come mai siano scomparse o per meglio dire forse stessi scomparse semplicemente noi non le abbiamo cercate bene ecco sono tre foto arvizzoni sono marchiate sul retro quindi sono state fatte ad un fotografo centese e sono in bianco in erosione buona risoluzione però purtroppo sono solo vedute complessive di tre pareti ecco non ci sono dei beni zoom sulle singole scene e tuttavia ecco credo che oltre a si può dire soddisfare la curiosità di vederle ecco non tipica di ogni stoico dell'arte che si occupi di queste cose e credo che qualcuno di noi pagherebbe o forse ucciderebbe chi lo sa addirittura per avere anche solo un'immagine degli affreschi di casa Pannini per esempio per un contratto saremmo tutti piuttosto curiosi penso comunque che questi immagini siano utili anche ad alcune considerazioni e innanzitutto direi che grazie ad esse appunto possiamo conoscere l'esatta successione dei paesaggi e dei monocromi che li intervallavano e la cui ricostruzione direi che si è uscita molto bene a Pasquale e a Giulia non avendo appunto sotto mano le immagini e infatti come avete visto basandosi solo sul ragionamento non so se il merito va da Pasquale o Giulia o entrambi insomma sono riusciti a cogliere la corrispondenza tra scene a tema terrestre e a tema acquatico quindi due su un lato e due sulle altre e quello che ha detto lui è tutto il ragionamento questa è ricostruzione eventuale che hanno proposto Pasquale e Giulia la foto d'epoca e poi ho tentato io una molto insomma rudimentale ricostruzione con le foto che abbiamo adesso insomma e non so se farvi vedere faccio vedere anche quell'altra direttamente questo è l'altro muro e sono le due ipotesi che avevano tentato Giulia e Pasquale e come vedete in una delle due ci avevano attaccato alla perfezione e devo dire quindi un applauso perché io non sarei riuscito sicuramente ad avere un'intuizione così fine ecco come invece hanno avuto loro e come vedete appunto come dicevamo la proposta di ricostruzione della parete 1 del muro quello che io ho chiamato muro 1 insomma e del muro 2 muro 3 sono appunto molto insomma molto veritiere ecco ecco oltre a confermare le intuizioni di Pasquale però le fotografie sono utili a conoscere l'assetto del muro 2 quello centrale e oltre che in intervia in diretta visto che non ne abbiamo una fotografia del muro 4 insomma quello che stava davanti alle venute di città del quale appunto non abbiamo immagini insomma innanzitutto possiamo vedere come la sequenza del muro 2 eccola scusate e sì come la sequenza del muro 2 iniziasse con la scena di Enea e di Anchisa in fuga da Troia che appunto non era sulla destra del fregio visto dalla nostra parte ma era sulla sulla sinistra e ecco e per inciso vorrei rilevare come le immagini che abbiamo noi a disposizione quindi la foto in alta risoluzione che vedete qui di sopra sia un pochino deformata in realtà non è un pochino schiacciata ai lati mentre le foto che ho fatto in mostra dimostrano appunto che il monofromo era quadrangolare e la scena di città da veduta era un pochino più allungata appunto e quindi sì quindi c'è stato forse un problema nell'elaborazione dell'immagine insomma appurato ciò ecco possiamo passare ad osservare come il frammento già posto invece tornerei forse devo tornare qui già posto a sinistra scusate mi sono perso prometto già posto a sinistra nella ricostruzione virtuale del muro 2 non sia quello proposto nell'ipotesi ricostruttiva come vedete questa considerazione non si può basare più di tanto sull'immagine visibile della fotografia di zone del muro 2 che dovrebbe essere qua e che vedete è quello che ho cerchiato con il cerchio arancione e che rivela una foto che rivela come il treggio fosse quasi illegibile nella sua parte centro-destra la fotografia però utile e importante perché pur non scorgendosi la scena si riesce invece a leggere tutto un apparato di crepe e ombre che vediamo corrispondere nella nella scena che appunto possediamo quella che vi ho messo a fianco insomma è che Pasquale e Giulia avevano ipotizzato essere sull'altro muro sul quarto muro ecco devo dire non so se anche voi convenite con me penso che ci siano diciamo corrispondenze piuttosto puntuali ecco e quindi appunto di fianco alla ecco siamo tornati qui di fianco alla veduta diciamo che sono che siano e neanchise che fungono da Troia c'era la scena seguente quindi dove probabilmente se era Troia ecco si vedeva l'incendio della città quindi il momento successivo non conosciamo nulla invece del frammento cioè del diciamo del 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 fregio della scena ecco scusate che stava al centro del fregio anche se secondo me non so questa è una considerazione che mi è venuta proprio ieri forse sotto a non lo so della sporcizia o qualcosa potrebbe essere ancora sul muro questa questa scena si vedono due interruzioni qui e si vede il fregio diciamo il la quadratura diciamo la moda natura che prosegue chissà che lì non sia ancora per esempio qualcosa come come è stata diciamo intracciata o meglio come è stata restaurata la scena di Troia in fiamme che nel fregio appunto nella foto d'epoca non si vedeva chissà che di solito non ci sia ancora non ci sia ancora qualcosa insomma comunque ecco ecco qua avevo messo uno zoom in effetti si vede qualche corrispondenza insomma e parete sud-est ossia quelle muro 4 va quindi ora a diciamo a riempirsi della probabile di una delle probabili scene che stava su questo lato io credo che o meglio ho ipotizzato che stesse sulla destra del fregio e non sulla sinistra diciamo non spostata a sinistra perché il diciamo il monocromo come abbiamo visto sull'altro muro comincia la sequenza e la chiude quindi penso probabilmente che vada a posto in quella posizione bene ora che conosciamo le fotografie del ciclo qualche altra considerazione si può fare sullo stato di conservazione di questi frammenti pre e post strappo che tra parentesi sembra già quella attuale pubblica quella che vediamo oggi nelle foto che aveva pubblicato Roli nel suo libro del 68 quindi molto vicino alla data dello strappo se si confrontano le scene non so se devo già passare comunque passo già qui le scene monocle infatti è possibile riscontrare numerose ma piccole diciamo ma direi significative differente che si concentrano soprattutto sui muri 1 e 3 e qua ecco il primo e il dopo e quindi andiamo intanto subito a vedere come il primo monocromo fosse più ampiamente conservato e più conservato e si riesce forse a capire anche cosa illustrasse sembra di vedere una figura che scopre una giovane nude quindi potrebbe essere una venere svelata da un satiro è un'ipotesi e nella prima scena paesaggistica vediamo in realtà funziona quasi tutto corrisponde quasi tutto ecco si vedono solo delle lacune appunto nelle chiome degli alberi e forse anche il cagnolino che adesso è più è nero insomma non è completamente dipinto forse aveva perso qualche 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 cosa insomma sembra un po' semi trasparente in alcuni tratti qui ecco diciamo la seconda scena ecco qua si vede qualcosa di più interessante naturalmente scusate il monocromo con orfeo ridice invece è piuttosto ben conservato e ora com'è allora mentre decisamente danneggiato è invece oggi il monocromo che incomincia la sequenza del secondo del secondo frammento insomma che tanto che oggi è stato giudicato essere cioè si è ipotizzato essere un nudo femminile e invece secondo me guardando il si vede un pochino vero sì mi sembra che sia una figura maschile anche piuttosto muscolosa che punta la clava seduta che punta una clava per perra e che porta il braccio alla testa non so se per abbeverarsi o per semplicemente posare la mano sembra bere ecco quindi l'ipotesi è che possa essere o un ercole con la clava in un momento di riposo oppure un sansone vittorioso che beve dalla mascella dell'asino forse o chissà che non sia addirittura una crasi tra i due personaggi quindi una figura un po' di fantasia un po' tutto può essere e scusate ecco dovevo poi passare qui a farvi vedere appunto il prima e il dopo dopo che ho messo i cerchiettini vedete che anche qui si scormono varie differenze e scusate io devi un goccio d'acqua esatto sì oltre alle solite ecrazioni degli alberi diciamo nelle piove degli alberi sono intanto sparite le rondinelle che c'erano nel cielo ma ma non solo soprattutto sparito l'omino seduto sui rami non so se stava pescando non so cosa stesse facendo rimirava il panorama non c'è più ci siamo chiesti con ci siamo chiesti con con Fabio Berilac appunto cosa possa essere successo abbiamo detto che forse alcune cose erano aggiunte successive che sono state cancellate con un restauro altre invece potrebbero essere state cose che un restauro ha cioè che un restauro ha cancellato per sbaglio chi lo sa anche qui l'angolo vedete nell'angolo in basso a destra ora c'è questa sorta di siepe che va a fare da quinta in un certo modo e invece sopra si vedono le pendici di questo del collo di un collo ecco non lo so e non so se questo fosse un corso d'acqua forse vero non è non si capisce è in bianco e nero quindi si fa fatica a capire c'è la barca c'è la barca ecco ecco non mi ero conto che ci fosse la barca grazie e quindi insomma queste sono differenze sostanziose sostanziali anche direi scusate forse ho sbagliato la parola ecco non so se ho messo l'immagine ma no non l'ho messa perché mi ricordo guardando alcuni disegni del falsario trovate uno o due del falsario del Guercino insomma alcuni disegni di paesaggio ne trovate alcuni molto simili a questi con l'omino seduto sulla riva e queste rive del torrente chissà che il falsario non abbia visto anzi le avrà viste sicuramente probabilmente che non si sia ispirato anche alle scene di Casa Benotti insomma e passerei al terzo muro che ho chiamato muro due ma era il muro tre scusate e anche qui ho fatto il solito giochino come vedete la prima parte il primo monocromo che secondo me ecco potrebbe essere potrebbe raffigurare necessariamente una divinità fluviale che si appoggia quella cerchiata esatto no quella di questa parte cioè questa figura si vede male forse una figura seduta reclinata col braccio su questa potrebbe essere una fonte non lo so ho pensato che potesse essere la divinità fluviale quindi forse è meno chi lo sa ma è tutta fantasia naturalmente mentre appunto il paesaggio la scena di paesaggio paesaggio lacustre il paesaggio acquatico è piuttosto fedele è rimasta è stata poco toccata tant'è che abbiamo parlando con Fabio abbiamo pensato che chissà non siano stati due estrattisti diversi che hanno fatto le estrazioni e quindi che i due i due lati dei muri abbiano subito vicende anche di restauro diverse perché uno non so se avete fatto caso quello di prima è oggi ha delle vedete una pittura molto più uniforme è anche evidentemente restaurato e integrato mentre quell'altro vedete che è piuttosto sbiadito quindi chissà che non siamo stati strappati in due momenti diversi da due persone diverse anche se a distanza è avvicinata nel 61 e comunque anche questa è una suggestione naturalmente una cosa che abbiamo voluto proporre insomma e dicevo ecco invece alcune differenze anche qua no alcune differenze invece si legge molto meglio secondo me il monocromo il secondo monocromo che è stato definito oggi insomma una figura femminile penso che si suicida e che invece non so se riuscite a vedere il mostro marino in questa posizione c'è un pesce che sembra una balena con tanti denti e che quindi ecco potrebbe essere una rappresentazione di Andromeda con il mostro marino o di un'angelica con l'orca sull'isola di Eduda anche se mancano ancora i salvatori di queste due giovani donzelle che erano come si chiamano Perseo in un caso e Ruggero nell'altra che arrivano sul cavallo volante oppure c'erano e erano andati già perduti precedentemente ecco la nuova fotografia appunto forse ecco ecco la nuova fotografia è fondamentale diciamo per avere un'idea almeno di quello che è il terzo monocromo della successione che oggi non ci è pervenuto e che già ce lo mostrano piuttosto malandato all'epoca sì mi sembra di vedere però ecco che lo avevo forse non l'ho messo non l'ho aggiunto mi sembra di scorgere comunque forse fidatevi di me perché non so quanto si possa vedere lì una figura femminile anche in questo caso seduta un tantino abbandonata su un fianco con un braccio proteso forse a suonare in un tamburello e ho le foto un pochino più zoomate mi dispiace non le ho non le ho messe per sbaglio probabilmente ma sì e niente invece come vedete l'altra scena di paese è piuttosto è piuttosto cambiata è piuttosto mutata innanzitutto vedete come la cosa più macroscopica gli alberi che fanno da diciamo sulla sinistra erano due ed erano incrociati e invece oggi sono diventati un unico albero dal tronco anche più esile se ci fate caso e una cosa che invece è probabilmente una liberazione da una dipintura è la riapertura del diciamo dello stagno di quello che è insomma la via di uscita dell'acqua che prima era chiusa in qualche modo ed era scomparsa anche questa figurina di pescatore così come qualcosa è cambiato nella parte destra innanzitutto la chiusa proseguiva ulteriormente e poi starito il palo al quale era legata la barchetta qualche cespuglio e qualche figura che si trovava qui appunto sempre sulla chiusa che appunto oggi non c'è più e quindi niente credo che questo ritrovamento di queste immagini sia una cosa piuttosto interessante se non proprio importante anzi mi verrebbe da dire che sia fondamentale per la conoscenza e lo studio di questo che tra i tre cicli guerciniani centesi superti fino ad oggi è stato meno conosciuto insomma un po' di scurdo che siete una grande copia io non ho ma provo, uno che vuoi ok, uno che vuoi ok, poi va bene ecco, le relazioni le relazioni ora si concludono con la decorazione di Casafagnini, un luogo spizio che terrà Elena Martelli Elena è storica dell'Arte curatrice ai Mangei Civici di Cento e recentemente ha avuto la bravura ma anche la fortuna sfacciata comunque stiamo finendo perché anche lui lo dice adesso l'anno perché la fortuna comunque stiamo finendo con i fuochi artificiali perché vediamo delle fotografie che non avevamo mai visto sia quelle che ci hanno mostrato i tre studiosi che queste che ora ci mostrerà lei ha avuto la fortuna di avere contattato la famiglia veneziana che possiede gli affreschi di Casafagnini che Prisco Bagni cercò con ogni mezzo senza trovarli per il suo libro sugli affreschi che uscì nell'84 e uscì con delle vecchie fotografie in bianco e nero che comunque aveva trovato alla Fondazione Cini e spero che Elena allora ci possa mostrare qualche bel fotocollo che nessuno finora conosce fino ad ora e mi permetto di dedicare questo ultimo intervento a Prisco Bagni grazie 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 sì sì lo spero no vai mi sentite allora si sento allora buonasera a tutti ringrazio subito Valeria Tassinari che mi ha invitato questa sera grazie ringrazio Paolo che mi ha presentato e mi ha anche aiutato in questa ricerca perché mi ha fornito dei suggerimenti allora a differenza di quanto dicevate voi prima su Casa Panini lo diceva Pasquale Stenta mi sembra su Casa Panini di patrimonio di operare e di narrazioni ne abbiamo tantissime anche di lavori più tecnici ma prima di passare a Casa Panini e soprattutto a fare vedere queste foto che Paolo ha già visto peraltro vorrei fare una piccola introduzione perché si collega a un progetto che stiamo facendo e parlerò un attimo consentitemelo di James Locci questo perché il James Locci per gli antichi romani era un nome tutelare era una divinità che custodiva un luogo e dava protezione a tutti gli uomini e donne che in questo luogo abitavano o che lo attraversavano quindi era connotato nella sua duplice valenza di custode e di protettore e anche di sacra di sacro nome adorato e pregato la sua valenza però era e il suo valore di divinità era collegata strettamente alla presenza dell'uomo in quel luogo cioè il nome il James Locci era genio del luogo perché nel luogo abitava l'uomo questo è un significato molto importante e di James Locci negli ultimi 50 anni si è parlato moltissimo a partire dalla teoria architettonica che ha ripreso il significato di James Locci reinterpretando in chiave di carattere del luogo abitato quindi tutti gli elementi sociologici e ambientali che caratterizzano un luogo e ancora più recentemente è la teoria turistica che ha ripreso il tema del James Locci per definire con James Locci tutto quello che è il patrimonio identificativo di un luogo turistico tutto quello che è l'elemento attrattivo verso i turisti e quindi identifica quel luogo già l'architettura ci aveva rivelato che il James Locci l'identità e la caratteristica e il carattere del luogo può essere connaturato a un personaggio che in quel luogo ha abitato o che quel luogo ha reso tale come è ed è chiaro che quando noi parliamo di 100 e pensiamo a James Locci beh è indubbio che il nostro James Locci sia il guercino tant'è che ultimamente in questo ultimo periodo sia la regione miglia romagna che ha capito i servizi che ha trippato nella nostra regione come il comune di Bologna prima Barbara citava appunto la mostra di Bologna e quindi noi ringraziamo tanto anche il viso Pacelli e l'idea quindi che non solo 100 abbia come James Locci il guercino ma che quasi tutta l'Emilia Romagna abbia come elemento che ci include che ci avvicina e che ci connota la presenza artistica del guercino e ciò anche se non lo chiamavano James Locci era chiarissimo ai visitatori che fra 700 e 800 giungevano in Italia a fare il famoso Grand Tour e soprattutto era chiaro a quelli che arrivavano a 100 alle viaggiatrici e ai viaggiatori che dovevano veramente attraversare strade impervi era di poco noi eravamo una patrino era difficilissimo arrivare in carrozza era quasi più facile andare per vie d'acqua ecco le barchette che facevi vedere tu eri con prima e gli approdi dei vari personaggi immortalati negli altri schicchiarelli ma tutti questi personaggi quindi venivano a visitare 100 per respirare l'aria per vedere i paesaggi per vedere l'ambientazione la topografia di un luogo in cui il guercino aveva lavorato aveva abitato a cui si è respirato e a cui aveva restituito tramite l'arte e adesso capite perché fate tutto questo lungo preambolo qual era il luogo che più connotava l'identità centese come identità di un luogo in cui abitava il guercino in cui il guercino aveva lavorato Casapanini perché tutti i viaggiatori che raggiungevano e che qua dormivano all'albergo della posta trovavano delle guide turistiche con la descrizione degli affresti di Casapanini che allora erano ancora affresti attaccati ai muri tant'è che molti viaggiatori chiamavano Casapanini che allora era casa chiara di Panini in 800 la casa del guercino cioè si sbagliavano raccontavano come hanno incontrato questo conte gentilissimo educatissimo che gli aveva fatto vedere la casa del guercino ma perché a chi entrava in questa casa e vedeva gli affreschi che rappresentavano le campagne di 100 la città di 100 questi elementi così vicini al territorio e identificativi del territorio non poteva che apparire come la casa dove un pittore un artista aveva raccontato se stesso e il proprio ambiente ed è per questo che ho iniziato con un paesaggio la foto di Emanuele Boccafoli lo voglio ringraziare perché gliel'ho rubata ma a casa di Panini è questa è quello che noi oggi chiamiamo via del guercino chiaramente dedicata a lui il fronte strada che vedete è questo bellissimo palazzo nobiliare che ha origini quattrocentesche col cuore tipo traverato in legno le finestre ogivali in realtà come da studi precedenti l'ha visto anche Fausto non è questa la questa più bella anche più appariscente sulla strada su fronte strada quella che era interessata alle fresche di casa del guercilo bensì la parte interna quella fra i due quartili quindi che non la facciava su nessuna strada né frontale né laterale ma che appunto era collegata su fronte strada da un primo giardino un aldrone si entrava poi c'era un secondo giardino dietro e quindi c'erano anche stanze affrescate mi ricorrevo di nuovo ai tre studiuti che ho parlato prima di me quando si va a cercare a capire dove erano allocati gli affreschi proprio bene lì presumibilmente c'era una stanca che era il vestibolo delle cacce che correva da una parte all'altra delle stagne e affacciava su tutti i due giardini l'hanno già fatta vedere questa foto ma la faccio vedere anch'io che è il 1615 l'anno in cui il conte Bartolomeo Pannini invita Battistelli che era un imprenditore nonché quadraturista e pittore di architettura di grande fama all'epoca tant'è che è citato anche dal Malvasia e questo Battistelli come impresario invita a lavorare con lui nella decorazione di casa Pannini due pittori importantissimi che erano Lorenzo Gennari e il Guercino due pittori importantissimi Lorenzo Gennari è importante perché la bottega pittore che era sua come ci ha spiegato come ci ha fatto intendere benissimo Raffaella Morselli nei suoi ultimi libri quello che ha citato Guerino Fausto ma anche il saggio che è presente nel nostro catalogo e visto che la figura di Lorenzo è stata molto ricostruita in questi ultimi anni Enrico Gettito qua davanti anche dal Natale insomma ci sono stati molti studiosi che hanno riconosciuto il fatto che di Lorenzo sappiamo ben poco e abbiamo ben poco e molto presumibilmente ecco mi rifaccio di nuovo a Getti alla Morselli presumibilmente aveva quasi più che altro un ruolo di supervisore di proprietario diciamo così della bottega che dirigeva la bottega gli aiuti gli allievi i pagamenti eccetera quindi aveva forse un valore e un ruolo più registrico diciamo così chi era il grande talento della bottega chiaramente il guercino ed è lui che realizza praticamente tutti gli affreschi di Casapanini aiutato dagli aiutanti di bottega e che lascia nel piano nobile del palazzo la data su questo punto di spalle 1615 peraltro lo stesso Malvasia ci raccontava che gli affreschi di Casapanini inizierano nel 15 un altro storico dicendo perché ricordavo prima gli affreschi di Casapanini sono citati frequentissimamente un altro storico centese che si chiama Righetti Dondini ci racconta che gli affreschi iniziarono dal piano nobile poi finire al piano terra al piano nobile il guercino realizzò una stanza molto grande molto bella che ho citato prima il vestibolo delle cacce poi realizzò altre stanze dedicate alle storie di Ulisse alle storie di Rinaldo Armida ai paesaggi e c'era addirittura una stanza dedicata alla musica che oggi non abbiamo più seguiva si scendeva dicendo scendendo comunque in questo caso noi eravamo piano nobile si scendeva al piano terra passando attraverso le scale dove sulle volte erano decorate un apollo e un aviano su carro e al piano terra c'era la cucina frescata e quattro stanza dedicate alle stagioni Rosa Pannini però mostrò da subito dei da subito o il resto dei problemi di conservazione perché Cento è un luogo piuttosto molto umido purtroppo la fresco forse non è che viva benissimo e quindi già alla fine dell'Ottocento all'inizio scusate dell'Ottocento quando i proprietari si chiamavano Chiarelli Pannini perché nel 1699 l'ultima Pannini che si chiamava Margherita figlia non c'era più una linea successoria maschile sposò il conte Chiarelli quindi la casa passa di proprietà questa nuova famiglia Chiarelli Pannini e il conte Bartolomeo Chiarelli Pannini all'inizio dell'Ottocento chiese a Antonio Baccolati che era un restauratore famoso di fare una valutazione degli affreschi della casa e già in questa sua valutazione mi sottolinea come ci fossero tante cadute e perdite all'interno degli affreschi in ogni modo fu nel 1840 quando un homo nobos della Borghesia centese Cesare Diacchi non era neanche centese veniva dal sud ma evidentemente era ricchissimo perché riuscì a sposare Elisa figlia dei conti Camerini quindi riesce ad imparentarsi con la novità locale sicuramente ricchissimo lo troviamo negli annali che all'interno delle magistrature cittadine quindi ha un potere politico effettivo all'interno della città di Cento compra casa Chiarelli Pannini che chiaramente aveva un grande valore di prestigio era un po' un stato simbolo se vogliamo e decide subito di mettere in salvo gli affreschi e quindi nel 1840 anno proprio di acquisto della casa decide di far trappare gli affreschi e qui abbiamo un solo estrattista decide di far strappare gli affreschi l'estrattista si chiama Lizzoli ed è di Piedicento ed era piuttosto celebra all'epoca e di farli tutti strappare di farli restaurare Aguzzardi di Bologna e di far raccontare tutta questa operazione da Don Filippo Alvieri che era un amico un suo amico e che racconta in quello che si chiama processo verbale gli stafoli degli affreschi racconta tutta questa operazione narrando la posizione degli affreschi e citando quanti sopravvivono a questi stafoli perché oltre a quelli rovinati forse qualcosa era visto anche restaurato in precedenza oltre a quelli già rovinati nel distacco si perde qualcosa dovete immaginare che tutta la decorazione di casa Pannini era un bellissimo pregio la bolognese appunto insomma molto simile a quello che si vedeva nei palazzi non so un palazzo fa per cui una decorazione continua sotto sul soffitto fatta di pannelli principali se vogliamo ma intervallati da altri minori che molto spesso proseguono sul soffitto quindi tutto un gioco di quadrature di collegamenti che il momento in cui cerchi di dare priorità ai quadri principali è facile che possa il quadro secondario o il pannello di collegamento cadere e perdersi per esempio il punto di spalle che abbiamo visto all'inizio con la data di tutta la sala decorativa che è piena di tutti ne rimangono due quello con la data e un altro che abbiamo in piena coteca nella sala rosa e quindi Don Filippo Alvieri ci racconta tutto questo distacco che cosa sopravvive eccetera però Cesare Diana non è ancora scusate Francesco Diana Francesco Diana non è ancora soddisfatto nel 41 l'anno subito successivo fa fare un'altra descrizione delle sue pitture con una sorta di conferma della bontà del lavoro dell'istrattista e della bontà del lavoro di restauro dall'Accademia di Bologna passeranno ancora altri anni siamo in 56 e di nuovo Francesco Diana chiede un altro processo verbale sottoscritto in questo caso dal compaloniere di Centro cioè vuole anche il placico del comune in cui ciascuno degli affreschi staccati viene stampato nel retro con due ceralacche rosse una del comune di Centro e una della famiglia Diana e poi viene apposto un numero che fa riferimento al numero presente in questo processo verbale del 56 noi per esempio in Pinacoteca adesso abbiamo alcune teste abbiamo guardato in rete ci sono entrambe i due sigili di Ceralac che è anche il numero di questo processo verbale perché era così impegnato il nostro Francesco Diana e così assillato da chiedere continuamente conferme della veridicità e dell'autenticità di questi affreschi staccati presumibilmente perché li voleva vendere Lorenzini in un suo testo ha citato e ha riportato la lettera una lettera scritta per volontà appunto di Francesco Diana ha diudato malattesa con un altro autore che abbiamo in Pinacoteca affinché facesse voce al duca di Modena chiedesse insomma se ci fosse un interesse ad acquistare questi affreschi quindi c'era una volontà di vendita ma purtroppo Cesare Diana non ce la fa e muore ed è qui scusate che iniziano i nostri studi cioè come è andato diviso questo patrimonio di affreschi staccati e dove sono andati a finire e allora adesso possiamo dirgli con sicurezza che questo grande ciclo di affreschi staccati è stato suddiviso tra due figlie Giuseppino Giuseppa e Maria Diana le quali sposarono due nuovi uomini di locali insomma una famiglia di cento ferrari diciamo che sono i filipenti scusate che hanno anche il monumento funebre di Galletti nel nostro cimitero e la famiglia Masolini Imola e allora ancora una volta lo sottolineo perché ieri abbiamo celebrato la giornata sulle donne quindi sono di nuovo è nel caso di Casa Panini lo voglio dire è sempre e quasi sempre una successione in linea femminile cioè se noi oggi li abbiamo ancora tutti sono state le donne all'interno delle famiglie che se li sono portati in eredità e li hanno lasciati allora la famiglia Masolini scusatemi la figlia del conte Giacomo Masolini perché anche lì non c'è una linea maschile sposa Pio Rosselli del Turco e alla morte di Pio Rosselli del Turco Elisa Masolini mora e prima alla morte di Pio Rosselli del Turco noi abbiamo intorno 53 affreschi che sono quelli che oggi abbiamo in Pina Colteca 50 farsi 53 c'è sto uno qui un po' mancato invece tutti i frecci e i filipetti tutte le decorazioni filipetti finiscono in mano alla vedova Carlo filipetti che li lasciano eredità ai suoi parenti ed è lì in casa di questi parenti di questa famiglia che li ho trovati in due case insomma in Veneto allora li ho chiesti di casa Pio Rosselli parto dal Piano Nobile c'era una sala velocemente c'era la cosiddetta sala grande o sala delle storie di Renato Armida dove il fregio del Camino fu decorato con una vittoria i fregi erano interpretati da questi vasi ve ne ho fatto vedere uno vasi di questo tipo ne rimangono ancora nella casa degli eredi filipetti e le storie dell'Odissea le storie di Udisse ho scelto in questo caso di rappresentarvene una che è quella della Maga Circe perché forse dimostra la maggiore vicinanza di questo ciclo li ha presi con quelli precedenti quelli di casa Proventali tanto in questi ti chiedo di stringere un pochissimo sì tanto nelle figure allungate quanto nel paesaggio 90 allora vado velocemente scusate dico che sono stata redarguita da Fausto velocemente la sala delle cacce ci tengo a dire una cosa qui il guercino nel suo amore per il paesaggio che viene immortalato eccetera si rifà alle cacce di Antonio Tempesta il pittore e incisore romano che lavorò a Roma ecco noi oggi possiamo studiare gli attresi delle cacce del guercino a confronto con le cacce di Antonio Tempesta grata una donazione di due amici centesi San Alberto Albergili che hanno legalato alcuni mesi fa alla Pinacoteca Civica un album delle incisioni di Antonio Tempesta alle cacce ancora avanti avevamo al Piano Nobile la stanza dei paesaggi sul sopracamino la fuga di Enela Troia e questi bellissimi paesaggi di cui una parte è confluita per eredità masolini del Turco nella Pinacoteca e una parte qua sono finiti sul mercato antiquario oggi sono una collezione privata milanese e qua ringrazio Papo anche se mi sgridano ogni tanto ringrazio Papo che mi ha segnalato questa presenza poi ecco questo mi spendo un attimo qua Camera dei Cavalli allora Casa Panini Santo dei Cavalli va segue la linea ereditaria dei Ponti Masolini quindi di Elisa sottolineo si chiamava la nonna e cosa fanno loro hanno hanno anche un'idea abbastanza intelligente e decidono di ricreare la stanza dei Cavalli all'interno vedono Stato di Bologna Palazzo di Rosario del Turco che ancora oggi esiste e sede delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù che ringrazio vivamente perché mi hanno permesso di vedere la sala particolarmente su Alpina e decidono di ricostruire la stanza attaccando gli alfreschi alle pareti intervallandole con quelle figurine che venivano erano figure minore di un'altra sala quella dei Cavalli e poi sotto vedete Kurt che si sta lanciando una voragine loro avevano avevano sei cavalli ma ti rimanano qualche forma avevano sei cavalli avevano sei cavalli decidono sulle pareti di metterne solo sei e quindi rimane fuori la rossa che vedete e grazie al fatto che non è andata attaccata alle pareti della loro casa è stata donata la Pina Coteca quindi noi ne abbiamo oggi come staccato all'interno nella sala che dopo vedete il canto perché nello spazio dove andava la porta loro lasciano una bella epigrafe che racconta questa loro opera di Elisa e di Pio di voler ricordare il parente la Francesco Diana che aveva salvato gli affreschi del cuercino dalla caduta dalla distruzione e loro in omaggio ricreavano questa sala poi abbiamo la stanza di Venere allora accendo una cosa i disegni preparatori per gli affreschi di Casapanini sono praticamente inesistenti nel senso che ce ne sono pochissimi due legati a Venere la famora è questo che vi propongo qua insomma è un altro e poi dopo ne faccio vedere un altro e sono pochissime anche se in realtà il mondo del paesaggio di Casapanini è si intravede ed è suggerito in tutti e in tantissimi dei disegni del cuercino che Fausto e che Pulini hanno e Pulini hanno studiato hanno pubblicato e ci hanno fatto vedere quindi il sentimento di questo luogo di questi paesaggi c'è attraverso i disegni e lo ritroviamo qua fra le storie di Rinaldo Armida e quindi le battaglie anche questo anche questo un ciclo di affreschi quello di Rinaldo Armida è quello che si avvicina a livello stilistico in serie agli affreschi in casa Proventali sicuramente io credo che forse il cuercino avessi iniziato da queste due stanze perché sono proprio quelli più vicini io però vi ho voluto far vedere brevemente una scena che a me piace moltissimo che è il suicidio non riesco a capire che cosa ci faccia in questa sala né prima di me non hanno capito altri studiosi perché il tentato suicidio di Armida c'è nella scena questo che è un reale suicidio che arriva alla fine e che è considerato anche un precedente del suicidio di Lidone non ha spiegazione all'interno di questa decorazione ma è un bellissimo esempio di infilate prospettiche di sparte che si aprono di figure che interagiscono fra di voi che cercano di fermarsi che a me piace molto e che poi si va un po' vicino a tutta la cultura di tela del suicidio scusate allora la stanza della musica venere calta amore si venere calta amore sopra canino dicevo e qui è l'unico è uno degli unici due casi in cui io ho trovato no non io prima di me ho trovato disegni due disegni venere calta amore peraltro fu rivisitata dal voicino per come virtù diciamo togliendo appunto il marte che vedete in chiave quindi cristiana in un po' grete che adesso è stato attribuito all'uomo all'accolo voce al posto in fase di ostacolo no? si l'originale si 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 scusa ma certo si non l'abbiamo qua e poi c'era e qua vedete uno spartito al piano nobile la stanza della musica la cito la stanza della musica peraltro studiata da Anna Valentini era una stanza che purtroppo andò perduta prima del distacco ma abbiamo avuto la fortuna che al garò so per cento visitò gli affreschi di casa Pannini visitò per esempio la sala dei cavalli e diceva questa la chiamano la stalla sulla sala della musica pagò un suo aggetto affinché ricopiasse tutti gli spartiti che erano presente per farne omaggio a padre Martini e ancora oggi sono nella biblioteca il museo della musica di Bologna dedicata appunto a Martini e li abbiamo anche esposti recendibili in un concerto all'interno della mostra che abbiamo fatto alcuni anni fa sulla volta delle scale ecco qui il mio grande ramare con gli affreschi nessuno li ha ancora trovati abbiamo queste due fotografie bianco e nero della collezione Cini ma in realtà non abbiamo notizia di dove siano finiti esiste un disegno collegato in qualche modo alla viana e lo vedete piccolino l'Apollo sembra fino ad oggi si riteneva di mano di Lorenzo Genari ma ribadisco gli studi insomma recenti di Ghetti di Natale hanno dimostrato che lo refugionare non avesse delle caratteristiche disegnative più d'ore che di tale livello da me che potesse essere fatto questo affresco finalmente arrivo alle stagioni che vi presento brevemente perché noi abbiamo come comune di Centro l'Ufficio Cultura quindi ringrazio Lorenzini e Duntini come archivio storico ringrazio Maria Teresa Alberti con l'Ufficio Cultura e tu pure che mi ringrazio tutte le mie colleghe stiamo studiando un progetto di ricostruzione di tutto il ciclo di Casa Pannini sia a livello letterario che a livello di ricostruzione di come era 100 nel 600 partendo proprio da questi affreschi e che cosa ci lascia Guercino il racconto delle nostre campagne vi ho fatto vedere qualche pensaggio ma soprattutto del nostro centro storico e finalmente le possiamo vedere a colori ma ripeto saranno oggetto di ulteriori studi e pubblicazioni quindi questo è un piccolo assaggio ci raccontava il palio di 100 questa è la strada della primavera quindi il palio di 100 si correva a giugno insomma per cui ci racconta i cavalli la corsa a piedi per il palio il passaggio nella porta cittadina riusciamo a vedere i rampari sotto vedete il gioco del pallone e vediamo il palazzo del governatore che fa da sfondo lascio in alto un ragazzino che sale proprio sul tetto per lanciare la palla ai contendenti che erano sulla piazza questa è la strada l'estate la vedete dopo casa panini la possediamo e quindi l'abbiamo in posto tra l'assanto ecco qua vi ne faccio vedere due bellissime che io adoro adoro allora intanto quello più in alto è inedito perché questo proprio non lo conoscevamo era presente siamo nella sala dell'autunno e è una commissione degliamenti stupendi di colori tipici di queste appresti del guercino dove il paesaggio si avre sullo sfondo dove è un degradare di piani fino alla casucola davanti alla quale c'è un cagnolino mi ricollego di nuovo agli studiosi che hanno parlato prima di me che hanno fatto vedere casa Benotti dove appunto c'erano questo cagnolino e il cacciatore abbiamo sulla destra due personaggi insomma che stanno pigiando l'uva c'è un'immagine molto bella della raccolta dell'uva sull'albero e qui vediamo la tipologia della cosiddetta piantata padana cioè non c'erano i filari di vite solitari ma erano sempre appoggiati o per così dire maritati ad altri alberi tipo l'olmo la quercia per cui si parlava di vite maritata poi abbiamo in primo piano la castellata il caro castellata che finalmente ho capito dopo anni e anni in cui studiato quando il golcino andò a Bologna a Bologna a Bologna a Bologna a Bologna il papà gli doveva pagare la predistata con una somma di grano e una castellata di uva o di mosto e io non avevo chiara l'idea di questa castellata finalmente vediamo la divisione di una castellata che è questo carro che contiene o l'uva o il mosto o anche il vino e poi dicevo torniamo al mondo appunto che degrada verso la piazza con il cagnolino un'altra scena che per me è spettacolare è il racconto della città di Cento piatto di Cento ed è meraviglioso perché intanto vediamo finalmente il palazzo del municipio con le virtù che almeno una scusate una delle quattro virtù che il guercino nel 1613 ci affrescò sulla facciata del palazzo e che ci viene ricordato da diversi autori tra cui Malvasia come esempio molto bello che attirava visitatori anche da Bologna per venire a vedere la bravura del guercino appunto nella rinforzazione di queste virtù poi vediamo la caratteristica urbanistica di Cesca quella mutuata da Bologna dei porti quindi dell'infilata prospettica del canocchiale dello sfondo con un elemento narrativo interessantissimo di questi ragazzini che vanno a rubare i meloni dei vuoi molto belli che si trovano in alto in casa Pannini un altro dei cosiddetti atti ci racconta bellissimo questi soggetti lo chiama il bifolco che va a seguire e atterra uno dei ragazzi che cercava di rubare il melone e dietro i birri armati che stanno arrivando poi ci sono figure anche un po' turbanti in qualche caso c'è una figura che si sta infilando in questa casa sulla sinistra insomma un po' misteriosa altrettanto misteriosa questa figura all'ombra del portico con un'arma forse un articolo giù qualcosa sotto e in fondo una scena molto vicina alla fiera sul reno vecchio la cito perché insomma prima abbiamo avuto anche Pulini quindi credo che si avvicini all'animo al senso che c'era all'interno della fiera del reno vecchio con tutti questi personaggi il venditore di veleno per top eccetera perché c'è un salto in banco che sta parlando alla polla che lo ascolta ammirata e sta provando tutti i personaggi allora qui faccio vedere due slide velocissimi con l'inverno e nell'inverno finalmente e per noi è stata una gioia enorme vediamo come era raffigurata all'epoca del Vigoricino il Carnevale noi come Carnevale di Cento siamo stati riconosciuti come Carnevale storico tanto dalla regione Emilia Romana quanto dal Ministero della Cultura e uno degli eventi fondanti di questo riconoscimento è stata per noi sempre la citazione e anche l'invio delle foto in bianco e nero comunque la citazione della presenza del Carnevale di Cento attraverso questi affreschi da quest'anno possiamo mandare al Ministero le foto a colori e abbiamo nella prima foto il Berlingaggio che è la festa che si celebrava all'interno del palazzo comunale dove si ballava e si diceva in occasione giovedì del rasso si dava da mangiare anche alla popolazione più povera tant'è che si dice che probabilmente il lancio dei premi a centro famoso gettico gettico nasce da questa tradizione di voler dare da mangiare gettare da mangiare tutti poi la scena più bella è sicuramente le maschere si vede benissimo al centro un arlecchino che ballano e che si divertono all'interno di Piazza Guercino si vede di nuovo benissimo nuovamente il palazzo del governatore che è una delle due quinte perché l'altra è il palazzo del municipio cioè queste figure che si arrampicano insomma è un tema raccontato in maniera molto animata c'è la presenza in queste attrezze di Casa Panini che riguardano centro la volontà anche di raccontare un po' l'aneddoto la storia cioè si sente che c'è una vicinata al di là che ci sia l'autografia del Guercino dei suoi allievi la vicinata al tema al vissuto della città e dei suoi festeggiamenti e in fondo durante il carnevale si correvano delle giostre e avete questa infilata nuovamente bellissima in fondo si vede la rocca e anche questa carotte eccetera ma concludo veramente no non è il palio questa è la giostre che si correva per il carnevale in palio era nella stanza della primavera dove si vedevano le persone a piedi sul carvalo poi in fondo si vedeva anche del sangue in palio adesso la persona un po' amava ecco concludo siamo ancora nell'estrante dell'inverno con i pattinatori sul ghiaccio vicino alla rocca si vede di nuovo il ramparo la rocca eccetera i giochi le palle di neve davanti alla chiesa di San Biascio che noi non abbiamo più perché adesso noi abbiamo la nostra bellissima chiesa di San Biascio e quella del Torreggiano ma si vede la chiesa precedente quella nata nel 300 il cimitero e questa struttura che era precedente alla costruzione del monte di Pietà e quindi precedente al luogo in cui siamo ora la cinica a Pinacoteo e un po' anche da Torre come si un po' di un altro campanale Sì la prescrizione termina nel 17 e in fondo c'è questo episodio particolarmente bello di ingresso dei buoi all'interno di questa nuovamente porta cittadina di Cento con la fatica di questo trasportare anche la la slitta diciamo sotto sotto il carro e di questi personaggi che faticano scusate scusate l'ultima un'altra che è giornata di pioggia che è stupenda già prima di me l'avevano naturalmente collegata con l'incisione che decora il frontespizio dell'osperia del maltempo di padre Antonio Mirandolo prima di me insomma se ne è parlato di questo grande mentore mecenata del quercino promotore della sua arte forse anche suggeritore in alcuni casi a livello iconografico e io la cito anche qui perché ritengo che il fatto che padre Antonio Mirandola avesse scelto di far incidere da curti il frontespizio del proprio libro al cui interno c'è una dedica al guercino maestro dei pittori eccetera è la prova secondo me che l'affresco che vediamo quella da cui è tratta sia l'autografo del guercino anche perché padre Antonio Mirandolo ha scelto in altre due pubblicazioni di avere come frontespizio un'incisione tratta appunto da due disegni di quercino in basso e ho finito avete l'idea che cosa fossero gli erofreschi di casa famiglia prima del distacco e del distacco questo è un lacetto piccolissimo che si che cioè un affresco staccato che veniva da un lacetto nel senso che all'interno della sala dell'inverno è questo che l'ho collocata qua c'era una sala dedicata scusate un affresco che raffigurava una cucina dove c'era un girarrosto quello che voi vedete ma è mostra questo dopo ve lo possiamo far vedere è un servitore con un girarrosto si diceva anche che questa cucina era abitata cioè ce lo racconta l'acchi insomma era abitata dai due signori della famiglia famigli insomma e in ogni caso qui abbiamo veramente uno stacco dove nessuno ha toccato minimamente nulla e quindi probabilmente è l'unico elemento su cui si potranno in futuro fare degli studi stilistici insomma e delle analisi diagnostiche definitive grazie a tutti venivano a fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per tutto ma doverosamente a conclusione di questa giornata che ha visto impegnato tante persone a dare vita a Tarsinari che è la referente della segreteria del centro studi e dalla sua nascita e quindi che ha garantito diciamo la continuità tra i due momenti che ha coordinato la non semplice gestione dei flussi dei tempi e dell'organizzazione di questo che per noi è il debutto è la nuova sede come sapete poi un pensiero a chi dell'ufficio cultura è curato da Eleonora Colliva che mi sta aiutando per la costituzione della nuova biblioteca che già oggi si sta arricchendo di nuovi volumi e qualcosa mi dice che ancora uno ne sta arrivando e a Valentina Revecchi che si occupa della grafica e ai rupignoli che si occupa della comunicazione naturalmente anche a voi che avete veramente partecipato a questa maratona in maniera disciplinatissima e partecipe Elena ci ha regalato un'emozione finale perché noi questo viaggio nella nostra cento l'abbiamo fatta tante volte ma attraverso delle immagini in bianco e nero che non avevano naturalmente il sapore e l'evidenza di questa proiezione e siamo partiti dicendo quanto era importante che si è affinato il 30% e siamo tornati nell'accento del 600 che ci piace vedere quasi come una città ottocentesca sembrava quasi una pittura dell'ottocento questa che racconta una quotidianità che proprio per il suo essere semplice con gli occhi di oggi è eccezionale grazie a tutti per chi lo desidera ne ha la forza il tempo la voglia anche solo per un quarto d'ora c'è la possibilità di vedere alcuni di questi affreschi dal zero e ci accompagneranno Elena Bastelli e Lorenzini per tutti gli altri credo non vi mancheranno altre occasioni di incontrarci grazie ancora a tutti e l'abbiamo a tutti e l'abbiamo a tutti